Grazie. A professore Matteo Lorito, rettore delle Università di Napoli, Federico II. Buongiorno, buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. È un piacere, è un onore essere qui oggi a dare i saluti a questa riunione dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti. Io ci tenevo a essere qui stamattina anche per dare un segno tangibile di quanto l'Ateneo sia, come dire, interessato a questo tema che per noi rappresenta anche una componente importante della nostra scienza giuridica, dal nostro divartimento di giurisprudenza e insomma è un tema sul quale la Federico II, per ben sapete, ha una lunga storia, anche una storia importante. Io ringrazio e saluto il Presidente dell'Associazione, il Professor Silvestri e naturalmente il collega direttore del Dipartimento, Sandro Stajano che insomma devo ringraziare per aver voluto portare qui a Napoli questa riunione. Anch'io sono Presidente della mia associazione scientifica e devo dire che non è facile poi in queste associazioni tenerle insieme. Mi sembra di capire che l'unità, ne va la prima con Sandro, è una delle vostre forze e lo si sente anche dallo spirito di questo consesso stamattina. Volevo anche congratularmi per l'intelligenza, l'interesse, diciamo, del programma che vedo qui in cui la scienza costituzionalistica si confronta con, vedo, dalle transizioni storiche alla democrazia, all'economia, l'etica e addirittura l'arte. Quindi devo dire un convegno veramente interessante. Io concludo rapidamente, voglio prendere tempo perché avete una mattinata importante. Sicuramente posso dirvi che insomma la nostra percezione al momento e ne abbiamo bisogno assolutamente, lo dico come università, lo dico come cittadino, diciamo, della vostra scienza e della vostra ricerca. Perché è un momento complicato, un momento anche esaltante, è un momento complicato, ne abbiamo bisogno di strumenti che tengano insieme le nostre comunità in una stagione di grandi opportunità ma anche di grande complessità. La stagione è tanto per capirci dei partiti dei sì e soprattutto quella dei partiti dei no. Insomma ci creano anche qui, una volta, ieri avevamo in corso una manifestazione proprio qui davanti a questi cancelli, ci creano anche delle difficoltà. insomma un modo per trovare, abbiamo bisogno di strumenti per mantenere il corretto equilibrio tra diritti e doveri e quindi credo che voi siate, come dire, in prima linea da questo punto di vista. D'altronde siamo in un contesto oggi di grande accelerazione, sia dell'economia, sia delle trasformazioni sociali e quando ci sono grandi frenate, seguite da grandi accelerazioni, c'è bisogno di guide chiare, indicazioni chiare di quali sono i capisaldi del nostro vivere civile. Quindi io credo che la situazione come la vostra per noi e ovviamente per il Paese siano assolutamente di fondamentale importanza. Io non vado oltre, quindi vi ringrazio veramente per essere tutti qui a Napoli. Non siamo riusciti ad organizzare un tempo migliore, diciamo, però, come dire, la promessa è che la cosa, insomma, speriamo che la cosa migliorerà domani. Il professore Stajano ha grandi capacità, contiamo anche sulla sua ingerenza per l'ALT, però sicuramente, sono sicuro dal punto di vista dell'accoglienza, diciamo, dopo i lavori sarà all'altezza della sua fama. Ovviamente so che siete anche impegnati in un'elezione, io faccio gli auguri a un candidato in particolare, non ne faccio il nome per ovvi motivi di opportunità, però, diciamo, noi ci aspettiamo un risultato importante anche da questa fase, dalla vostra vita. Quindi grazie per essere qui e buon lavoro a tutti. Grazie a Matteo Norito per la sua presenza, per il suo intervento qua e per l'affettosa prossimità, mi permetto di dire. Per quanto riguarda il tempo, ci stiamo lavorando, siamo in trattativa, e vediamo se nel pomeriggio riusciamo a ottenere qualche risultato. Vi farò, li vedremo, li vedremo. Io sono felicissimo del fatto che il convegno annuale dei costituzionalisti, dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti, sia ospitato quest'anno a Napoli, peraltro in una fase nella quale ferve la preparazione delle celebrazioni degli 800 anni della nostra Federico II, che cadranno nel 2024. Quindi c'è una coincidenza fortunatissima per il fatto che questa è la nostra prima occasione dopo la segregazione che abbiamo dovuto subire per un incontro in presenza su questi temi, che questo avvenga a Napoli, mentre si discute e si lavora per questa celebrazione, la quale poi rivela che la Federico II nasce come sedile giuridico. e nasce come una sede di studi di diritto che pongono, la nostra è la più antica università laica, statale, qualunque cosa volesse dire stato allora, naturalmente, per carità, ma è una sede che nasce intorno a questi studi che pone alcuni temi che sono ridiventati attualissimi, come quello del rapporto fra gli studi giuridici e l'organizzazione dello Stato. Quindi siamo in un quadro in cui la tradizione storica veramente preme su di noi nella sua attualità. e questa fula si potrebbe anche cogliere l'occasione per ammettere come soci onorari fra di noi, Pier delle Vigne e Taddeo da Sessa, i quali campani sostennero gli studi fridiericiani. E magari potremmo chiedere la mediazione per questa immissione al Divino Dante Alighieri e magari se lo trovassimo in un periodo di buon umore ci potrebbe fare da mediatore, anche Beniamino Caravita di Toritto. che adesso in quel contesto si trova ad operare non sappiamo in quali forme e che ci ha lasciato appunto di recente in una maniera così drammatica e che a sua volta era napoletano come il cognome rivela di origini, anche se era romanissimo evidentemente per comportamenti e per collocazione poi. per collocazione. Ebbene, quindi io ribadisco questa idea, questa felicità e voglio di nuovo esprimerla per lo svolgimento qui di questo nostro incontro. Siamo in un interludio da un certo punto di vista in cui ancora stiamo uscendo da una situazione difficile e guardiamo con speranza al futuro immediato. E credo anche che quel riferimento che ha fatto che ha fatto Matteo Lorito, il quale senza conoscerci a fondo ma soltanto guardandoci insieme stamattina ha un po' dato il senso di questo sentimento che ci sta accomunando di unità negli intenti di fondo e anche direi di speranza di riuscire a guardare al futuro con maggiore serenità. Bene, vi ringrazio quindi di essere tutti quanti qui, vi ringrazio di avere consentito a Napoli questa iniziativa e a questo punto auguro a tutti noi un buon lavoro in queste giornate. grazie cari amici e colleghi buongiorno a tutti il nostro trentacinquesimo convegno annuale si apre quest'anno con due note una di soddisfazione e di ottimismo e un'altra nota invece di tristezza. La soddisfazione e l'ottimismo nascono dal fatto che finalmente riusciamo a fare un convegno in presenza dopo un'interruzione anche troppo lunga nella quale però non siamo rimasti con le mani in mano come avrò modo di dettagliare nell'assemblea dei soci per le attività numerose e variegate che in questi anni l'associazione ha intrapreso. la nota triste è come ricordava Sandro Staiano la scomparsa recentissima del vicepresidente dell'associazione professor Beniamino Caravita di Toritto noi vedevamo negli ultimi tempi la sua sofferenza lo vedevamo soccombere sotto gli assalti del male che lo aveva colpito ma vedevamo pure la sua reazione non una reazione di rassegnata disperazione ma una reazione vitale una reazione attiva una capacità di lavorare fino all'ultimo momento fino a quando quelli che erano presenti ha svolto una sua lucida relazione all'università di Roma alla Sapienza sull'autonomia universitaria certamente credo che il fatto di avergli dato questo incarico scusate a volte la commozione genera brutti scherzi è stato dovuto al riconoscimento della sua capacità della sua perfetta perfetta padronanza come ha dimostrato poi appunto nei fatti e anche alla consapevolezza che avevamo tutti noi che forse era una delle ultime occasioni di poterlo sentire in un'occasione pubblica chi non ha capito questo non ha capito niente ma pazienza ci sono quelli che non capiscono niente e li dobbiamo pure dobbiamo sopportare pure loro quindi questa nota di tristezza che non ci deve far dimenticare appunto invece la gioia di ritrovarci per la prima volta insieme io la vorrei sottolineare non soltanto per il caro collega Beniamino Caravita ma anche per i colleghi che sono scomparsi validissimi colleghi che sono scomparsi in queste tre anni che vado a elencare mettendoli in rigoroso ordine alfabetico perché non mi sembra il caso di fare graduazioni di altro genere Paolo Carrozza Jörg Luther Stefano Maria Cicconetti Giuseppe Guarino Pierfrancesco Grossi Gianni Ferrara e Stefano Merlini ancora molto recentemente in memoria di questi validissimi colleghi propongo quindi un minuto di silenzio e di raccoglimento grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie. Grazie a tutti. 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 Il convegno, come vedrete, sarà in modalità mista. La maggioranza dei relatori sarà in presenza e svolgerà la propria relazione in presenza, ma alcuni, per motivi di salute o per altri impedimenti, parleranno in teleconferenza. Ivi compresa la relazione conclusiva che è affidata al maestro del diritto costituzionale, il professor Franco Modugno, che ha accettato, però preferisce parlare da remoto a conclusione del convegno. Quindi io auguro a tutti buon lavoro, spero che la nostra associazione sorta tanti e tanti anni fa. Io sono abbastanza vecchio da ricordare di aver partecipato alla riunione fondativa. Ecco, ce n'è un altro, c'è Giuseppe De Vergottini, che c'era quel giorno alla Sapienza quando fondammo l'associazione. Ancora è qua, viva e vegeta, e io spero che lo sia ancora per molti anni. Io e gli altri colleghi che ringrazio anche del Consiglio Direttivo stiamo lasciando per scadenza del termine statutario le nostre cariche per cederle ad altri colleghi, che sicuramente faranno di più e di meglio di quello che abbiamo fatto. C'era pure una famosa canzone, non si può dare di più, certamente si può dare di più. La critica quantitativa è la più facile di questo mondo. Se si concede un milione, ha spuntato a quell'altro e dice no, due milioni, e perché no? L'altro tre milioni. Quindi andiamo a vedere concretamente quello che sarà fatto e siccome sono sicuro che chiunque sarà eletto, ma noi qualche nome nella testa ce l'abbiamo, non lo diciamo ovviamente, perché siamo rispettosi delle istituzioni democratiche, chiunque venga sicuramente farà meglio di noi, se non altro perché viene dopo di noi. C'è non altro perché viene dopo di noi. E allora in questo clima, mettendo da parte la tristezza degli eventi luttosi che hanno caratterizzato alcuni momenti, mettendo da parte il grigiore dei giorni del lockdown, che sono stati terribili, credetemi, quando si doveva sperimentare una modalità nuova di comunicazione con il corpo dei soci della nostra associazione. E' come dire, work in progress, abbiamo imparato, abbiamo fatto come quello che imparava a nuotare durante una gara di nuoto. E i risultati sono quelli che sono sotto i vostri occhi e spero che saranno ancora, anzi spero, sono sicuro che saranno migliorati e portati ancora avanti. Quindi buon lavoro a tutti e soprattutto lasciatemi esprimere i miei sentimenti sinceramente augurali nei confronti del nuovo consiglio direttivo che si andrà a insediare dopo la proclamazione dei risultati delle votazioni. Io auguro loro, auguro al prossimo Presidente, chiunque egli sarà, ma chi sa, di avere dei collaboratori del livello che ho avuto io, per cui se qualcosa di buono è stato fatto, certo il merito non è del Presidente, ma è di tutti messi insieme. E soprattutto cerchiamo di non seguire la strada che purtroppo hanno seguito altre associazioni di altri rami del diritto che sono andati incontro a scissioni, che sono andati incontro ad abbandoni clamorosi da parte di uno o gruppi di studiosi. Noi finora, finora nel ricordo dei maestri, il primo Presidente di questa associazione, vi ricordate, è stato Leopoldo Elia, nel ricordo dei maestri che ci hanno lasciato questa eredità, vorremmo che l'associazione rimanesse sempre unita. Nella pluralità delle voci, nella pluralità delle voci. Il Guai ha un'associazione monocorde con una linea che viene dettata e seguita da tutti. Sarebbe non solo una noia mortale, che non ne avremo voglia di partecipare, ma anche, come dire, non in linea con il fatto che noi ci chiamiamo costituzionalisti e poi in casa nostra facciamo quello che non dovrebbe essere fatto. Quindi, buon lavoro a tutti e starò ad ascoltare con estremo interesse le relazioni e il dibattito che si svilupperà in questo convegno. Grazie. Grazie. Grazie a Gatano Silvestre. Adesso mi tocca usare parole meno alate per chi ho delle comunicazioni di servizio. Mi perdonerete. Per evitare assembramenti non abbiamo previsto pause e caffè tra le sessioni del convegno. Quindi sia oggi che domani, dalle 10 alle 13, saranno stabilmente e continuamente presenti dei punti di storo al primo piano. in questo edificio, nei corridori, nelle aule Fadda e Arcoleo. Per raggiungere queste aule bisogna recarsi nell'Androne e poi sarete guidati dai nostri validissimi, da questo nostro validissimo piccolo esercito di giovani. La colazione di lavoro alle 13.30 è a una luogo a 200 metri da questo edificio, presso Palazzo Pecoraro Albani, in via Porta di Massa 32, si raggiunge in pochi minuti attraversando Corso Umberto I, quindi si tratta di pochi metri. I partecipanti accederanno alla struttura attraverso due varchi distinti, a seconda dell'etra iniziale del cognome, come vi è stato già comunicato, e saranno poi divisi secondo lo stesso criterio in diverse aule. Nelle cartelline che vi sono state consegnate troverete le istruzioni più dettagliate. Sanno stabiliti dei percorsi per servizio ai tavoli, vi preghiamo di seguire questi percorsi con la disciplina che caratterizza i costituzionalisti. Presso il banchetto dell'editoriale scientifica, nel corridore delle aule Pessina e Cicala, i soci in regola con il pagamento, delle quote ovviamente sociali, possono editare i volumi pubblicati dall'Associazione nel 2019 e nel 2020. Alla fine della sessione pomeridiana, prima dell'Assemblea dei Soci delle 17, si svolgerà la cerimonia di consegna del premio Panunzio alla presenza della dottoressa Elisa Zannoni. L'Assemblea dei Soci avrà luogo in quest'aula e in quella adiacente, sarà quindi, vi sarà un collegamento video, con possibilità di intervenire durante i lavori. Bene, non ho altro a comunicare e quindi possiamo dare corso ai lavori, noi lasciamo questo tavolo ai relatori e al Presidente di sessione. Grazie, grazie tanto. Grazie. Allora, buongiorno a tutti e a tutti, se vi accomodate cortesemente. siamo in leggerissimo ritardo, leggero ritardo, 25 minuti, quindi considerando anche il tempo e quindi apriamo la sessione, la prima sessione del convegno dal titolo Storia Costituzionalistica e Scienza Umane. Da titolo appunto questa sessione si intitola La dimensione costituzionale delle transizioni storiche, la rivoluzione francese, la rivoluzione industriale, la rivoluzione tecnologica. I relatori di questa sessione sono in ordine, saranno i professori Mario Dogliani, il professor Sandro Guerrieri e la professoressa Simona Polarizzi, che ti saluto. Lo diceva prima il nostro Presidente, il professor Silvestri. Orlando Rosselli ed altri, devo dire, ma Orlando Rosselli tu lo ricordavi, da anni ci spingevano, ci spingevano ad una riflessione che mettesse in collegamento, diciamo, proprio le dimensioni del costituzionalismo con le scienze umane, tutto al plurale. E da Bergamo, proprio con grande entusiasmo, accogliemmo e poi sviluppammo questo tema, diciamo di sviluppare questo tema, che vide, vi ricordo appunto, sin dall'inizio entusiasta proprio nell'alimentare e rafforzare il progetto, il nostro caro Benemino. La prima sessione di oggi si apre appunto con il tema, diciamo, costituzionalismo, costituzionalismo storia, o meglio i processi del costituzionalismo attraverso i processi storici, in particolare attraverso la rivoluzione francese, la rivoluzione industriale, la rivoluzione tecnologica. E le categorie fondative, diciamo, del costituzionalismo saranno esaminate attraverso i processi, attraverso la capacità dei processi, di alimentarsi, di interagire, di determinare continuità, discontinuità, di evidenziare le contraddizioni, gli antagonismi, le conquiste sul piano giuridico, economico, sociale, come si è detto, artistico, letterario, ma anche le sconfitte, anche le regressioni. Sì, le regressioni democratiche, proprio le regressioni che hanno fatto un po' che arrivano a volte con maggiore rapidità di quello che possiamo credere, processi regressivi veloci. E allora proprio la necessità di conoscenze, di analisi, certo non per prevedere e quindi evitare, ma appunto per conoscere i processi, per conoscere le dinamiche e soprattutto i loro impatti. Tocqueville diceva che da quando il passato non proietta più la sua luce sul futuro, la mente dell'uomo è costretta a vagare nelle tenebre. La perdita di senso della tradizione, e non semplicemente la perdita di tradizione, ma la perdita del senso della tradizione, ha contribuito alle catastrofi. Perdita di memoria, ma soprattutto perdita di giudizio, che significa poi perdita della capacità appunto di interpretazione. Non si tratta ovviamente di tornare al passato, non è questo il punto. Il punto è invece proprio rigenerare il futuro sulla base del passato, no? Storia quale fondamento indispensabile per interpretare il mondo e forse anche per cambiarlo. I populismi, gli odierci populismi, o una parte di essi, si compiacciano proprio di proliferare in un presente senza eredità, no? E alla fine vagano, vagano, una buona parte di loro vagano nelle tenebre. Il nostro mondo si presenta oggi sempre più come una società disaggregata, spoliticizzata perlomeno secondo le categorie classiche, governata con la sempre maggiore e continua proprio allenazione dell'individuo dallo spazio pubblico. Ecco, e dunque in questo senso possiamo dire che oggi è proprio la luce del passato. Il senso della tradizione fatica ad illuminare il futuro. Fatica a illuminare il futuro e quindi ci troviamo sempre più come naviganti che perdono il Consiglio delle Stelle. Ecco, e quindi da qui la necessità per noi giuristi, idea tutto tondo, per i costituzionalisti. Si diceva prima, il Presidente lo ricordava, ecco, la necessità del diritto del rapporto con la storia. La necessità del che abbiamo avvertito appunto del convegno del convegno di oggi. E quindi buono ascolto a tutti, grazie. Ed ora la parola, la parola secondo programma al Professor Mario Dogliani che sta in collegamento. Il Professor Mario Dogliani, vediamo in collegamento, il Professore Merito di Diritto Costituzionale dell'Università di Torino, tra i suoi lavori più recenti ricordiamo Costituzione Antipolitica, il Parlamento alla prova delle riforme, elementi di diritto costituzionale con Elena Massapinto, la ricerca dell'ordine perduto, anche con l'Algostino e tanti altri lavori che noi tutti conosciamo, sui quali ci siamo formati. Mario, a te la parola, grazie. Posso? Prego. Grazie. Beh, innanzitutto chiedo scusa per questo collegamento da remoto, mi dispiace non partecipare di persone e vedervi e incontrarvi, ma insomma io qualche tempo fa ho avuto dei guai cardiaci che mi consigliano di cautelarmi. In secondo luogo vorrei dire che il titolo che mi è stato assegnato è sterminato e quindi non leggerò la relazione ma ne leggerò solo alcune parti, alcuni titoli. la relazione c'è perché l'ho fatta leggere ad Alberto Rucarelli, quindi non è come si dice quando si dice poi lascio allo scritto, eccetera. Allora, comincerei subito da questa considerazione preliminare che il titolo del nostro convegno è Scienza Costituzionalistica e Scienze Umane e non Scienza Costituzionalistica e Altre Scienze Umane, il che lascia quasi intendere che si ammetta la possibilità, da discutere, di una differenza, una disomogeneità tra la storia costituzionalistica e le scienze umane. Cioè non viene immediatamente, come dire, ricondotta nel campo delle scienze umane. Allora, mi vorrei soffermare un attimo su questo, ispirandomi ad uno scritto di Kelsen che si chiama Società e Natura, è molto no. Ora, la distinzione Scienze Umane e Scienza Costituzionalistica è una sottodistinzione tra Scienze della Natura e Scienze della Società. Kelsen dice, Società e Natura, se concepite come due modi diversi di sistemare gli elementi, sono il risultato di due modi diversi di pensiero e solo in quanto tali costituiscono due oggetti diversi. Gli stessi elementi, se sono legati secondo il principio di causalità, costituiscono la natura, se invece sono legati dal principio normativo, costituiscono la società. Ora, mi sembra evidente quindi che la scienza del diritto e la scienza costituzionalistica siano scienze della società. Però vorrei spendere ancora qualche parola, perché secondo me c'è un profilo di Kelsen che noi, almeno io, ma mi pare, non sfruttiamo abbastanza, ed è questo. Dunque Kelsen, quando pubblicò Società e Natura nel 1936, fu violentemente attaccato dai sociologi, da Gurvich, e poi il più cattivo fu probabilmente Talcott Parsons, che lo accusarono di essere un cattivo sociologo, cioè di non sapere bene cosa faceva. E a questo proposito Kelsen si difese rivendicando il suo diritto di occuparsi di ricerche sociologiche. E cioè qui Renato Treves, esponendo queste vicende, sottolinea come Kelsen abbia attraversato due momenti fondamentali, il Kelsen teorico della dottrina pura del diritto, che si opplica di applicare al diritto il metodo della critica della ragione pura, e poi la fase positivistica in cui Kelsen attribuisce al suo lavoro un carattere scientifico e indica, questo è molto interessante, il proprio metodo come analisi comparata dei diversi ordinamenti giuridici. Quindi dalla filosofia alla comparazione. Segnalo che è stato recentissimamente pubblicato un libro di scritti in onore di Mario Lozano, che è appunto intitolato Dalla filosofia del diritto alla comparazione giuridica. Quindi, sempre seguendo Kelsen, lui rivendica il suo diritto a occuparsi di ricerche sociologiche, ma, precisiamo, di occuparsi di una sociologia della giustizia, cioè, e qui è importante, delle indagini sulla funzione sociale di certe idee che esistono nella mente degli uomini e che agiscono come causa del loro comportamento. Una sociologia critica della società e critica delle ideologie che accompagnano il corso della società. Quindi, mi sembra che, seguendo questa impostazione, dobbiamo concludere che la scienza costituzionalistica, come è stato ricordato da Silvestri, dal nostro Presidente, è una scienza anfidia, una scienza che presenta due lati. Uno di scienza del diritto, che si occupa delle disposizioni costituzionali, e che è del senso, diciamo, più plausibile che deve essere attribuito alla loro espressione linguistica. E un altro, la critica delle ideologie che accompagnano il corso della civiltà, definibile appunto come sociologia della giustizia. Ulteriore precisazione è che questa sociologia della giustizia non è un'opera descrittiva delle cose così come sono andate, perché riguarda e consiste nell'analisi dell'eterna, parola di Kelsen, dell'eterna aspirazione degli uomini alla felicità sociale, alla felicità garantita da un ordine sociale. Allora, fatto questo chiarimento, che a me sembra molto interessante e, come dire, in qualche modo tranquillizzante per quella direzione in cui il convegno è stato aperto, L'espressione che usiamo noi, diritto costituzionale, vuol dire due cose contemporaneamente, inscindibilmente. L'analisi delle disposizioni e del loro senso, e l'analisi delle idee piantate nel cervello degli uomini che hanno guidato la loro produzione. Veniamo all'aspetto storico. Io dico subito che non penso sia possibile isolare la rivoluzione francese dalle rivoluzioni secentesche e settecentesche, cioè le due rivoluzioni inglesi e la rivoluzione americana. È un periodo, secondo me, unitario e io, siccome è enorme, è impossibile sfiorare tutti gli argomenti che suggerisce, sosterrò questo, cioè che il periodo che va, diciamo, dalla rivoluzione inglese di Cromwell alla decapitazione di Luigi XVI, insomma, può essere tutto inteso come un processo di secolarizzazione del principio di rappresentanza e per conseguenza del principio di sovranità. Qui intendo il principio di rappresentanza come lo intendeva Hobbes, cioè una rappresentanza unitaria, costitutiva, attraverso l'unità del rappresentante della unità del corpo rappresentato. Ora, quest'idea di rappresentanza, sappiamo che si è presentata di fronte alla devastazione delle guerre di religione, però è molto risalente, se possiamo andare tranquillamente fino al primo secolo d.C. nella Chiesa delle Eurigini e soprattutto nell'epoca costantiniana, nella teologia politica che interpretò e costruì la figura dell'imperatore. Però questa idea di rappresentanza come elemento che produce unità politica ha continuato a porsi in tutte le fasi, dal Medioevo fino allo Stato a base illuminista e fino anche nello Stato contemporaneo. Ma perché? Che cosa hanno in comune la Chiesa delle Origini, lo Stato Assoluto, lo Stato Liberale e lo Stato Costituzionale? Hanno in comune nel fatto che tutte queste realtà pongono al loro vertice non una realtà completamente umana, un dato empirico, ma una entità spirituale o astratta. Se al vertice dell'organizzazione c'è un dato astratto, Dio, la ragione, la nazione, il popolo, la classe, ed è necessario evitare la lotta delle interpretazioni, allora è necessario che ci sia un interprete che manifesta e specifica il significato di questa entità astratta. Ricordiamo Schmitt, veritas Iesus Christus, quis interpretabitur, e la frase vale qualunque sia la realtà trascendente che è stata sostituita a Iesus Christus. Qualunque sì. Allora, il processo di secolarizzazione del principio di rappresentanza, come noto inizia in Inghilterra, qui tralascio tutti i dati storici, dico soltanto che il momento, il culmine, si ha nella gloriosa rivoluzione e quindi la deposizione di Giacomo II, la chiamata al trono di Guglielmo e Maria, ad opera di un Parlamento autoconvocato che si denominò Convention, del nome dal quale venne dato in Francia il nome di Convention all'Assemblea rivoluzionaria del 92, quella che depose il re, che dichiarò finita la monarchia, insomma, e approvò la Costituzione che non entrò mai in vigore. Quindi la deposizione del re, la chiamata di nuovi re da parte del Parlamento, l'approvazione del Parlamento dell'Act of Festment del 1701, con cui si limitano i poteri del re e si stabilisce la linea di successione al trono, escludendone tutti i pretendenti di religione cattolica, dimostrano che l'idea del re voluto da Dio come suo rappresentante è del tutto tramontata. Il tramonto si perfeziona poi durante tutto il regno della regina Anna, fino alla sua morte, quando ascese al trono Giorgio di Hannover. E Giorgio di Hannover successe al trono inglese perché era figlio di Sofia del Palatinato, la quale era notata una nipote di Carlo I e che era stata scelta come erede di Anna nell'Act of Settlement. Abbiamo detto, negli Stati Uniti il discorso è più semplice perché tutti sappiamo che nel 1787 la Costituzione istituisce una Repubblica, considera il rappresentante, infatti è il primo organo ad essere disciplinato, il Congresso degli Stati Uniti, e attribuisce a un Presidente eletto, o scelto nel linguaggio della Costituzione, dai lettori nominati degli Stati, il potere esecutivo. In Francia le cose sono più complicate, anche qui ci sarebbero tante cose da dire sulle vicende storiche, ma mi limito a ricordarne due, cioè la Costituzione del 91, che sostitui al principio del re di Francia per diritto divino, a quella del re dei Francesi per grazia di Dio e Costituzione dello Stato. E poi, in momento più duro, l'assalto al palazzo delle Tuileries, condotto in nome dell'abolizione della monarchia. L'assalto al palazzo delle Tuileries del 1792, da non confondere con l'assalto al medesimo palazzo del 1871, che si concluse col suo incendio ai tempi della Comune. E poi la deliberazione assunta dalla Convenzione, e questo è significativo, nel 1792, la quale Convenzione, appena eletta, nella sua prima riunione, abolì la monarchia all'unanimità, senza procedere ad alcuna discussione. Dal momento che si disse, dopo l'assalto alle Tuileries, non c'è più niente da discutere. Quindi, Costituzione del 91, la Convenzione del 92, completano il processo. Poi l'esecuzione di Luigi XVI del 93 fu un atto di enorme valore simbolico, ma ormai il processo era compiuto. Allora, dicevo che questo processo di secolarizzazione, prego il Presidente di interrompermi se vado fuori tempo, perché non voglio rubare neanche un minuto agli altri relatori. Questo processo, diciamo, può essere rappresentato come il moto di un pendolo. Immaginiamo l'asticella incernierata, tutta alzata, incernierata a sinistra, insomma, a sinistra in alto, e colloquiamo qui la concezione alto-medievale della regalità cristocentrica. Il pendolo poi scende, con momenti molto complicati, certo non posso seguirli, perché certo, per esempio, il pendolo non prosegue nel mondo, come dire, autocratico della Russia. Comunque, questo movimento si conclude, tenuto conto di queste sopravvivenze, insomma, si conclude definitivamente, secondo me, con le rivoluzioni russe del XVII e quelle tedesche del XVIII-XIX. Rivoluzione industriale, perché la colloco qui immediatamente? Perché la rivoluzione industriale ferma il moto del pendolo. Se il processo di secolarizzazione che ho descritto è andato fino, diciamo così, all'atto del 93 e alla Costituzione USA, e cioè verso una repubblica, verso una situazione in cui russovianamente il rappresentante doveva coincidere con il rappresentato. Non so se c'è o Marchessa in sala, ma lo prego di scusare queste espressioni non tanto precise. Ecco, si andava verso questo traguardo, ma il pendolo si ferma. E perché si ferma? Perché la rivoluzione industriale scompiglia il quadro in quanto il popolo non si presenta più come una moltitudine suscettibile di essere unita attraverso la politica, cioè attraverso l'azione di un rappresentante. Questo è il nucleo di tutta la vicenda precedente. Il popolo, per quanto diviso, le guerre di religione sono state terribili, sono durate circa 180 anni, sono state sanguinose, hanno lasciato delle fratture fortissime. Però, ecco, cito questo fatto, che negli anni infuocati tra il 40 e il 58, Hobbes scrisse tutte le sue opere, dal Leviatano al Decine, al Corpo, eccetera. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che di fronte a quelle terribili guerre intestine si poteva coltivare l'idea che il popolo fosse unificabile in via politica. Quindi dobbiamo ammettere che la paura della rivoluzione sociale indotta dalla rivoluzione industriale fu più forte ancora degli strascichi delle guerre di religione. Sulla rivoluzione industriale, insomma, tralascio la descrizione delle quattro rivoluzioni. Professor Dogliani, riesce a chiudere i prossimi 5-6 minuti in modo da terminare per gli undici? Eh sì, provo. Allora, lasciamo perdere il punto se la rivoluzione industriale sia sotto il segno della natura o della cultura, perché apparentemente è sotto il segno della natura per il dominio del positivismo scientifico. Però invece, secondo me, è stato un processo di culturalizzazione della società, perché la società è stata sottoposta. Ecco, il principio per cui ciò che è deve anche essere è stato sconfitto proprio dai movimenti di opposizione, dal socialismo utopistico e soprattutto dal socialismo scientifico. Comunque, qui il punto, ripeto, è quello. La valorizzazione delle divisioni politiche come elemento capace di produrre unità di fondo politica si è eclissato. Adesso viene affiancato il principio di nazionalità, perché era stata sperimentata, insomma, dal termidoro in poi, i limiti della rappresentanza elitaria aristocratica degli ottimati nel sostenere la legittimazione del potere politico e si presenta la necessità di integrare la legittimazione della rappresentanza elitaria con un elemento popolare che non fosse l'estensione del suffragio. E qui, insomma, le vicende italiane sono note, insomma, il risorgimento, ma poi soprattutto la crisi di fine secolo quando si ricorre al nazionalismo, insomma, per sostenere le guerre, la guerra d'Abissinia e la guerra di Libia. avevo riportato delle frasi di Giovanni Pascoli per dimostrare quanto sia stato forte questo cambiamento. Lui che era quasi un anarchico ai tempi dell'attentato passannante e poi diventa un fautore della guerra. Ma teniamo presente un'altra cosa, consentitemela questa, che i liberali, Croce, Einaudi, Salvemini, eccetera, anch'essi sposarono questa idea del nazionalismo come cemento dell'unità politica. Io vorrei ricordare, non per dare patenti di coraggio o no, per criticare, insomma, constatiamo solo che nel 24, dopo l'approvazione della legge acerbo, l'uccisione di Matteotti, Croce al Senato, votò la fiducia al governo Mussolini, esprimendo, come disse, un voto di dovere, un voto patriottico. Quindi, insomma, il principio di nazionalità, allontanato dalle illusioni di Pasquale Stanislao Mancini, ebbe questo esito. Con il secondo dopoguerra, il principio della rappresentanza politica, ritrova la sua centralità, non ne posso parlare, ne sappiamo tutti, comunque voglio notare che noi tutti, penso, eravamo e siamo convinti che il principio rappresentativo nel secondo dopoguerra, ha generato, e per come è stato esercitato, ha generato la coscienza che il nostro ordinamento democratico rispondesse quasi completamente alle teorie della democrazia discorsiva di Habermas o quella di Rawls, eccetera. La rivoluzione tecnologica assegna un nuovo eclisse della rappresentanza politica. Ecco, consentitemi di chiudere su questo punto. Perché? Perché la quarta rivoluzione industriale, diciamo così, è sotto il principio della ineluttabilità dello sviluppo tecnologico guidato soltanto dalla dinamica interna della possibilità di ulteriori traguardi. Cioè il nuovo imperativo è ciò che è possibile va fatto, ciò che è possibile è anche lecito, gli ulteriori sviluppi di ciò che è già fatto lasciano intuire, vanno tutti perseguiti. Questo è il credo, insomma la situazione non la lascio perdere, ma teniamo conto che Minsky ha detto non c'è alcuna differenza tra intelligenza artificiale e intelligenza naturale. Anche noi siamo macchine, l'uomo è uno scalino intermedio tra la scimmia e il computer. Per concludere, la domanda che ci poniamo oggi è se le nostre società siano società ormai senza regola a causa del dominio di quel principio o se saranno in grado di cercare di assumere la direzione di questo processo e di elaborare che cosa? Di elaborare un'efficace teoria del limite. Tutti sappiamo che recentissimamente è uscito il libro di Cipiò La sovranità del limite, quindi velocissimamente vanno. Allora, diciamo che l'opposizione al dominio di questo principio di ineluttabilità e di totale diciamo meccanizzazione della vita sociale è dato dal principio di precauzione la proposta filosofica di Jonas il quale principio di precauzione è stato assunto dal diritto e nel campo del contenimento addirittura del divieto delle armi nucleari e di distruzione di massa e poi in materia ambientale ma qui insomma sono cose che sappiamo tutti e lascio voglio solo ricordare che del 17 è il trattato per la proibizione delle armi nucleari non soltanto per il contenimento e la diminuzione degli armamenti. Ora chiudo con questo questi fenomeni toccano la stessa capacità dei soggetti di riconoscersi come soggetti a una legge cioè il fenomeno è quello del rifiuto del limite ora perché si dia uno stato di diritto uno stato costituzionale è necessario che si diano le caratteristiche psicologiche e antropologiche che rendono possibile l'esistenza della società stessa e cioè quelle che consentono alla società umana di affrontare il loro compito essenziale raffrenare le pulsioni per rendere possibile il processo di civilizzazione ovvero realizzare uno scambio tra libertà e sicurezza qui Hobbes di nuovo torna la concezione diciamo di questa qualità come di una capacità naturale ecco immagino che qualcuno faccia dei sorrisetti di fronte a questa evocazione di questo principio psicologico eccetera ma vorrei ricordare che Tönnis ha affermato che tutte le formazioni sociali sono artefatti di sostanza psichica il loro concetto psicologico deve perciò essere nello stesso tempo un concetto psicologico e che dunque il momento della disponibilità questo lo aggiungo io dell'accettazione del limite e dell'interiorizzazione del limite medesimo sono essenziali perché nessun ordine sociale ha una consistenza solo esterna quindi il riconoscimento della legge non è un atto di ripiegamento di sottomissione solitaria ma il presupposto per la costruzione del legame sociale e dell'acquisizione di un punto di vista generale collettivo sul dover essere e sul futuro della società e chiudo ricordando che un movimento che si è sviluppato in Francia un campo psicanalitico ha avanzato l'ipotesi inquietante e affascinante secondo cui negli ultimi trent'anni in tutte le società occidentali sarebbe intervenuto un mutamento dell'economia psichica che è una discontinuità con l'umus umano quale ci è stato rappresentato dalla storia della civiltà e questo non è soltanto una fantasticheria psicanalitica ma il Censis nel 2010 ha fondato su questa idea il suo rapporto sulla situazione del paese dicevo di questo movimento che si è sviluppato in Francia in dialogo tra psicanalisti come Melman e costituzionalisti come Gaucher che tutti conosciamo e in sintesi si dice questo che da un punto di vista clinico ha la figura della nevrosi che raffigura la posizione caratterizzata dall'oscillazione tra necessità del sacrificio imposto dalla legge e tendenza alla progressione si è sostituita una situazione che è definibile con un'altra figura clinica che è quella della perversione cioè il termine che si riferisce all'angoscia provocata dal limite dalla legge ora chiudo qua tralascio l'ultimo paragrafo che avevo scritto sul ritorno dello Stato cos'è il ritorno dello Stato cui assistiamo secondo me non è un ritorno allo Stato politico ma è un ritorno allo Stato amministrativo molto importante perché abbiamo sperimentato che in qualche modo insomma lo Stato ha dimostrato di essere l'unica agenzia di protezione per i cittadini e anche per il mercato comunque non mi occupo di questo e chiudo soltanto con una battuta che leggendo degli scritti in materia di management mi sono imbattuto nella Harvard Business Review che dice che il manager deve avere una visione ambiziosa a lungo termine e non mollare mai e un senso del no limits e mi è venuto in mente che Cicerone diceva legus legum omnes servisubus ut liberi esse possimus grazie allora Mario grazie e scusami se ti ho chiamato ai tempi ma appunto dovuto dovere il programma è intenso denso e quindi sono stato abbastanza bravo poi avremo ovviamente la possibilità e il piacere di leggere la relazione e sempre in relazione al concetto che poi tu sviluppi anche nel testo della tradizione il senso della tradizione nel passaggio dalla la definizione il passaggio diciamo del costituzionalismo moderno dove tu dici c'è un punto interessante dici il costituzionismo moderno è stato una corrente di pensiero che ha sintetizzato teologia filosofia politica progettazione giuridica in momenti rivoluzionari o comunque di acuta tensione politica cioè i momenti costituenti e poi il costituzionismo antico invece corrente di pensiero che sintetizza filosofia politica teologia e progettazione giuridica non nei momenti in cui si fa una costituzione e quindi non nei momenti in cui non c'è non ci sarebbe la consapevolezza di fare una costituzione ma appunto nei processi nei lunghi processi di selezione e proprio di sedimentazione di quello da cui siamo partiti cioè il senso proprio della tradizione il senso o delle tradizioni dunque adesso il grazie Mario e adesso il programma prevede la relazione del professor Guerrieri il professor Sandro Guerrieri che è ordinario di storia delle istituzioni politiche del dipartimento di scienze politiche della Università della Sapienza di Roma il professor Guerrieri nelle ultime ultimi suoi lavori si è occupato appunto della scrittura delle costituzioni il secondo dopo guerra in un quadro mondiale curato con un lavoro curato con Francesco Bonini ma ancora più di recente Costituzioni allo specchio quindi la rinascita democratica in Francia e in Italia dopo la liberazione e poi nel 2016 un Parlamento oltre le nazioni l'Assemblea Comune della Sceca e le sfide dell'integrazione europea prego professore grazie grazie per prima cosa vorrei ringraziare dell'invito a partecipare a questa importante convegno che affronta un tema molto affascinante come è stato ricordato il rapporto tra il diritto costituzionale e altre discipline che rientrano nel campo delle scienze umane il tema della sessione è molto vasto come è stato ricordato anche dal professor Dogliani e si presta a diverse chiave di lettura la mia sarà quella dello storico delle istituzioni politiche una storia che studia le loro istituzioni nel loro dinamismo interno nella loro vita concreta e naturalmente nella loro interazione con la società per quanto concerne lo studio della dimensione costituzionale il profilo metodologico della storia delle istituzioni comporta una particolare attenzione alle dinamiche dei processi costituenti all'esame degli attori coinvolti e poi alla concreta attuazione delle norme costituzionali appunto nella società e lo studio della vita delle istituzioni allora siccome il tema appunto della sessione è molto vasto nel mio intervento mi concentro sul primo aspetto e cioè sulla rivoluzione francese che analizzerò sia nel tempo breve della rottura sistemica della transizione rivoluzionaria sia nella l'ondure di quella fiebre hexagonale come l'ha definita Michel Binoc che si è tradotta in vari cicli di crisi politico istituzionale partirei da una domanda come si studia oggi la rivoluzione francese lo studio della rivoluzione si è caratterizzato per le epiche battaglie storiografiche che si sono sviluppate a partire dall'ottocento con le opere di Thiers Michelet Tocqueville Taine per fare alcuni nomi nel novecento il confronto più importante si è svolto tra la cosiddetta scuola giacobino marxista rappresentata da Albert Mathieu Georges Lefebvre Albert Souboule e la cosiddetta scuola revisionista impersonata in particolar modo da François Furet la prima si è caratterizzata soprattutto negli studi di Souboule per l'interpretazione della rivoluzione come via rivoluzionaria della transizione dal feudalesimo al capitalismo e per l'interpretazione del giacobinismo come necessaria forza d'urto grazie alla sua alleanza con i movimenti popolari per spezzare i residui politico-sociali che si opponevano a questa transizione la seconda corrente scuola storiografica ha messo invece radicalmente in discussione la categoria onnicomprensiva di rivoluzione borghese e ha svolto un'ampia analisi critica dell'ideologia rivoluzionaria e in particolar modo di quella la recente importante ricostruzione di Antonino De Francesco di questi dibattiti secolari è uscita in Francia con il significativo titolo di La Guerre de Saint-Ton in italiano il titolo è diverso tutti i volte di Marianna ma è molto suggestivo il titolo dell'edizione francese La guerra dei duecento anni perché perché lo scontro tra le diverse interpretazioni della rivoluzione ha costantemente chiamato in causa l'identità stessa della nazione francese oggi si potrebbe dire a più di 30 anni di distanza dalle celebrazioni del bicentenario che furono organizzate a livello scientifico da Michelle Vovelle anniversario che cadde nell'anno della caduta del muro di Berlino e quindi rientra nella fase della fine del secolo breve con anche la fine delle dispute ideologiche che l'avevano accompagnato ecco a distanza di 30 anni da quel momento si può dire che si è almeno in parte realizzato l'auspicio di Fiore di uno studio raffreddato della rivoluzione ma questo raffreddamento che secondo una certa linea interpretativa che io personalmente non condivido sarebbe giustificato anche dal fatto che nel quadro di una global history la cesura del 1789 andrebbe nettamente ridimensionata questo raffreddamento dicevo non impedisce che si rinnovino ancora oggi interrogativi cruciali e appassionanti domande antiche a cui si cerca di fornire nuove risposte la rivoluzione francese va presa come un blocco unitario come auspicava a suo tempo Georges Clemenceau per rivendicarne l'eredità oppure contiene al proprio interno una pluralità di rivoluzioni è uno degli interrogativi che inevitabilmente si ripropongono come avviene nel libro di Timothy Tackett del 2015 investe la natura e le cause del terrore come è possibile che dai diritti dell'uomo e del cittadino dell'agosto 1789 si passi alla legge del 22 aprile dell'anno secondo e il peso delle circostanze a cominciare dallo scoppio e dalle vicissitudini della guerra ad essere all'origine della spirale autoritaria o siamo di fronte allo sviluppo conseguenziale di un'ideologia incentrata sull'espulsione dal corpo della nazione fino all'eliminazione fisica di tutti coloro che ne minerebbero le fondamenta in queste rinnovate domande sulle catene di eventi della transizione rivoluzionaria che hanno condotto ad esempio nuovi studi sul vissuto rivoluzionario sulle dinamiche delle emozioni collettive incentrate ad esempio sul terrore del complotto terrore del complotto che ritorna periodicamente nella storia sull'evoluzione delle mentalità o anche sulla rivoluzione nel contesto transnazionale come è avvenuto negli studi recenti di Annie Jourdan ebbene lo studio della dimensione costituzionale che è stato trascurato in alcuni filoni storiografici rimane a mio avviso essenziale qualsiasi interpretazione della rivoluzione non dovrebbe prescindere dal fatto che a innescare il processo di cambiamento e la trasformazione di un organo dell'anzian regime gli stati generali un'eredità istituzionale dell'antico stato per Ceti la trasformazione di quest'organo in una assemblea costituente il cui obiettivo diventa quello della distruzione dell'anzian regime l'Igna Plus con cui si apre la costituzione del 1791 esprime in profondità lo spirito di una rottura che si realizza non solo negli articoli della costituzione ma nei vari decreti che l'assemblea costituente adotta nel biennio 1789 1791 la costituente quindi avvia una transizione di cui la costituzione rappresenta o meglio dovrebbe rappresentare il coronamento ma questo coronamento costituzionale non si traduce in un punto fermo e il ricorso al potere costituente diventa così una forma quasi permanente nei primi sei anni della rivoluzione la costituzione del 91 entra in crisi con la guerra crolla a seguito dell'assalto alle tuilerie del 10 agosto del 92 che è stato poc'anzi richiamato le rigidissime modalità di revisione previste dalla costituzione del 91 si rivelano del tutto inutili di fronte all'escalation rivoluzionaria e si elegge una convenzione che redigerà nel tempo due nuovi testi costituzionali una delle caratteristiche principali della rivoluzione di cui non si può non tener conto per comprenderne appieno la natura diventa perciò una sorta di ossessione costituente per riprendere il titolo dello studio ad essa dedicato da Roberto Martucci la costituzione montagnarda del giugno del 93 riflette i nuovi sviluppi del processo rivoluzionario in cui assume un peso crescente il movimento popolare parigino ma i leader giacobini ne rinviano l'entrata in vigore in nome della necessità di una fase transitoria di dispotismo della libertà secondo lo simoro appunto usato da Robespierre si instaura così un governo rivoluzionario che pur essendo esercitato in nome e sotto il controllo della convenzione non si limita per usare le categorie di Carl Schmitt ad essere una dittatura commissaria ma diventa una dittatura sovrana essa infatti ha il compito di fondare la repubblica nella realtà sociale combattendone i nemici mentre il compito della costituzione secondo Robespierre sarà poi quello di conservare la repubblica una volta che ne saranno state create le basi questa dicotomia concettuale tra governo rivoluzionario e governo costituzionale avrà un futuro se la tesi che individua in Robespierre o addirittura in Rousseau le origini dei gulag è un'evidente forzatura della realtà storica è in dubbio a mio avviso che l'idea giacobina di un governo rivoluzionario incaricato di fondare un nuovo ordine politico avrà significativi sviluppi nella versione leniniana del marxismo dopo termi d'oro l'esercizio del potere costituente da parte della convenzione assume una valenza diversa ritorna l'esigenza di stabilizzare la rivoluzione di terminare la rivoluzione quindi si riannodano i fili con l'esigenza con l'esperienza del 91 ma la nuova costituzione quella del 95 è per molto tempo trascurata dalla stereografia che riflette e accentua l'emarginazione delle componenti popolari che avevano sostenuto i giacobini oppure se vogliamo dirlo in maniera diversa su cui i giacobini si erano appoggiati questa nuova costituzione non è in grado neanchessa di regolare la persistente conflittualità politica e sociale l'ordine costituzionale viene ripetutamente violato quando i risultati elettorali risultano sgraditi e il decennio rivoluzionario si conclude con il colpo di stato di Brumaio il costituzionalismo rivoluzionario francese viene quindi ripetutamente travolto da uno scontro politico sociale che non è in grado di riassorbire le costituzioni così si bruciano una dopo l'altra ma la rivoluzione oltre che nel tempo breve del periodo rivoluzionario va considerata anche come dicevo nella dimensione di longue durée di un lungo ciclo costituzionale a cui la rivoluzione dà inizio caratterizzato da ripetute transizioni e crisi politiche per scongiurare un rinnovato esercizio del potere costituente da parte di assemblee elettive con la restaurazione viene inventata in Francia la formula dell'octroi monarchico ripresa come è noto da Carlo Alberto e i suoi consiglieri nel 1848 quando si rassegnano alla concessione di un testo costituzionale definito in quanto tale una disgrazia dal conte Borelli si rassegnano a questa concessione per la paura di farselo in seguito imporre dagli eventi ma in Francia la questione costituzionale si riapre ben presto e un punto stabile di equilibrio viene raggiunto solo con la terza repubblica nata dopo la sconfitta di Sedan la transizione in questo caso si apre con la disfatta militare prosegue con la repressione nel sangue dell'esperienza della comune ed è resa difficile da una contrapposizione tra monarchici e repubblicani all'interno dell'assemblea nazionale eletta nel 1871 il cui esito rimane a lungo incerto la terza repubblica non è detto che rimanga la repubblica quando nasce nel 1870 ma con le leggi costituzionali del 1875 si raggiunge un equilibrio che si consoliderà nel tempo con soluzioni che come è il caso dell'istituto del settennato presidenziale inizialmente introdotto su misura per il presidente Mac Mahon in attesa che si risolvesse l'alternativa tra monarchia e repubblica soluzioni che saranno riprese in diversi altri contesti nazionali la terza repubblica è anche il regime politico in cui l'eredità della rivoluzione dell'89 diventa un punto di riferimento fondamentale per la costruzione di un modello repubblicano che si radica come sistema di valori imperniato sulla dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino e in base a questo riferimento che ci si batte alla fine del secolo per ottenere la revisione del processo ad refus e come concezione politico-istituzionale fondata sul primato del Parlamento questo modello repubblicano entra però in crisi nel periodo tra le due guerre sotto i colpi dello sviluppo del processo di industrializzazione basato sulle grandi fabbriche che porta alla ribalta una classe operaia che non viene facilmente integrata nell'ambito del sistema politico e basti pensare alle reazioni che suscita l'esperienza del font populaire nel 1936 entra in crisi per gli effetti della crisi economica del 29 e poi ovviamente delle tensioni internazionali incapace di riformarsi il sistema politico si adatta alla nuova congiuntura ricorrendo sempre di più allo strumento del decreto legge per poi crollare a seguito della etrange defette del 1940 nella drammatica transizione al regime di Vichy la dimensione costituzionale riacquista nuovamente uno spazio centrale infatti il conferimento dei pieni poteri al maresciallo Petain da parte del Parlamento riunito in questa località termale ha come finalità la promulgazione di una nuova costituzione il mandato che riceve il maresciallo è infatti quello di promulgare attraverso uno o più atti la nuova costituzione non più della Repubblica ma dello Stato francese l'etat français che sarà la denominazione ufficiale del nuovo regime e quanto incida la questione costituzionale in questo passaggio storico lo si evince dal fatto che nei due primi passaggi della procedura di conferimento dei pieni poteri vale a dire il voto separato delle due Camere sull'apertura della procedura di revisione costituzionale i voti contrari sono solamente tre alla Camera e uno al Senato questo perché la Costituzione della Terza Repubblica viene ritenuta ormai indifendibile anche da quasi tutti quei parlamentari che il giorno dopo il 10 luglio saranno 80 contro 569 si opporranno alla delega dei pieni poteri a Petè il sentimento largamente condiviso di una Costituzione quella della Terza Repubblica rivelatasi inadeguata di fronte alla crisi e all'emergenza bellica è un potente fattore nel processo che conduce le Camere al suicidio quello che è di fatto un suicidio istituzionale al di là dei loro difetti le leggi costituzionali del 1875 diventano così il capro espiatorio di una nazione allo sbando che vive nel giugno-luglio 1940 una crisi devastante paragonabile per intensità all'8 settembre in Italia concludo con un accenno alla transizione del dopoguerra dopo che Vichy si configura come un regime politico formato da componenti diverse Stanley Hoffman ha parlato di dittatura pluralista ma accomunate dal ripudio della tradizione repubblicana assorta dalla rivoluzione dell'89 la rifondazione della Repubblica all'indomani della liberazione deve fare nuovamente i conti con questa tradizione il rinnovato ricorso al potere costituente presenta alcune analogie con la esperienza dell'assemblea dell'89 nella misura in cui la scrittura della nuova Costituzione si accompagna contrariamente a quel che avviene in Italia ad un'ampia azione di riforma in campo economico sociale e amministrativo ma nella nuova transizione storica non c'è un anziano regime da abbattere a linea più della Costituzione del 1791 si sostituisce la difficile ricerca di un rinnovamento della tradizione repubblicana sviluppatosi a partire dal riferimento alla rivoluzione una tradizione che deve essere conciliata ora con la volontà di un'ampia riforma delle strutture economiche e sociali che si è ampiamente manifestata tra le forze della resistenza non mi addentro sulle difficoltà che incontra nel processo costituente francese dopo guerra questo sforzo di conciliazione ricordo che solo che sono necessarie ben due assemblee costituenti per arrivare a un compromesso che segna il ridimensionamento vado verso la fine di molte delle ambizioni iniziali dei principali soggetti della transizione voglio però sottolineare che in questo compromesso rientra come noto proprio il recupero integrale della dichiarazione dei diritti del 1789 il cui valore è solennemente riaffermato nel preambolo della nuova costituzione respinta e denigrata da Vichy l'eredità rivoluzionaria è oggetto quindi di uno spettacolare recupero che serve anche a controbilanciare i principi di interventismo economico e di democrazia sociale menzionati nello stesso preambolo la riaffermazione della dichiarazione dell'89 viene visto da molti anche come una necessaria valvola di sicurezza rispetto a un'azione riformatrice che dopo la liberazione si è tradotta in numerose nazionalizzazioni e misure sociali l'onda lunga della rivoluzione francese incide profondamente quindi nel passaggio storico della transizione alla quarta repubblica addirittura e termino su questo punto con il passaggio dalla forma tradizionale dell'impero coloniale alla nuova union francese i principi costituzionali della cittadinanza repubblicana vengono estesi al vastissimo e articolato mondo dei possedimenti d'oltre mare nelle due assemblee costituenti troviamo rappresentanti di primissimo piano dei popoli colonizzati come il futuro presidente del senegal leopold sedar senghor ufuet buagni futuro presidente della costa d'avorio che si battono per la piena estensione dei diritti di cittadinanza agli abitanti delle colonie sedar senghor in particolare presenta un'ambizione un ambizioso disegno di dialogo tra i principi dell'89 e la cultura africana e ritiene che la costituzione la nuova costituzione dovrebbe promuovere questo dialogo ma se la prima assemblea costituente la prima delle due del 45 46 manifesta una sensibile apertura alle richieste dei colonizzati la seconda assemblea incorpora la maggioranza dei popoli d'oltremare in una repubblic che nei loro confronti si manifesta soprattutto nella veste di una repubblica una e indivisibile e l'incapacità di definire nella costituzione nel lunghissimo titolo sull'union francese le modalità di un percorso graduale di emancipazione contribuirà ad accendere le guerre coloniali che indeboliranno la quarta repubblica e condurranno all'apertura di una nuova transizione quella del 1958 grazie io ringrazio 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 molto il professor Guerrini anche che è stata una lotta riuscire nei tempi a stare riuscire a stare nei tempi e poi potremo con calma leggere la relazione e il testo scritto ringrazio molto e ci sono dei passaggi che vi sono particolarmente interessanti e anche molto attuali l'ossessione costituente a certo punto parli dell'ossessione costituente la rottura sistemica dice 1789 sarà analizzata nel tempo dell'ossessione costituente oggi viviamo altre forme di ossessione ci sono delle altre non le cito ma abbiamo siamo circondati da ossessioni di vario tipo e tu dici appunto di quel decennio che si chiude con il colpo di stato di Brumaio nella dimensione dell'ongure di una instabilità politica istituzionale che si attenua con il consolidamento della terza repubblica e poi si ripresenta in maniera drammatica con il colpo di questo regime quindi ancora una volta la velocità della rimersione delle catastrofi e quindi il senso della tradizione con la percezione anche che ci può essere una velocità incredibile in quale in quale in quale emergere situazioni sicuramente regressive adesso ho il piacere di introdurre e dare la parola alla professoressa Simona Colarizzi professore merito di storia contemporanea alla sapienza di Roma tra i suoi più recenti lavori scrittura altissima tra i suoi più recenti lavori passato presente alle origini di oggi 1989-1994 un paese in movimento l'Italia negli anni 60 e 70 e anche di recente 900 d'Europa l'illusione l'odio la speranza l'incertezza c'è la parola grazie grazie ah è quello allora intanto vorrei vorrei iniziare ringraziando ringraziando per due ragioni uno perché mi fa molto piacere ed è la prima ragione di discutere e di di confrontarci tra discipline io trovo che questo sia una un arricchimento per tutte le scienze e quindi per me grazie ai costituzionalisti all'associazione dei costituzionalisti italiani di avermi chiamato peraltro la mia carriera accademica è cominciata in una facoltà di giurisprudenza per cui potete capire quanto per me abbia contato il reciproco incontro tra discipline mi hanno insegnato molto i giuristi anche se io all'inizio li trovavo noiosi ma non è vero allora questa è la prima ragione la seconda la seconda ragione ma ero piccola ero piccola la seconda ragione è che mi fa molto piacere di essere la Federico II io ho passato dieci anni della mia carriera lunga carriera accademica tutti gli anni 80 li ho passati a Napoli alla Federico II alla facoltà di scienze politiche e devo dire non lo dico perché sono qui a Napoli perché lo dico continuamente sono stati gli anni più belli accademicamente parlando e di maggiore soddisfazione a livello degli studenti non ho mai avuto degli studenti così intelligenti così bravi così vabbè finisco qua perché se no mi commuovo perché effettivamente per me e poi mi hanno accompagnato per tanti anni ovviamente della mia della mia carriera dunque ovviamente il tema è troppo vasto io cercherò anzi voglio assolutamente che il nostro presidente di commissione mi interrompa ma cercherò di concentrare al massimo questo intervento ed è un intervento che io limito ovviamente alla rivoluzione industriale cioè agli effetti della rivoluzione industriale sfiorando solo la rivoluzione tecnologica e cercando alcuni riferimenti ci sono due rotture costituzionali o due rotture istituzionali profonde nel primo periodo della rivoluzione industriale cioè vale a dire dal diciamo fine secolo la prima rottura fine secolo diciannovesimo la prima rottura costituzionale è ovviamente il passaggio da uno stato liberale alla dittatura fascista la seconda la seconda rottura della continuità è la fondazione della delle repubbliche della repubblica repubblica democratica antifascista una rottura profonda irreversibile la terza la terza transizione non è una transizione che possiamo per forza definire o definire in qualche misura costituzionale istituzionale però è talmente dirompente è talmente una profonda rottura della continuità quella che avviene fra il 92 e il 94 che è entrato prima era un termine giornalistico ma è entrato persino anche gli storici anche la storiografia l'ha assorbito il passaggio dalla prima alla seconda repubblica non è come in Francia ma è un passaggio molto forte allora partiamo dalla prima transizione cioè quella che il crollo dello stato liberale c'è un rimane anche oggi un libro degli anni 70 di Kwan Linz sulla caduta dei regimi democratici è un libro che io continuo a consigliare di studiare in cui Linz afferma con forza la tesi che la caduta dei regimi non è ineluttabile io ho studiato soprattutto la storia da un punto di vista della politica e naturalmente sono abbastanza d'accordo con Linz non c'è mai una ineluttabilità di una crisi ci sono tanti momenti che convergono e fanno sì che questa crisi esploda non sia più controllabile allora nel caso della crisi dello stato liberale che ci fosse una crisi del liberalismo io mi limito al caso italiano però è una crisi del liberalismo che circola per tutta Europa non è solo limitata al discorso per tutta ovviamente l'Europa occidentale dove già erano affermati dei regimi liberali non lo sto a ripetere in Italia il problema di questa crisi dello stato liberale è una crisi ovviamente che non si palesava o perlomeno però che aveva tutta una serie di sintomi è proprio determinata dal fatto della grandissima difficoltà della classe dirigente liberale risorgimentale e i suoi eredi ed epigoni di confrontarsi con quello che è l'effetto più dirompente della rivoluzione industriale cioè la nascita delle società di massa e in Italia questa nascita della società di massa si sposa si unisce a un altro elemento che è il discorso della nazionalizzazione delle masse e questo è un problema sapete che gli italiani si portano dietro per molti anni per moltissimi anni direi che quasi fino agli anni 60 1960 61 e in realtà poi ci sono elementi che continuano a fare esplodere questo problema in Italia è particolarmente forte questo problema della nazionalizzazione delle masse perché le grandi masse italiane parlo solo e parlerò di grandi masse non posso mettermi nei particolari le grandi masse sono le masse che si stavano politicizzando premevano diciamo alle porte dello Stato volevano entrare alle porte dello Stato e si erano politicizzate erano state educate erano state organizzate su ideali su valori diciamo di socialismo sappiamo benissimo quanto in ritardo è il dibattito sul marxismo in Italia nelle elite anche nelle elite socialiste italiane ma in ogni caso le masse erano masse socialisti a cui a poco a poco però il valore che andava precisandosi dentro le masse oltre ovviamente alla lotta di classe eccetera è un valore di internazionalismo perché sono i proletari di tutto il mondo che si devono unire non la nazione quindi diciamo questa è un'anti-nazione il principio di questa anti-nazione è così definite le masse è un'elite che definisce le masse anti-nazione certo che cerca di nazionalizzare certo che cerca di fare gli italiani no? questo è un'eredità risorgimentale del tutto in evasa e però le sta lasciando al di fuori dello Stato non si può fidare delle masse proletari ci sono dei passaggi su cui poi ritorno l'altro aspetto è che le altre grandi masse che si vanno politicizzando sono le masse cattoliche e i movimenti cattolici che peraltro in Italia sono piuttosto importanti e quelle sono altre masse che vengono educate e vengono politicizzate e vengono organizzate qual è il problema della nazione? beh questo è noto a tutti non è che posso mettermi a ridiscutere il problema del rapporto Stato-Chiesa in Italia però se sono masse cattoliche fedeli della Chiesa in cui i loro grandi organizzatori sono anche parte del clero se non addirittura parte importante del clero il fondatore del Partito Popolare è Don Sturzo c'è una fedeltà alla Chiesa e una fedeltà a una Chiesa che questo Stato questa monarchia sabauda ha scomunicato quindi la lealtà dei cattolici è una lealtà su cui la classe dirigente liberale fino a un certo periodo non può contare fino in fondo e questo ovviamente da la classe liberale si trova un po' assediata di fronte deve governare un paese che sta crescendo a livello industriale che sta crescendo a livello di consapevolezza politica avendo nel suo corpo principale fatto cioè delle masse e avendo non avendo la lealtà di questo corpo e questo è un grossissimo problema se pensate è chiaro che poi col passare degli anni diciamo la lealtà dei cattolici diventa sempre più un dato che viene dato che che è vero che cioè si crea ma bisogna arrivare al 1929 cioè bisogna c'è anche il passaggio del fascismo c'è anche un altro protagonista che la classe liberale non capisce di cui non riesce ad afferrarlo perché lo dà per scontato ed è la grande mobilitazione non è solo la classe operaia o i contadini che bussano alla porta dello Stato e vogliono che lo Stato si allarvi è uno Stato liberale non è uno Stato demografico ma c'è un'altra massa che cresce quanto la massa operaia e questi sono i cetimedi nuovi e vecchi cetimedi di cui la classe dirigente liberale dà per scontata la fedeltà e la lealtà al liberalismo la data è scontata ma è vero non è vero ma questo ceto medio era diciamo l'elettorato in un elettorato ancora ovviamente ristretto ma comunque veniva considerato un elettorato naturale anche nel 1913 quando viene approvato il suffragio universale ma è vero che questo ceto medio voleva rimanere per sempre subalterno no perché ovviamente è un ceto medio in ascesi in parte è un ceto medio invece in decadenza questi sono i processi che attraversano l'industrializzazione e un ceto medio che invece non trova più una collocazione tra l'altro terrorizzato proprio dalla capacità organizzativa e rivendicativa delle masse e quindi teme poi la proletarizzazione e in tutto questo qual è poi il ceto medio è la ricerca di una sua identità politica le masse operaie contadine hanno un'identità politica socialista cattolica hanno delle organizzazioni politiche e il ceto medio non ha nessuna organizzazione politica e quindi è alla ricerca della sua identità politica perché come tutte le classi cerca di ascendere no? questo è logico è normale dove la trova la sua identità politica chi gliela dà la sua identità politica la trova sulla nazione e qui nasce il grande equivoco perché naturalmente la classe dirigente liberale punta alla nazionalizzazione delle masse però non ha gli strumenti per nazionalizzare e questo secondo me è uno dei nodi principali che poi ci porta alle altre rotture a cui farò solo cenno la classe dirigente liberale non crede nelle organizzazioni politiche non crede nei partiti non ha mai pensato di darsi un partito di massa ha sempre pensato che i partiti di integrazione di massa siano per le masse proletarie diseducate e poco istruibili diciamo adesso io sto cercando di sintetizzare al massimo ovviamente il dibattito sul partito sulla forma partito è una parte integrante della storiografia però non voglio mettermi a citarvi ho un'età tale che non c'è bisogno che faccia vedere tutta la dottrina che possesso però diciamo è questo un grossissimo problema è un problema proprio di era necessario per cosa serve a governare una società di massa si possono le masse devono in qualche modo essere incanalate e allora c'è l'equivoco perché la classe dirigente liberale non capisce il grande fermento che c'è nei cittimedi guardate che è un fermento molto forte e c'è tutta una diciamo intellettualità quella che doveva epater le bourgeois che vada ad annunzio ai futuristi con una ideologia molto forte con dei valori forti con dei valori di fare l'Italia grande cioè non basta la nazione la nazione deve essere grande in totale polemica con la classe dirigente liberale in totale polemica in fondo il povero Giolitti aveva cercato di creare degli spazi politici organizzativi per le masse però Giolitti è il nemico è l'italietta di Giolitti qua si vuole la guerra e mentre dall'altra parte ovviamente anche le masse proletarie vogliono la rivoluzione in maniera sempre più non accettano più le riforme e lì esplode tutto naturalmente la prima guerra mondiale è un acceleratore infinito di tutti questi processi che già indebolivano la classe dirigente liberale i liberali non si non si rendono conto c'è un equivoco un equivoco che poi diventa un alibi naturalmente della classe dirigente liberale di guardare ai fascisti come al movimento di Mussoliniano ai fasci di combattimento come i difensori della nazione i difensori della nazione che è assediata e che può essere messa in discussione dalle masse rivoluzionarie che vogliono fare come in Russia siamo in piene guerre civili e non avvengono solo in Italia no il periodo dal 1918 al 1900 io lo porterei molto più avanti ma comunque calcolate che è il periodo delle guerre civili in Germania in Austria in Polonia in Ungheria e poi sarà anche in Spagna cioè è una situazione si vive una delle fasi più terribili più sanguinose della storia d'Europa in cui la crisi dei regimi liberali è anche un acceleratore di queste crisi esplodono le guerre esplodono le rivoluzioni però secondo me per poter arrivare alle altre due transizioni dobbiamo proprio ritornare al discorso del partito cioè al discorso dell'organizzazione politica nel 1945 sono i partiti a essere protagonisti della ricostruzione e della fondazione della democrazia in Italia sono quelle organizzazioni politiche che dovevano servire solo per le masse e no diventano loro il fondamento e si rinnovano molto i due partiti diciamo i due partiti di massa era un partito socialista che nel 1919 aveva 150 deputati alla Camera e il partito popolare che ne aveva 100 la classe dirigente liberale era diciamo era tutta sfilacciata aveva ancora i liberal democratici avevano ancora 98 seggi però era finito l'egemonia liberale è finita dopodiché arriva il fascismo e inutile se nel 1945 di fronte a una situazione che si presenta nel 45 ma quasi peggiore di quella del 19 e del 18 in cui c'è stato 20 anni di fascismo più di 20 anni di fascismo in cui lo stesso Lelio Basso uno dei padri della Costituzione nel 34 scriveva ai suoi compagni in esilio guardate che la parola stessa democrazia in Italia nessuno sa che cosa vuol dire naturalmente nessuno sa stiamo parlando delle grandi masse certo che ci sono sempre delle elite ma le grandi masse non l'avevano mai sperimentate non sapevano cos'era non era tra i valori delle diciamo delle ideologie che creavano l'integrazione di masse la democrazia non era nei valori del socialismo ma non era nemmeno nei valori della religione cattolica cosa c'entra la democrazia al di là poi di una posizione del pontefice che era ovviamente molto dura fino agli anni 60 su questo problema e come fare allora la democrazia chi la fa è lì che nasce un patto tra i partiti sono i partiti che fanno la costituzione tutti i partiti anche i più differenti si mettono d'accordo tra di loro per evitare un nuovo fascismo per evitare l'esplosione di un nuovo fascismo in una crisi di dopoguerra che è ancora più terribile c'è una guerra civile c'è un paese c'è stata una guerra civile c'è stata una guerra mondiale c'è stato un fascismo ci sono state stragi che non conosciute nella prima guerra mondiale è chiaro che bisognava unificare questa popolazione se si voleva creare una repubblica democrata una repubblica cioè bisognava fare anche un cambiamento istituzionale da una monarchia a una repubblica provvedono i partiti i partiti che come si presentano si presentano come garanzia della lealtà dei loro scritti garanzia della lealtà delle loro masse le masse li seguono c'è ovviamente fra i partiti un legame fideistico finisco c'è fra i partiti un legame fideistico e quindi i partiti possono dire di rappresentare le masse non è casuale che uno degli storici cattolici più importanti abbia definito la repubblica italiana la repubblica dei partiti la democrazia dei partiti e questo ci porta per proprio con un volo ci porta alla crisi del 92 94 è evidente che nel momento in cui crollano i partiti tutti i partiti guardate sono crollati alcuni crollano per gli eventi internazionali la caduta la fine della guerra fredda la caduta del muro di berlino è chiaro che uno dei due grandi pilastri della repubblica cade su eventi internazionali paradossalmente anche l'altro perché anche la democrazia cristiana una volta ha perduto il nemico per così dire già logorati eccetera e accade c'è un logoramento dei partiti il regolamento e il logoramento dei partiti su cui assolutamente non intendo diffondermi è un logoramento che comincia già negli anni settanta ed è di caso comincia quando inizia la transizione tecnologica questa transizione tecnologica se noi chiudo se noi la collochiamo all'interno del cioè la vediamo la studiamo e l'analizziamo come il passaggio di un'epoca storica a un'altra è finito il novecento a metà degli anni settanta il novecento finisce finisce perché finisce la società industriale inizia l'era post-industriale post-moderna della tecnologia della comunicazione come la volete chiamare ma finisce la società dei grandi aggregati collettivi non ci sono più la società diventa una società dell'individuo prevale la società dell'individuo e questo è tutto il terreno che è il declino delle ideologie nella secolarizzazione della società e i partiti non hanno più tutti gli strumenti che erano a loro disposizione per reclutare per ritrovare quel ruolo di rappresentanza che oggi è in grande crisi come sappiamo tutti grazie ringrazio la professoressa Colarizzi sia per la bellissima relazione sia per la corsa palatine che per la cosenza e va appunto come dicevo prima ci abbringeremo poi la relazione ecco tu evidenzi due momenti di vera e propria rottura costituzionale nella tua relazione che caratterizzano il periodo della rivoluzione industriale in Italia la crisi dello stato liberale dicevi in 1918 1926 con la nascita della dittatura fascista e la fondazione della repubblica democratica 46-48 che segna l'inizio di un ciclo costituzionale e poi dice in larga misura ancora operata e poi nella parte conclusiva questa merita ulteriori riflessioni dice è difficile definire una vera e propria rottura costituzionale accaduta nel sistema dei partiti e si è entrati nell'epoca quando si comincia quando si è entrata diciamo nell'epoca della rivoluzione tecnologica però per riprendere quello che diceva prima Guerrieri si entra secondo me invece in un momento in un circuito di ossessioni delle ossessioni a volte sgrammaticate proprio di ripensamento delle istituzioni e di ossessione di incursione di modelli anche un po' esogeni alla nostra carta costituzionale si entra quindi dalle rotture alle ossessioni io ringrazio tutti per l'attenzione abbiamo finito questa prima sessione nei tempi perché le 30 minuti che avevamo di ritardo comunque non siamo andati oltre grazie a tutti per l'attenzione e continuiamo i lavori adesso la presidenza Mastromedì la presidenza Mastromedì grazie 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 buongiorno aspetto Buongiorno a tutte e a tutti io ho il compito di presiedere questo tavolo dedicato alla dimensione costituzionale della democrazia integrazione tra scienza della politica e scienza della costituzione e interpreterò il mio ruolo in termini strettamente tecnici perché così era stato immaginato al momento di pensare questo programma la possibilità che effettivamente non riuscissimo a trovarci in presenza è rimasta viva sino all'ultimo momento e quindi ci ha obbligato a immaginare di prevedere delle presenze diciamo così tecniche che riguardassero gli organizzatori anche per ovviare ad eventuali problemi che sappiamo esserci spesso negli incontri a distanza oggi permettetemi solo di dire che personalmente ma credo molti di noi vivono la gioia della presenza e se lo possiamo fare grazie ai colleghi di Napoli che voglio ringraziare vivamente per averci permesso di essere tutti qui e li voglio ringraziare per la squisita ospitalità che sempre li contraddistingue però lo possiamo fare anche perché l'associazione ha colto e ha vinto una sfida che è quella di scommettere su un convegno in presenza non era per nulla scontato quando ci siamo trovati e bisognava scegliere cosa fare abbiamo scelto di immaginare il convegno in presenza in tempi in cui in realtà si trattava davvero solo di una sfida e l'abbiamo fatto nell'incertezza ma con una convinzione cioè che il diritto è prima di tutto incontro, a volte scontro ma è comunque una situazione che si vive con il corpo, con la presenza perché in fondo il diritto è quello spazio in cui si studia come stare insieme e dunque è quello che ci contraddistingue e allora farlo diventa essenziale ancora di più oggi mi pare perché se lo spazio privato in quest'ultimo anno e mezzo è diventato sempre più uno spazio eroso dalla presenza dell'autorità pubblica le nostre case per esempio sono diventate un luogo dove l'autorità pubblica è entrata a raccontarci come dovevamo vivere in questo anno e mezzo dall'altra parte lo spazio pubblico è diventato sempre più uno spazio virtuale e in questo senso diciamo anche il nostro modo di stare insieme e di confrontarci è cambiato ecco perché ci sembrava come associazione importante riportare come dire un po' la barra al centro e provarci e ci abbiamo provato e credo che grazie al presidente e a tutto il direttivo siamo riusciti a portare a casa questo risultato non sono io che devo dirlo però credo che sia giusto ricordarlo presidente grazie dunque senza ulteriori indugi lascio immediatamente la parola al primo relatore che non ha bisogno in questa sede probabilmente in nessuna sede ma meno che mai in questa di una presentazione lascio la parola al professor Tommaso Edoardo Fosini ricordo solo che professore ordinario di diritto pubblico comparato all'università solo orsola ben in casa dove anche direttore del dipartimento di giurisprudenza tutti noi conosciamo la sua amplissima produzione scientifica ricordando una cosa piuttosto che un'altra farai sicuramente torto qualche produzione presenta una relazione dal titolo diritto costituzionale e scienza politica convergenze parallele al professor Fosini la parola 30 minuti mi riservo di toglierla va bene grazie Anna buongiorno a tutti cari amici e colleghi innanzitutto mi scuserete come molti amici sanno io non amo leggere di solito provo a esporre a braccio stavolta mi trovo costretto a leggere perché il tema è complesso e vorrei tenermi in un binario prefissato senza rischi di divagazione allora per iniziare a illustrare termini e modalità di confronto e raffronto tra il diritto costituzionale e la scienza politica occorre partire da un preciso periodo storico che è il finale dell'ottocento in quel periodo cioè in cui Vittorio Emanuele Orlando e Gaetano Mosca iniziavano con le loro opere a delineare e imprimere una elaborazione organica delle due materie inizia Orlando con il saggio frutto di tre poluzioni accademiche sui criteri tecnici per la ricostruzione giuridica del diritto pubblico che è del 1889 e dove vengono gettate le semente della dottrina giuspubblicistica italiana la vicenda è assai nota e non la ripercorro avendolo peraltro già fatto in un seminario della nostra associazione che si tenne a Modena nel 2016 Gaetano Mosca anche egli professore di diritto costituzionale invece scrive gli elementi di scienza politica nel 1896 sistematizzando in maniera organica la sua teoria della classe politica già delineata in un volume dell'83 sulla teorica dei governi del governo parlamentare senza l'ambizione di fontare un metodo di studio alternativo a quello di Orlando né tantomeno una nuova disciplina universitaria anzi come è noto Mosca concluderà la sua carriera quale professore e fondatore della storia delle istituzioni politiche l'apparente contrapposizione di interessi scientifici tra Orlando e Mosca è frutto a mio avviso di un equivoco di fondo che è quello di volere etichettare i due studiosi come giurista l'uno e politologo l'altro con lo scopo di creare un fossato divisore all'interno del diritto costituzionale materia alla quale per concorso appartenevano entrambi tra coloro che sono o meglio si sentono costituzionalisti giuristi e quelli considerati costituzionalisti politologi divaricazione che ancora oggi si prova a voler mantenere nonostante appaia datata e anacronistica come proverò a chiarire più avanti Orlando e Mosca sono state due figure di studiosi eccezionali e contrappositi sul piano metodologico vuol dire ridurne il loro determinato contributo per l'affermazione, la crescita e le potenzialità del diritto costituzionale se a distanza di due secoli dalle loro opere non possiamo prescindere dalle stesse vuol dire che il loro magistere è fondamentale anzi fondante qualunque rifessione scientifica si voglia fare in punto di diritto costituzionale e i suoi confini scientifici tante cose ci sarebbero da dire e rinvio al testo scritto voglio però almeno dire una cosa Orlando fonda il metodo giuridico del diritto pubblico ispirandosi alla dottrina tedesca quantomeno per due ragioni primo per dare un senso all'impegno alla missione di giurista e di professore universitario elaborando nuovi criteri per lo studio e il metodo del diritto pubblico e creando così una nuova scuola di giusti pubblicisti che si facessero portatori e diffusori di quel metodo secondo per contribuire come giurista e come uomo politico a definire le strutture portanti del nuovo Stato e fondare così una certa idea di nazione Mosca invece diversifica i suoi interessi perché non si sofferma sulle vicende domestiche che non sono mai oggetto precipuo delle sue analisi ma interpreta le dinamiche di funzionamento delle istituzioni elaborando teorie che fossero valide soprattutto fuori i confini nazionali come la teoria dell'elite e della classe politica che va ben oltre le frontiere nazionali come dimostrato dalle numerosissime traduzioni delle sue opere e della larga diffusione all'estero del suo pensiero in sintesi possiamo dire che Orlando assume il diritto per organizzare il potere Mosca scruta il potere per capirne le dinamiche organizzative negli Stati a tendenza liberale sono due modi anzi due metodi distinti ma non distanti attraverso i quali giungere allo stesso obiettivo che è quello di produrre idee e proporre soluzioni per organizzare al meglio la società e le sue istituzioni non si dimentichi peraltro che entrambi furono uomini di governo e quindi vissero anche dal di dentro il potere per così dire dopo Orlando e Mosca e con loro tutti quegli studiosi che valorizzavano un metodo piuttosto che l'altro e fra questi mi piace ricordare qui all'Università di Napoli Giorgio Arcoleo che fu illustre professore di diritto costituzionale la contrapposizione metodologica si acquietò per poi tornare come vedremo negli anni 50 la messa in sonno per così dire della questione del metodo caratterizzò il periodo storico del regime fascista pur cosa la cultura del regime poco tollerava l'approccio liberale ai temi costituzionali di Orlando e Mosca e non traeva benefici dalle loro dottrine in quanto non erano funzionali al progetto politico fascista non lo era il metodo giuridico che poteva apparire come un alibi per non affrontare e quindi non valorizzare i cambiamenti istituzionali in atto non lo era il metodo più inclina in analisi del fenomeno politico che scardinava l'unicità del potere attraverso una critica realista allo stesso il diritto costituzionale e la scienza politica sebbene quest'ultima non fosse ancora istituzionalizzata trovavano durante il regime una sorta di sintesi nella dottrina dello Stato di cui furono autorevoli rappresentati fra l'altro Sergio Panunzio, Senior e Carlo Costamagna a differenza però della dottrina generale dello Stato di Jelinek, di Kelsen eppure di Orlando quella che si erodicò nell'Italia della seconda metà degli anni 20 si trattava di un ircocervo dalle incerte traiettorie metodologiche ma delle chiare finalità politiche che erano quelle di dare forza argomentativa e solidità scientifica alla definizione del nuovo Stato fascista con tutte le sue declinazioni sulla forma di governo e sul ruolo del partito politico la dottrina dello Stato non seguì la fine del regime e sopravvisse anche nel periodo repubblicano affievolendosi sempre più come materia autonoma ed espandendosi invece quale contenitore concorsuale dove hanno beneficiato filosofi del diritto, costituzionalisti e anche futuri politologi durante il periodo storico del fascismo venne pubblicata come è noto la Costituzione in senso materiale di Mortati la cui concezione, sebbene manipolata nel tempo rispetto alla versione originaria ha contribuito in maniera significativa alla contaminazione tra gli studi di diritto costituzionale e quelli di scienza politica un'opera, quella di Mortati che risentiva tra l'altro molto anche della teoria della classe politica di Gaetano Mosca con l'approvazione e l'entrata in vigore della Costituzione Repubblicana gli studi di diritto costituzionale si caratterizzavano per un approccio giuridico anziché politologico d'altronde vi erano le norme costituzionali codificate dalle quali occorreva partire per spiegare e interpretare l'assetto istituzionale che andava delineandosi nel paese non ritengo che fu una riaffermazione del metodo orleandiano piuttosto un'esigenza quasi pedagogica di chiarire e spiegare gli articoli costituzionali e gli istituti che in questi erano affissati partendo dal diritto positivo in mancanza peraltro di passi, convenzioni e comportamenti delle forze politiche che avrebbero richiesto un diverso approccio metodologico in quegli stessi anni nasce in Italia la scienza politica come materia universitaria dopo le travagliate vicende sul radicamento della facoltà di scienze politiche qua l'autonomo corso di laurea preceduta da un dibattito fra i filosofi del diritto Bobbio e Leoni i quali sebbene supposizioni diversificate convenivano sulla necessità di dare vita una scienza politica che fosse strumentale a rafforzare la nascente democrazia italiana si deve a Giovanni Sartori non solo l'istituzione della prima cattedra di scienza politica in Italia nel 1966 ma la declinazione scientifica della materia a partire dall'opera Democrazia e definizioni del 1957 Sartori proveniva dalla storia della filosofia moderna aveva vinto il concorso in sociologia ma aveva da subito coltivato interessi di studio sulla teoria politica favorito dall'ambiente fiorentino della Cesare Alfieri dell'epoca che aveva in Pompeo Biondi, Giuseppe Maranini e Carlo Curcio degli studiosi attenti allo sviluppo delle scienze sociali e politiche sebbene appartenessero a diversi settori scientifici disciplinari il caso di Maranini poi interessante anche ai fini della presente relazione costituzionalista ma assai inclina allo studio del fenomeno politico soprattutto di quei temi forma di governo del sistema elettorale che saranno come vedremo gli argomenti che maggiormente incideranno nello studio condiviso fra costituzionalisti e politologi Sartori si ispira a Mosca ma segue Orlando per così dire infatti fonda un metodo e una scuola e individua i confini della disciplina prendendo le distanze dai giuristi ai quali imputa di scambiare le forme con il loro contenuto e di studiare i comportamenti in quanti regolati dalla natura di un determinato ordinamento giuridico a differenza dello scienziato della politica il quale studia le motivazioni e le conseguenze rispetto ai fini proposti Sartori insistette moltissimo sulla distinzione fra la scienza politica e le altre scienze sociali il diritto costituzionale in primis sebbene negli Stati Uniti d'America paese assai caro allo stesso Sartori e più in generale ai politologi la distinzione fosse assai meno avvertita dove invece la coincidenza fra studi politici e studi di diritto pubblico veniva predicata e praticata così come in Francia dove addirittura la materia è droit costituzionale e l'istituzione politica quindi una perfetta simbiosi fra i due saperi scientifici e la rivista principale dei costituzionisti francesi è stata per lungo tempo PWA che raccoglie contributi con accentuazioni giuridiche e politeleogiche che si integrano perfettamente l'esperienza straniera è fondamentale per chiarire i termini del rapporto fra diritto costituzionale e scienza politica e anche qui consentitevi di rimandare al testo scritto per gli approfondimenti in Italia però non è mai schioccata davvero una scintilla tra costituzionalisti e politologi sebbene abbiano finito per occuparsi di uguali tematiche ognuno però con la sterile presunzione di non voler cedere all'altro porzioni della propria giurisdizione disciplinare Sartori ha dittato la linea con la quale dividere la scienza politica dalle altre scienze e rende l'autonome specialistica il cui compito consiste in prevalenza nella capacità di prevedere la politica ed essere così in grado di tratteggiare il futuro nella sua verosimiglianza e probabilità a questa operazione concorre in maniera significativa la politica comparata alla quale Sartori assegna un ruolo importante definito il perimetro della scienza politica attraverso il compasso del suo fondatore occorre chiedersi quale spazio si andava ritagliando il diritto costituzionale in quegli anni vorrei dire che le rompere della scienza politica con i suoi interessi di studio sulle dinamiche istituzionali ha messo a disagio la scienza costituzionistica italiana che si è arroccata nelle esegesi delle fonti del diritto e della giustizia costituzionale che sono diventati temi sui quali battezzare come giurista il costituzionalista così facendo però ha finito con l'assumere una sorta di complesso di superiorità nei confronti dei politologi sebbene l'oggetto degli studi fosse in molti casi lo stesso infatti tematiche come le forme di governo i partiti politici i sistemi elettorali l'indirizzo politico e poi soprattutto le riforme istituzionali impegnavano sia i costituzionisti che i politologi in maniera però distinta e distante una delle poche eccezioni di quegli anni fu l'attribuzione del commento all'articolo 49 nel famoso commentario branca affidata a un politologo anziché a un giurista e la cosa destò scalpore una prima considerazione di quanto finora detto la si può già avanzare negli studi tra costituzionalisti e politologi non c'è stata reciprocità e non mi riferisco solo al giochino accademico delle citazioni bibliografiche dove è assai raro trovare citati lavori di politologi negli iscritti di costituzionalisti e così viceversa si avverte quasi una reciproca e volontaria ignoranza mi riferisco piuttosto al campo di indagine degli studi dove vi sono interessi comuni come quelli prima ricordati ma vi sono parimenti settori specie nel diritto costituzionale che non possono essere coltivati dai politologi insistere però su questa linea di confine non ha oggi ragion d'essere anche un illustre giurista come Massimo Severo Giannini vuole accentuare questa provocazione secondo il suo stile un po' paradossale come non ricordare la sua definizione del giurista Ka Schmidt come politologo datato e invece secondo me proprio Schmidt e così pure Kelsen rappresentano il miglior modo di essere studiosi del diritto e delle istituzioni politiche il costituzionalista infatti deve essere come la volpe che sa tante cose piuttosto che come il riccio che ne sa una sola grande la contaminazione fra il diritto costituzionale e la scienza politica è avvenuta su una serie di temi sui quali la competenza dell'una e dell'altra è riconosciuta metterei sullo sfondo la costituzione in senso materiale nell'evoluzione che questa formula ha subito nel dibattito pubblico quindi la costituzione praticata e attuata dalle scelte e dai comportamenti delle forze politiche è chiaro che in quest'ottica finiscono per convivere le norme scritte con l'effettività delle stesse dove quest'ultime hanno prevalso consegnando quindi all'analisi politologica quale bussola per individuare l'andamento del sistema politico delle tematiche da me indicate uguali interessi comuni fra costituzionisti e politologi sicuramente quella sulle forme di governo è stata la più frequentata sia ai fini classificatori delle stesse che dal punto di vista dell'analisi del concreto atteggiarsi nel contesto del sistema istituzionale esemplare da questo punto di vista è la voce di Leopold Delia per l'Encicopedia del diritto 1970 che è chiaramente ispirata alla dottrina politologica si tratta di un testo che al di là del contenuto davvero innovativo rappresenta ancora oggi il modo migliore di come un costituzionalista possa beneficiare della politologia per definire il concreto funzionamento della forma di governo attraverso l'intuizione delle norme costituzionali a fatti specie aperta e quindi suscettibili di essere qualificate dal sistema dei partiti e integrate dalle regole convenzionali che adesso fanno capo il saggio di Elia ha aperto una breccia negli studi di diritto costituzionali rendendoli più avvertiti alle dinamiche politiche e alle interpretazioni politologiche specialmente in punto di classificazione delle forme di governo in relazione vuoi al sistema politico partitico vuoi al sistema elettorale esercizio questo che ha visto maggiormente impegnati con su sui comparatisti da sempre più sensibili all'approccio politologico anche nell'ottica della politica comparata sulla quale insisteva Giovanni Sartori il merito del saggio di Elia è stato certamente quello di aver saputo sapientemente dosare e mescolare la riflessione giuridica con quella politologica e così chiarire il problema della forma di governo nel suo effettivo funzionamento questa impostazione ha avuto seguito di apprezzamento ma anche critiche di chi ha ritenuto che la forma di governo fosse tema da trattare giuridicamente senza nulla concedere al contributo della scienza politica in tal modo provando a separare le due declinazioni scientifiche e valorizzare il solo metodo giuridico anche al fine di prevenire la rischiosità di elementi come il sistema dei partiti e le variabili elettorali anche sul fronte dei politologi salvo qualche eccezione non mi pare che sia stata riconosciuta l'importanza del contributo di Elia anche nell'ottica di un benefico collegamento fra la riflessione costituzionalista e quella politologica al tema della forma di governo è sprettamente collegato quello del sistema elettorale non sono certo mancati studi di costituzionalisti che si sono dedicati a questa tematica sia pura prevalenza costituzionalisti e comparatisti anche perché l'esame del tema non può prescindere dallo svolgimento in vari paesi e la comparazione fra essi sebbene anche il tema dei sistemi elettorali abbia subito una tendenziale indifferenza da parte di coloro che non lo hanno retenuto tema degno di giurista salvo poi ammetterlo nella propria giurisdizione disciplinare allora quando la corte costituzionale ha iniziato a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale delle leggi elettorali i politologi come è noto hanno lavorato molto sui sistemi elettorali ignorando però e sottovalutando quanto scritto dai costituzionalisti e anche quanto deciso dalla corte costituzionale certo se c'è stato un tema sul quale si sono incontrati e scontrati la scienza costituzionista con quella politologica è stato quello delle riforme istituzionali un tema sul quale il genere giornalistico è stato privilegiato rispetto a quello scientifico è vero che non sono mancati numerosi libri e monografie in larga parte però ascrivibili alla letteratura Harmony come la chiamava un illustre collega sulle riforme istituzionali si è assistito a reciproche invasioni di campo che hanno reso indecifrabile l'oggetto dell'analisi e confusa e inconcludente i risultati della ricerca questo è stato dovuto anche un'eccessa politicizzazione del dibattito con riflessioni che in larga parte erano suggerimento indicazione a una parte politica o al politico di turno una babbele di posizionamenti ammantati di costituzionalismo che hanno minato la nostra credibilità di studiosi e anche la scientificità delle due materie che si sono appiattite sulla condigenza e sull'effimero della politica politisietta se analizziamo Sineira Sineira Acc Studio l'alluvionale produzione di libri articoli interviste e dichiarazioni sulle riforme istituzionali affardata dalla commissione Bozzi fino al referendum del 2016 non possiamo non riconoscere fatte salve le dovute eccezioni una tendenza a dire e contraddire a valorizzare o demolire a elaborare paradossali proposte di modifica costituzionale mi è impossibile fare un elenco perché sarebbe numerosissimo e assai variegato anche un illustre studioso come Sartori è inciampato per così dire in questo percorso allora quando propose una stravagante forma di governo a presidenzialismo alternante che nasceva presidenziale e poteva diventare parlamentare nel corso del mandato alcuni di voi ricorderanno quel saggio eppure l'analisi delle istituzioni anche con riferimento alle ipotesi di riforma delle stesse poteva davvero essere il terreno comune dove creare forme di integrazione e non di commistione fa la scienza costituzionalistica e quella politologica perché le materie oggetto di analisi istituzionale forma di governo e sistema elettorale soprattutto sono di competenza di entrambe le scienze e l'una si sarebbe potuta arricchire dal contributo dell'altra nell'ottica di una collaborazione interdisciplinare modalità questa oggi non più eludibile nel campo dei saperi si pensi per riferirci al solo diritto alle forme collaborative con la bioetica oppure con l'informatica io credo invece che la vicinanza degli interessi tra diritto costituzionale e scienza politica ne ha favorito la lontananza sempre con riferimento alle riforme istituzionali tematica che ha occupato per larga parte il dibattito negli ultimi trent'anni la corsa a diventare consiglieri del principe anche in previsione di agognati incarici pubblici e professionali ha inquinato quello che sarebbe stato un benefico dialogo che avrebbe temperato gli eccessi polemici e ce ne sono stati e le stravaganze riformistiche dei cultori del diritto costituzionale e della scienza politica siamo però giunti a una fase storica in cui adoperarsi per provare a ricostruire un dialogo tra le due discipline e operazione ardua vuoi per il numero sempre crescente degli studiosi dell'una e dell'altra materia che rende assai difficile la scelta comune di un metodo da seguire vuoi perché la scienza politica quella che non indugia al commento giornalistico preferisce dialogare in termini di politica comparata al punto che la rivista ufficiale della materia viene pubblicata in lingua inglese al fine di una maggiore internazionalizzazione vuoi perché il diritto costituzionale si annoda sempre più una logica di autoreferenzialità con la pretesa di essere centrale per interpretare le istituzioni costituzionali e mostrando una certa attrazione per la politica è vero come scriveva Cachmitt in capivitate salus che il giurista non può sfuggire al pericolo del politico neppure nascondendosi nel nirvana del puro positivismo ma è altrettanto vero che lo dovrebbe fare nella sua qualità di tecnico di esperto chiamato a risolvere problemi sia pure tenendo conto della sensibilità politica personale del giurista come diceva Vezzio Quisafulli in una famosa discussione che ebbe con Maranini sul metodo per le ragioni poco anzi illustrate ritengo che la capacità di stabilire un dialogo interdisciplinare che sia un arricchimento culturale scientifico non sia più imputabile alle discipline in quanto tali ma piuttosto al singolo studioso che si potrà distinguere dalla folla proprio perché saprà meglio di altri ampliare le sue prospettive di ricerca e di analisi senza timore di rubare il mestiere a Don Ferrante anzi nella consapevolezza che l'integrazione addizione di saperi è sempre un arricchimento così come l'ecletismo è una virtù dello studioso concludo i percorsi del diritto costituzionale della scienza politica sono quindi caratterizzati dall'essere e le convergenze parallele per usare una nota formula del lessico politico ciò vuol dire che sono distinti ma non distanti e che dovrebbero parallelamente camminare verso un traguardo comune che è quello della lotta per la democrazia costituzionale e provare così a trovare insieme per le proprie specialità la soluzione a una questione che continua ad alleggiare fin dal 1796 e cioè quale dei governi liberi convenga alla felicità dell'Italia grazie la relazione del professor Rosini dimostra quanto siano inutili le presidenze di fronte a relazioni intense nei contenuti e nelle forme a relatori capaci di stare al secondo nel tempo a loro assegnato quindi la presidenza è evidentemente questo inutile e tecnica non di meno non di meno pensavo che forse è quello che emerge e possiamo dire un dialogo carsico cioè un dialogo che è avvertito come necessario ma che non si vuole riconoscere e dunque è carsico perché resta lì ciascuno di noi si forma in quegli studi ma poi non lo vuole riconoscere tutti noi dobbiamo leggere ma non dobbiamo esatto quindi è carsico e forse esatto pensavo questo in realtà perché siamo consapevoli che sarebbe troppo arido il nostro discorso da giuristi se non avessimo letto quegli scritti anche se poi non lo riconosciamo e infine mi domando ma il riferimento che si faceva alle forme e ai contenuti è quello che ci impedisce a volte di riuscire a dialogare cioè la nostra affezione alle forme al punto che quasi non riusciamo a pensare che al di là della forma si possa ragionare e dall'altra parte l'accusa di essere troppo legati alle forme al punto da non riconoscere un contenuto forse però questo è anche il profilo delle due identità forse qualcosa su cui dialogare e non distinguerci ma insomma detto così senza portare via altro tempo lascio immediatamente la parola al professor Alessandro Campi professore ordinario di scienza politica e relazioni internazionali presso l'università di Perugia dirige la rivista di politica trimestrale che ha fondato nel 2010 editorialista per diversissimi quotidiani nazionali esatto esatto anche l'avrei detto del mattino proprio perché siamo a casa e a lui la parola da Mosca a Sartori il percorso costituzionale della scienza politica italiana grazie per essere qua con noi professore grazie a voi innanzitutto alla presidente e al presidente che ringrazio a nome di tutti i costituzionalisti che mi hanno fatto l'onore di invitarmi a questo appuntamento che ho apprezzato molto dell'impostazione perché è raro è difficile che una comunità scientifica si apra in maniera così ampia al confronto con altre discipline lo si dice sempre ma non lo si fa mai quindi il fatto che ci sia un'occasione come questa merita ovviamente di essere enfatizzata il titolo è un po' pomposo mi è stato chiesto questa mattina in realtà era una chiacchierata quella che avevo impostato su un tema in effetti molto 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 vasto sul quale forse sono un po' meno pessimista rispetto rispetto a Tommaso il dialogo è difficile ma non è non è impossibile tra l'altro dico subito che queste occasioni di confronto sono reciprocamente utili voi cercate di capire come i costituzionalisti possano trarre il beneficio dal appunto dal confrontarsi con studiosi di altre discipline però appunto sono convinto che questa riflessione possa essere preziosa anche dal punto di vista della scienza politica nella misura in cui questa disciplina nell'era che io definisco post-sartoriana credo che cominci a incontrare alcuni problemi nella misura in cui è diventata una grande comunità scientifica una corporazione molto forte però ha perso un po' diciamo qualcosa del suo profilo essenziale voglio essere anche un po' polemico l'ansia di internazionalizzazione che è stata perseguita che ha fatto sì che la nobilissima rivista italiana di scienza politica adesso si possa leggere soltanto in inglese a me parla tanto come dire più che un accreditamento della comunità scientifica italiana all'estero una sostanziale snazionalizzazione della tradizione politologica italiana che è tutt'altra cosa e non precisamente no non ci sono voglia di applaudire ma lo dico perché sono convinto che poi soprattutto nel campo della riflessione politica le tradizioni nazionali abbiano come dire una loro cogenza dal punto di vista della dottrina insomma magari su questo faremo un altro un altro convegno così come per esempio anche l'esplosione di campi di riflessione se da un lato anche quello è stato un arricchimento tra l'altro però mi suscita qualche qualche dubbio in certi casi mi suscita dubbio il fatto che si sono create quelle che io definisco delle piccole e molto redditizie accademicamente industrie culturali io non so quante centinaia di saggi vengono prodotti annualmente sul tema del populismo che io ormai non leggo più perché sono tutti uguali quindi non se ne trae beneficio però capisco perché su quel versante è facile trovare trovare forse finanziamenti in sede europea così come adesso molti politologi che si sono convertiti allo studio dell'anticorruzione perché anche lì in Europa trovi facilmente i soldi è vero che la comunicazione politica è diventata importante nei contesti contemporanei però questo forse non autorizza lo spostamento massivo che c'è stato di interessi di ricerca sul terreno della comunicazione oggi ogni giovane politologo si sente autorizzato a scrivere di leadership ma dal punto di vista della costruzione mediale della leadership comunicazione politica ti sta un po' mangiando che cosa quell'approccio alla dinamica istituzionale e quindi anche ai temi costituzionali che in realtà era nel DNA della scienza politica italiana e quindi questa riflessione può essere anche come dire utile alla scienza politica italiana per ritrovare un po' se stessa voglio provare a farlo attraverso quattro tappe molto molto veloci scandite da quattro nomi Mosca Maranini Miglio Sartori non sono le espressioni migliori della scienza politica italiana ovviamente non è una questione diciamo di gerarchia credo che però siano quelle più espressive per le costellazioni che intorno a questi studiosi si sono si sono costruite ci saranno ovviamente delle sovrapposizioni con quanto ha detto adesso Tommaso ma è inevitabile parto da Gaetano Mosca perché appunto di lui si continua a dire nella nostra comunità che è stato il fondatore della disciplina i famosi elementi di scienza di scienza politica in realtà Mosca nasce costituzionalista e oserei dire muore costituzionalista non è soltanto una questione di affiliazione disciplinare è una questione secondo me proprio di di approccio di metodo di come muovendosi all'interno della riflessione costituzionale arriva alla scienza politica su mostra costituzionalista molti esponenti della vostra comunità hanno scritto un po' mia sia memoria da ricordare i saggi di Fulco Lancester di Borsi credo persino Leopold De Lì ha scritto un interessante testo su Mosca costituzionalista però credo che tutti abbiano fatto un errore di prospettiva nella misura in cui si sono chiesti quando è che Mosca smette di diventare di essere un costituzionalista per diventare uno scienziato della politica in realtà la mia idea è che Mosca diventa scienziato della politica restando un costituzionalista e questo si capisce benissimo se andiamo un po' a vedere qual è diciamo il nucleo fondante della sua celeberrima dottrina della classe politica che se presa alla stregua di come dire di una concezione sociologizzante sarebbe veramente una dottrina triviale l'idea che ci siano tutte le società quelli che governano quelli che obbediscono è quasi un truismo non è una rivoluzione copernicana che possa farti passare alla storia alla storia del pensiero la dottrina della classe politica in realtà secondo me si innesta in una riflessione critica che Mosca sviluppa rispetto alla alla sua appunto impostazione di costituzionalista a fronte dei cambiamenti radicali ai quali assiste che forse lui percepisce meglio meglio di altri lo Stato non si esaurisce nel diritto nel diritto che lo stesso Stato crea e la politica che in quella fase storica irrompe prepotentemente all'interno dell'ordine legale costituzionale Mosca capisce e forse certe cose le capisce meglio proprio perché conservatore ma i conservatori hanno questa capacità per ragioni abbastanza banali di intercettare prima di altri i cambiamenti salvo ovviamente dolerse in molti casi capisce che l'equilibrio su cui si leggeva l'Italia l'Italia statutaria tra il principio monarchico e il principio parlamentare non regge in più nella misura in cui ci sono forze sociali che ormai premono per entrare all'interno dell'ordinamento legale forze economiche vive Mosca non era un grande amante di Machiavelli come sapete gli preferiva Guicciardini però da Machiavelli aveva capito una cosa molto semplice che la forza economica prima o poi si traduce sempre in forza politica quindi il problema di dare sfogo istituzionale ai cambiamenti che si stavano producendo in quel momento in Italia facevano sì che il costituzionalismo liberale non bastasse non bastasse più la legalità formale come dire era impotente rispetto a questa dinamica sociale che stava completamente cambiando lo scenario lo scenario politico l'intenzione della classe politica secondo me è esattamente questa nella sua concezione la classe politica per come io l'interpreto è la dico in questa formula è lo strato governante sufficientemente diciamo stabile nella sua azione e sufficientemente coeso dal punto di vista dei valori prima della classe politica non a caso c'è la formula la politica quindi una classe politica diciamo consapevole del suo ruolo e unificata da un'ideologia di riferimento che garantisce allo Stato un'unità di indirizzo politico e che consente all'intero ordinamento costituzionale di resistere alla pressione delle forze sociali e di mediare tra gli interessi inevitabilmente contrapposti che le diverse diciamo componenti sociali manifestano la classe politica tanto perché crederci meglio spero è come dire lo strumento anche giuridico per certi versi attraverso il quale oggettivare il potere politico per questo non è semplicemente una regoletta sociologica pochi comandano e molti obbediscono è un modo per andare oltre diciamo la visione del costituzionalismo liberale alla luce di quella cosa molto semplice che chiamiamo la società di massa e questa è la sfida teorica che spinge Mosca ad uscire dalla tradizione del costituzionalismo liberale a inventarsi questa nuova categoria poi non sarà il solo perché da quel momento in poi tutti cercheranno di dare all'ordinamento costituzionale che ovviamente non è la costituzione non era lo statuto albertino dell'epoca quindi una una riconoscibilità anche concettuale che implicava anche come dire una capacità di elaborazione per Mosca è la classe politica per Maranini diventerà il partito stato altri parleranno di regime Mortati si inventerà la costituzione materiale è sempre lo stesso problema riformulato lo stato non basta più come dire come 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 visione unitaria della dinamica politico istituzionale quindi un Mosca secondo me coerentemente costituzionalista che accetta la sfida posta dalla società di massa allo stato liberale si inventa la formula della classe politica e si trasforma in politologo però diciamo è un passaggio che ha una sua congenza scientifica intellettuale che non è soltanto una questione banalmente banalmente disciplinare però come dire in qualche maniera segna un punto di partenza molto interessante la scienza politica nasce così in questo paese il problema non è liberarsi dall'ombra lunga del diritto costituzionale spesso la scienza politica ha avuto questa fobia ma per ragioni banalmente universitarie avendo avuto una matrice giuridica ne è rimasta talmente ossessionata che è fatto di tutto per liberarsi da quella matrice originaria in realtà Mosca ti insegna come non sia un problema di passaggio ma sia un problema come dire di di ritorno in circolo in qualche maniera ovvero di modi che possono essere diversi ma al tempo stesso complementari di studiare gli stessi gli stessi temi Marranini Marranini è un caso interessante perché si vede bene poi questa appunto questa matrice originaria che prodotti possa possa operare Marranini è un costituzionista sui generis che rivendica apertamente l'eredità di Mosca e che appunto è l'espressione di un approccio antiformalistico al diritto costituzionale prima si parlava del metodo negli anni del fascismo in realtà non sono così d'accordo in realtà c'è una discussione interessante tra l'altro Marranini stesso dell'espressione dibattito che si apre nel 1940 su stato e diritto con Crisa Fugli è un dibattito sul metodo dove Marranini forse in maniera un po' erruenta come nel suo carattere chiarisce bene che la costituzione come dire è essenzialmente l'espressione di forze storico sociali che si oggettivizzano e quindi in questa chiave va studiata anche comparativisticamente comparazione non può essere formale deve obbedire a due criteri anzitutto deve essere sufficientemente omogenea cosa che spesso i politologi dimenticano quando comparano cose che sarebbe meglio non comparare poi deve essere una comparazione tra come dire tra forze vive tra forme tra forme vitali altrimenti diventa semplicemente un esercizio un esercizio di stile Marranini è interessante perché sulla base di questa concezione del diritto costituzionale nel dopoguerra diventa come dire un punto di riferimento di grandissima importanza per la nascita di una scienza politica che a questo punto comincia a chiamarsi così anche dal punto di vista formale Marranini è preside a Firenze a Firenze si crea questo gruppo che tu citavi prima Carlo Curcio Pompeo Biondi Salvatore Valitutti nasce nel 1951 la rivista Studi Politici che è la prima rivista politologica italiana e intorno a questo gruppo c'è questo giovane molto brillante che si chiama Giovanni Sartori che poi darà un contributo decisivo alla istituzionalizzazione della disciplina ma insomma dietro c'è tutto questo lavorio lavorio di Marranini non è soltanto come oggi spesso viene ricordato distruttivo polemico è visto di recente di vedere associato Marranini ad una tradizione di antipartitismo che sarebbe come dire uno dei 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 tratti ideologico costitutivi del moderatismo italiano interpretazione che ha dato soprattutto lo storico Salvatore Lupo un antipartitismo che velatamente sconfina nell'antidemocrazia secondo me Marranini non è stato non è stato questo innanzitutto è uno che ha innovato gli studi nella misura in cui per esempio ha richiamato l'attenzione sull'importanza della legge elettorale era una sua ossessione la critica al proporzionale però quell'ossessione ha consentito di far capire l'importanza che ai fini dell'ordine costituzionale rivestono le leggi le leggi elettorali ha richiamato l'attenzione su un tema che poi fortemente esploso è stato tra le prime a studiarlo il tema della leadership democratica cioè come si costruiscono e si selezionano anche attraverso il sistema dei partiti i leader in democrazia e l'ho fatto confrontandosi con quello che all'epoca era il meglio della politologia internazionale lui traduce introduce Hermès traduce studia moltissimo Maurice Duverger oggi un po' dimenticato ma insomma è stato per un periodo il principe dei costituzionalisti politologi dico un po' dimenticato perché di recente appunto ha scritto un articolo ceccanti proprio per lamentare il fatto che questo studioso tanto celebrato in passato adesso venga letto meno di quanto forse meriterebbe si confronta Maranini in quegli anni con Schumpeter è uno dei primi che insomma riprende la sua teoria della democrazia come competizione per il potere tra elite e quindi questo Maranini politologo in realtà non è altro che il Maranini costituzionalista degli anni degli anni eh quaranta anche qui secondo me c'è un percorso che non che non indica una transizione disciplinare indica invece come dire una commistione di 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 prospettive di temi di argomenti che forse abbiamo un po' un po' eh dimenticato poi naturalmente nella relazione spero di essere più ehm più articolato e più e più e più chiaro velocemente Gianfranco Miglio Gianfranco Miglio so che tocco un tema tasto dolente perché molti di voi non lo considerano probabilmente un costituzionalista lui stesso si definiva un tecnico dell'istituzione così risolveva risolveva il problema alla radice il problema che Miglio non è considerato uno scienziato della politica nemmeno degli scienziati della politica quindi siamo in un campo incognito però secondo me eh come dire è un caso molto molto interessante proprio alla luce di quello che sto che sto cercando di di raccontare di questa commistione virtuosa che ci può essere tra scienza politica e gius pubblicistica Miglio in realtà nasce come storico delle dottrine politiche ma è una disciplina che lascia abbastanza presto perché non gli piacciono fondamentalmente due cose di quella disciplina innanzitutto la deriva un po' come dire eccessivamente erudito filologica che sta apprendendo sono gli anni in cui c'è questo gran maestro che si chiama Luigi Firpo e insieme a lui molti altri studiosi che fanno delle cose importanti cioè ripropongono i grandi classici della disciplina ma lo fanno in una prospettiva appunto di ricostruzione filologica molto puntuale che dobbiamo essere grati però in modo per ingessare il pensiero politico non gli piace un'altra cosa Miglio cioè quest'idea di ricostruire il pensiero politico attraverso le opere dei grandi autori questa specie di canone per cui parti da Aristotele e arrivi ai contemporanei in realtà lui diceva sempre nel documento di un cancelliere nel rapporto di un ambasciatore ci può essere più dottrina e più pensiero politico di quanto non ce ne possa essere in un'opera pensata e sistematica no? Quell'idea che poi lo porterà a lavorare molto su quelli che lui definiva i rami bassi della politica l'amministrazione ti fa capire meglio come funziona la dinamica della politica reale piuttosto che provare a studiarla dall'alta o affidarsi semplicemente a ricostruzioni di stampo di stampo dottrinario Miglio è un altro autore che riprende moltissimo l'eredità di di Gaetano Mosca che lui cerca di innovare nella misura in cui non lo convince come dire la dicotomia governati governanti è troppo semplice è troppo schematica in realtà dice Miglio la dinamica del potere è molto molto più articolata lì comincia a lavorare su quelli che definisce i rami intermedi no? L'aiutantato politico che sta tra chi comanda e chi obbedisce è lì che forse si trova la vera radice del potere tra l'altro un lavoro che contemporaneamente in Francia in quegli anni andava facendo Raimond Raimond Aron cioè ricostruire la piramide del potere in forma più articolata ma c'è un'altra cosa soprattutto che Miglio riprende da Gaetano Mosca e cioè l'idea che la sequenza classe politica formula politica regime abbia una sua conseguenzialità che significa semplicemente questo che c'è una classe politica resa unitaria da una dottrina da un credo da una tavola dei valori che come dire produce in qualche maniera diritto crea istituzione no? Ora quando questa coerenza viene meno quando per esempio viene meno la tavola dei valori che sostiene ideologicamente la classe politica e quindi questa si disgrega al suo interno contemporaneamente cominciano a disgregarsi le strutture politico-istituzionali che riportano a quella classe politica e questo per esempio il passaggio logico che spinge Emilio a interessarsi di riforme istituzionali nella misura in cui si convince che la tavola dei valori sulla quale si è costruita la Costituzione italiana il patto costituente comincia a non reggere più lui lo dice negli anni ottanta poi ovviamente le vicende negli anni successivi lo confermeranno in questo giudizio si apre il problema del mutamento costituzionale quindi come vedete anche qui Mosca no? l'idea che l'ordinamento costituzionale non si esaudisca nella Costituzione scritta il grande tema del mutamento istituzionale e delle riforme istituzionali c'è il grande appuntamento del gruppo del gruppo di Milano dove peraltro appunto anche metodologicamente si vede il modo di lavorare secondo me interessante nella misura in cui in quel contesto scienziati della politica i costituzionalisti lavorano lavorano insieme secondo me ancora un esempio che nella coerenza perché il punto di partenza è sempre Mosca dimostra come ci sia questa circolarità virtuosa perlomeno in alcune espressioni alte della scienza politica italiana anche nel caso eccentrico di Gianfranco Miglio mi avvia la conclusione brevissimamente con il caso di Sartori del quale parlo pochissimo perché poi ne tratterà sicuramente il professor Morlino non è un caso che Sartori concluda la sua sostanzialmente carriera politica con questo libro Ingegneria Costituzionale Comparata Sartori che aveva iniziato la sua attività di scienziato politico empirico con una grande ricerca nel 1963 sulla classe parlamentare italiana condensa la sua dottrina inventandosi questa formula dell'ingegneria costituzionale Comparata che è interessante perché nasce come prospettiva di ricerca anche da una critica interna che lui fa alla scienza politica comportamentista c'è un passaggio molto interessante di questo libro dove lui appunto spiega perché si è arrivato a questa formulazione e dice appunto i comportamentisti sono convinti che la forza di un sistema politico sia il pluralismo sociale che lo sorregge in realtà è uno sbaglio di prospettiva è uno sbaglio di metodo la forza di un sistema politico è il sistema di regole di limiti che questo sistema si può dare quindi la prospettiva istituzionale è decisiva dal punto di vista del politologo poi naturalmente si può discutere sulle sue ricette però anche qui mi sembra interessante questa sorta di ritorno alle origini una scienza politica che si interroga sulla cogenza della dimensione politico-costituzionale così come Sartori la interpreta nella fase finale della sua della sua cardiana se mi consentite siamo ancora cinchi minuti appunto rimandando voi per gli sviluppi di questo ragionamento un po' sommario alla relazione vorrei dire un paio di cose sulle questioni che sono state sollevate dalla relazione di Tommaso ma un po' in generale anche sull'impostazione di questo di questo convegno nel segno della multidisciplinarità della relazione di Tommaso mi ha colpito moltissimo un passaggio laddove usando anche l'espressione molto bella ha detto che l'interdisciplinarità il dialogo tra le discipline è la virtù del singolo l'interdisciplinarità non può essere imposta per decreto cioè è una cosa che o vuoi non è nemmeno una questione di capacità è una questione di volontà è come se io fossi un falegname e quindi ho una mia cassetta degli attrezzi mi portano nella bottega di Litraulico e mi trovo una cassetta degli attrezzi completamente diversa a questo punto ho due possibilità o provo a capire come funziona quella roba lì che non mi è familiare mi incuriosisco e magari imparo ad utilizzare quegli strumenti e scopro che mi sono anche utili oppure decido quella roba lì non mi interessa e torno nella mia bottega da falegname dove mi è tutto più familiare traduco con una piccola esperienza personale mi è capitato di recente di essere coinvolto in un grosso progetto editoriale uscirà credo a febbraio marzo è una storia della presidenza del consiglio e dei presidenti del consiglio due grossi volumi curati dal professor Cassese mi è stato chiesto di occuparmi del capitolo finale dell'opera dedicata a Giuseppe Conte quindi si trattava di fare un saggio che ricostruisse esperienza di questo penultimo presidente del consiglio allora lì è nato un problema molto semplice di metodo cioè mi sono chiesto come avrei potuto affrontare questo impegno scientifico editoriale io avevo una mia cassetta degli attrezzi a disposizione governo Conte 1 che cos'è il governo del cambiamento sono i populisti al potere quindi c'è un mio bel framework molto ben arato che mi avrebbe consentito tranquillamente di affrontare quella quella vicenda appunto da politologo in senso proprio ci sono tutti gli studi anche questi molto ben avviati appunto sulla mediatizzazione della leadership e quale caso più interessante di leadership mediatica di Giuseppe Conte mi sarei potuto avvalere gli studi che hanno fatto su quante volte è comparso in televisione quante parole ha usato diciamo ero sufficientemente autosufficiente per affrontare quel quel compito dopodiché mi sono reso conto che quella cassetta degli attrezzi non mi bastava una vicenda come quella di Giuseppe Conte per gli aspetti anche di eccentricità costituzionale che molti di voi hanno riscontrato su quale avete abbondantemente scritto non poteva essere raccontata dal punto di vista diciamo di un politologo era necessario confrontarmi con tutte le cose che avete scritto quindi ho fatto una cosa molto semplice dirigentemente mi sono messo a leggere come se fossi tornato ai tempi di scuola un sacco di produzione diciamo costituzionalistica sulle vostre preziosissime riviste online credo di aver diciamo reimpostato in maniera appunto più completa il compito che mi era stato affidato con anche un esito finale abbastanza divertente perché poi quando mi sono riletto il testo sono andata a vedere le note alla fine conterò anche le citazioni ho scoperto che c'erano appunto Luciani Clementi Cassese non avevo citato nessun politologo e mi sono reso conto che forse avevo esagerato in eccesso disciplinare però è un esempio molto molto banale di come come dire il confronto disciplinare lo devi cercare non soltanto perché è una necessità che probabilmente se avessimo andato un saggio impostato secondo i canoni iniziali Cassese me l'avrebbe mandato indietro ma perché sarebbe stato munco se non avessi acquisito una serie di conoscenze che potevano venirmi soltanto da appunto in questo caso i costituzionalisti dal dibattito che si era sviluppato negli ultimi tre anni sulla presidenza sulla presidenza di Conte quindi sì l'interdisciplinarità alla fine è come dire una scelta soggettiva che si può che si può fare e appartiene alle virtù del politologo una battuta finale su che cosa si potrebbe lavorare insieme tu hai elencato le leggi elettorali le riforme istituzionali però siccome c'è un tema che ritorna ossessivamente sempre fuori cioè di come si stanno radicalmente trasformando i sistemi di rappresentanza i sistemi politici gli ordinamenti costituzionali forse dovremmo provare a lavorare tutti quanti in quella in quella prospettiva non la prospettiva di ciò che c'è e di ciò che ci conosciamo ma di ciò che potrebbe venire e che forse dobbiamo contribuire a costruire in fondo la vicenda rivoluzionaria francese ancora oggi di grandissima importanza perché è stato il più grande laboratorio costituzionale della modernità che continuiamo abbondantemente a sfruttare credo ci sia parafraso sociologo americano Wright Mills quando parlava di immaginazione sociologica ecco forse ci vorrebbe un sovrappio di immaginazione politologico costituzionale per cercare di capire come sta cambiando e come cambierà la democrazia di domani dobbiamo forse prepararci non ad una democrazia senza partiti ad una democrazia che non avrà i partiti sui quali ossessivamente continuiamo a richiamare l'attenzione nei manuali di politologia sono molto in imbarazzo quando appunto nei manuali di politologia fai studiare a un giovane studente che cos'è il partito di integrazione di massa cioè gli fai studiare una cosa che non esiste semplicemente questo cioè si mette in testa una forma una tipologia che ha fatto il suo corso storico e che quindi appartiene come dire un po' all'antichità della politica moderna allora forse su questo terreno sarebbe interessante un confronto anche creativo laddove credo che il problema vero sia diventato questo cioè immaginare proprio anche le strutture ordinamentali che come dire possano evitare che accada quello che diceva Togliani che la mancanza di limiti che come dire è il dna della tecnologia per come si sta dispiegando nella cultura contemporanea appunto finisca veramente per non incontrare i limiti siccome il limite principale è quello dato dalle istituzioni quindi dal diritto dagli ordinamenti costituzionali su questo terreno credo ci possa essere un grande terreno di incontro non soltanto in termini di dottrina di scienza ma anche in termini se volete di impegno civile considerando che pratichiamo due discipline che poi hanno sempre avuto una forte impronta interventista una fortissima impronta interventista vi ringrazio grazie professor Campi si conferma quanto dicevo prima per Tommaso se i relatori sono così capaci e così disciplinati la presidenza è inutile solo un punto condivido la questione della cassetta degli attrezzi dell'interdisciplinarità forse però è una questione anche di formazione perché io posso avere una cassetta degli attrezzi ma se non sono formato a scegliere gli attrezzi non so usarla e allora l'idea che sin dall'inizio chiunque si avvicina lo studio del diritto e forse anche della politologia venga abituato a saper scegliere gli strumenti dell'interdisciplinarità quindi esca fuori anche da quel discorso che faceva Tommaso del quasi vergognarsi del citare ma dire che è possibile farlo e poi si citava tavola dei valori diciamo forma della politica strutture e allora mi sono chiesta forse la prossima volta che facciamo un convegno interdisciplinare i tavoli li facciamo più complicati perché quando si perde o si pensa che la tavola dei valori sta cambiando noi dovremmo parlare con gli storici forse quello che abbiamo sentito nella sessione precedente diventava utilissimo qui perché quando tocchiamo i valori stiamo toccando la conoscenza o la non conoscenza della storia che è quella che alimenta i valori quindi la prossima volta aumentiamo il grado di complessità dell'interdisciplinarità nei tavoli anziché diminuirla dunque siamo diligentissimi e quindi non mi resta che presentare il nostro terzo relatore che ci segue da remoto e grazie professore Leonardo Morlino professore merito di scienza politica e presidente dell'International Research Center on Democracy and Democratization della LUIS di Roma il professor Morlino interviene abbiamo modificato un po' l'ordine che era inserito nel programma perché interviene in scia d'accordo con il professor Campi alla relazione che abbiamo appena sentito e il titolo del suo intervento è diritti e scienza politica scusate in Europa una relazione complessa grazie professore anche per lei 30 minuti e un grazie per essere qui con noi grazie grazie per l'invito mi dispiace non essere lì con voi evidentemente probabilmente l'interazione sarebbe stata più più efficace però insomma un po' di problemi di salute reazioni eccessive la terza dose mi hanno tenuto qui a qui a Firenze volevo ringraziare anche il professor Serges il professor Ferraiolo per la collaborazione e l'attenzione che mi hanno dato e anche i tecnici per questo per questo collegamento vengo subito alla mia relazione vorrei condividere lo schermo vediamo qui la vedete io credo che avrei potuto dare un sottotitolo simile a quello che ha dato Frosini mi trovo in realtà molto d'accordo con quasi tutte le osservazioni di Frosini forse forse con una che è stata ripresa anche anche da Alessandro Campi allora la dico subito anche perché io sono stato tra gli autori che hanno spinto la rivista italiana di scienza politica di cui mi sono occupato per una ventina d'anni a andare all'internazionalizzazione a essere pubblicata da Cambridge University Press io penso che una disciplina debba essere internazionale debba confrontarsi penso che ci sia una comunità internazionale non tanto non solo italiana con cui confrontarsi anche per la qualità della disciplina quindi c'era almeno nel nel mio intento di internazionalizzazione che ho avuto negli anni credo di avere in questo ereditato da Sartori questo era un punto importante ma a parte a parte questo punto che ho appena ripreso in realtà mi trovo molto anche nell'espressione mi potrei ritrovare molto anche nell'espressione ossimoronica delle convergenze parallele che richiamava a un periodo politico quello a Aldo Moro insomma ormai largamente passato ma certo non non dimenticato in una conferenza di molti anni fa ero stato invitato da un collega di Notre Dame a parlare dei rapporti tra scienza politica e diritto in Europa il mio titolo era stato questo i riferimenti che hanno fatto Frosini i riferimenti che ha fatto Alessandro Campi a Mosca e alle origini della nostra scienza politica mi consentono di andare avanti di superare questo punto le sovrapposizioni ci sono le sovrapposizioni sono ovviamente sovrapposizioni di oggetto che riguardano sia le istituzioni e ovviamente si è discusso molto sulle riforme istituzionali e le osservazioni fatte da voi su questo punto di nuovo mi trovo d'accordo poi vi è un'ampia sovrapposizione che si è sviluppata tantissimo in questi anni sulle politiche proprio sulle politiche e qui il rapporto tra appunto giuristi e politologi è importante ma lasciatemi partire da da questi punti i punti che rapidamente tratteggerò nel mio intervento gli sviluppi di modello gli sviluppi iniziali della scienza politica un po' in tutta Europa sono il fatto caratterizzati dal fatto che la scienza politica alla fine è un'espansione e uno sviluppo del diritto costituzionale e lo è in Francia lo è nel nord Europa lo è nella gran parte appunto dei paesi europei semmai in Francia si potrebbe aggiungere un aspetto particolare cioè l'attenzione alla geografia elettorale che poi ha dato origine appunto a tutto il filone degli studi elettorali all'interno della scienza politica quindi lì accanto al diritto costituzionale come punto di riferimento essenziale vi è anche questo elemento come degli elementi particolari ma sempre in aggiunta vi sono nel caso inglese dove Herman Feiler negli anni trenta pubblica proprio credo il saggio più importante lo studio più importante lo studio anche comparato più importante sui modelli costituzionali europei a cui si aggiunge appunto come elemento particolare questa storia del presente l'attenzione all'istituzione agli avvenimenti agli avvenimenti politici in realtà in questo Germania e Italia hanno un'origine particolare devono essere considerati due casi devianti e in questo in qualche modo l'influenza dei giuristi tedeschi la rottura del fascismo conta moltissimo la Germania si trova a costruire la propria disciplina in pochissimo tempo senza che in Germania visiono degli studiosi di scienza politica quindi in Germania si costituiscono in pochissimo tempo una ventina di cattedre 24 di scienza politica negli anni 50 inevitabilmente diventano studiosi di scienza politica filosofi sociologi appunto giuristi esso poi in Germania vi è soprattutto negli anni iniziali soprattutto sotto la spinta americana l'idea della scienza politica come educazione alla democrazia in Italia la vicenda è diversa dopo la vicenda di Bosca che vista come la definisce anche Bobbio appunto come un po' una sconfitta dell'inizio della scienza politica attraverso il diritto costituzionale rinasce appunto il secondo dopoguerra con Bobbio e Leoli e Bobbio e Leoli sono quelli che aiutano anche accademicamente Sartori quando Sartori vinse nel 1962 il concorso di sociologia applicata sociologia applicata in realtà il suo sponsor all'interno della commissione era era Bobbio quello che però è che che voglio sottolineare è proprio questi anni 50 60 in cui tra diritto costituzionale e scienza politica si vede meglio la divergenza e la divergenza è dovuta all'enorme influenza intellettuale degli studiosi americani all'influenza di Gabriele Holmond all'influenza anche di Wright Mills lo citava prima Alessandro Campi ma anche ai fondi che arrivano in Italia in Italia si comincia a studiare empiricamente la scienza politica perché ci sono delle fondazioni americane che finanziano queste ricerche le grandi ricerche dell'istituto Cattaneo appunto degli anni 60 sono finanziate dalla 20th century fund la fondazione Ford entra massicciamente con diversi finanziamenti ovviamente non lo fa solo in Italia entra a finanziamenti massicci in Germania in Inghilterra in Francia però questo trasforma completamente fa diventare una scienza empirica una disciplina empirica la scienza politica che altrimenti non ci sarebbe questi anni sono gli anni in cui si cercano appunto approcci generalisti in cui qui come dire quasi si rimane commossi quando si legge quello che scrive Bruno Leone nel nel primo numero del politico in termini di ambizioni in termini di ricerca di generalizzazioni in termini di voglia di fare quello che le scienze fisico-naturali stavano facendo in quello che la fisica stava facendo ma e questo e questo lo troviamo anche negli approcci nell'approccio funzionalista nell'approccio sistemico nell'uso della scelta razionale della teoria della scelta razionale che ovviamente aveva avuto molto successo tra gli economisti ma il tutto questo era fondato su come dire grandi speranze e grandi e grandi illusioni gli anni successivi provvedono a evidenziare come queste grandi speranze appunto siano delle grandi illusioni man mano il problema centrale è quello di una teoria empirica della democrazia poi anche oggi ovviamente non abbiamo una teoria sistematica abbiamo diverse un accumulo di diverse ipotesi una frammentazione molto altra però nel complesso si può parlare tra gli anni 80 e oggi quindi in circa 40 anni e non solo in Italia ma soprattutto in Europa e anche negli Stati Uniti della costruzione di questa teoria empirica della democrazia quando Alessandro tu citavi democrazia e definizioni democrazia e definizioni non è un lavoro di scienza politica è un lavoro di passaggio è un lavoro in cui si vedono i problemi di una teoria empirica della democrazia di una teoria empirica della politica ma i riferimenti sono sono Hobbes sono i riferimenti della grande filosofia politica del passato quindi è proprio un lavoro di passaggio si potrebbe dire di quella che a un certo momento era stata chiamata appunto teoria politica uno spazio a metà tra filosofia politica e scienza politica empirica e proprio in questi anni che si vedono più chiaramente le sovrapposizioni di oggetto tra diritto costituzionale e scienza politica e proprio in questi anni in cui si sviluppano soprattutto questi due nuovi filoni di politica comparata grazie anche al tema delle grandi democratizzazioni che iniziano già dalla metà degli anni settanta come tutti voi sapete dal sud Europa all'America Latina all'est Europa all'Asia all'Africa ma a cui poi si aggiungono appunto una nuova centralità degli studi europei in cui studi europei che sono anch'essi caratterizzati da notevole interdisciplinarità in cui si ritrova insieme appunto diritto internazionale diritto amministrativo e scienza politica quali sono le ragioni che spingono ad una ad una certa convergenza in realtà dovremmo partire dall'opposto le ragioni vere della divergenza sono state accennate erano ragioni connesse alla formazione di comunità accademiche diverse e quindi c'era l'interesse a sottolineare le diversità una volta che l'università di massa la fine della trasformazione in università di massa dell'italia ovviamente questo non è un fenomeno di nuovo solo italiano è un fenomeno europeo un fenomeno internazionale nordamericano che riguarda l'America Latina ma quando questa trasformazione si conclude quando abbiamo gruppi disciplinari ormai maggiormente consolidati diminuisce la necessità del conflitto quando il terreno del conflitto sono le facoltà di scienze politiche le facoltà di scienze politiche in cui effettivamente negli anni 50 ancora non erano neanche facoltà erano corsi di laurea spesso all'interno delle facoltà di giurisprudenza e quindi lì la partita in realtà è proprio tutta accademica di espungere i giuristi in un certo senso dalle facoltà le scienze politiche ma quando questa operazione in realtà è conclusa e quindi abbiamo comunità politiche maggiormente consolidate il senso della della divergenza diminuisce lo sviluppo delle istituzioni associative nasce appunto proprio negli anni 80 l'associazione italiana di scienza politica che poi ho cercato di rifondare riavviare alla fine degli anni degli anni 90 si sviluppa appunto anche molto di più l'IPSA l'International Political Science Association voi stessi gli stessi appunto costituzionalisti si formano con l'associazione ne parlava il vostro presidente uscente il professor Silvestri ecco mancano mancano i motivi per sottolineare la divergenza e mentre invece i problemi di fronte a cui ci si trova cioè l'oggetto sottolinea le convergenze i confini si confondono sia proprio tra politiche pubbliche studiate dai political scientists politiche pubbliche studiate dai giuristi all'interno del diritto europeo come si si confondono anche i confini tra noi stessi tra relazioni internazionali politica comparata studi studi europei e adesso qui e qui appunto torniamo con l'espressione ossimoronica delle convergenze parallele anche al nostro interno in realtà contemporaneamente in questi anni cambia il paradigma cioè ci si rende conto che quelle illusioni quelle ricerche di generalizzazioni quelle ricerche di imitare di imitare le scienze fisico-naturali erano assolutamente fuori luogo non avevano senso la ricerca di generalizzazioni e leggi che è stato un punto fondamentale della scienza politica delle scienze sociali per anni ci si rende conto che non ha senso non sono raggiungibili a ragione Raymond Boudon che in questo all'inizio degli anni 80 con la Plastio lasciamo da parte le leggi lo stesso Sartori era tra quello che più aveva accarezzato quelle illusioni generalizzanti degli anni degli anni 50 che anche sulle leggi elettorali torna su questo punto attenua tutto il discorso per esempio Alessandro tu citavi prima quest'ultimo volume di Sartori dei primi anni 90 in cui lui torna all'ingegneria costituzionale comparata l'ingegneria costituzionale era una sua idea degli anni 60 era un articolo che aveva pubblicato negli anni 60 sulla American Science Review e qui ci torna ma lì l'impostazione di Sartori è una ricerca di condizioni quasi quasi stiamo tornando a Weber e quindi cambia completamente in questo senso il paradigma questa apparente divergenza è una apparente divergenza che riguarda soprattutto la nostra storia ma che è in realtà una convergenza rispetto alle altre scienze sociali e allo stesso diritto costituzionale perciò l'ho chiamata la nuova divergenza come la nuova stessa nuova divergenza lo si vede nel neoistituzionalismo che a un certo momento tra noi diventa dominante ma il neoistituzionalismo significa tornare all'importanza delle istituzioni viste in maniera diversa vista come lo vedono Marce e Olsen in termini di logica dell'appropriatezza cioè le istituzioni come strutture cognitive e di regolazione che influenzano il comportamento individuale quindi dal punto di vista dell'individuo dal punto di vista anche di chi fa politica quello che ci chiediamo è qual è il comportamento più appropriato sulla base delle regole esistenti ma qui siamo appunto all'interno di democrazie consolidate in cui è ovvio che si riafferma il ruolo centrale delle istituzioni delle routine delle procedure degli stili decisionali è ovvio che ci sia una maggiore attenzione al dettaglio delle strutture politiche qui prima Anna Massomarino richiamava un punto sul discorso delle forme e contenuti in realtà all'inizio l'idea appunto di molti studiosi di scienza politica era andiamo oltre il formalismo andiamo alla sostanza andiamo a guardare i contenuti delle politiche ma poi in realtà quello che ci siamo resi conto noi stessi quello di cui ci siamo resi conto io credo i giuristi veniva emergeva chiaramente da diverse affermazioni di Frosini prima e che contenuti forma e contenuti sono intrecciati è inutile è inutile uscire da questo forma e contenuti sono intrecciati e lo si vede nel concreto appunto della politica anche quando parliamo di paddependence anche quando parliamo di appunto questo nuovo approccio anche questo importante in scienza politica con tutti con tutti gli aspetti in termini di conseguenze importanti risultato di eventi minori in termini questo è il punto centrale particolare linee di azione che una volta introdotto sono difficili e impossibili da modificare in termini di importanza di congiunture critiche come quello che potremmo dire stiamo vivendo proprio in questi in questi anni con con la pandemia con con quello con il momento drammatico appunto che che siamo vivendo quando facciamo tutto questo appunto in realtà è apparentemente una divergenza ma ci avviciniamo all'importanza appunto dello studio delle situazioni e questo deriva ancora una volta dal consolidamento avvenuto delle democrazie e dai problemi che le democrazie consolidate che affrontano poi le loro crisi ci pongono ci pongono davanti forse qui c'è forse la maggiore distanza rispetto in questo altro approccio che è stato molto importante nelle relazioni internazionali c'è la maggiore distanza rispetto al diritto costituzionale qui l'influenza viene soprattutto da aspetti culturali da costrutti storici esistenti e l'idea che questi costrutti queste credenze c'è un la credenza appunto che un gruppo di individui ha di se stesso in quanto nazione del proprio paese come stato indipendente e sovrero e questa credenza poi influenza i nostri studi influenza anche la la nostra analisi la visione quindi del sistema internazionale come consapevolezza intersoggettiva tra individui come azione condotta dagli attori che è anche influenzata dalle strutture sociali qui ripeto c'è un intreccio di aspetti culturali e aspetti sociologici che hanno caratterizzato le relazioni internazionali in cui il costruttivismo è diventato in questi anni particolarmente importante forse però la maggiore divergenza la si è vista soprattutto nello sviluppo nostro in questi anni delle analisi quantitative cioè qui ovviamente lo sviluppo tecnologico lo sviluppo dell'informatica lo sviluppo delle nuove tecniche statistiche ci ha portato in questo senso molto lontano ad una scienza politica quantitativa che però è in difetto nella ricerca di spiegazioni quando alla fine con l'enorme crescita dei diversi dataset che noi usiamo normalmente da quello di VDEM Varieties of Democracy che è il più esteso e il più approfondito ai dataset della World Bank oppure di Freedom House o della Bertelsmann Stiftung diciamo una serie di dataset che noi usiamo correntemente però qui vediamo anche i problemi dell'analisi quantitativa proprio nella ricerca di spiegazioni e quando cerchiamo più a fondo della spiegazione dobbiamo tornare all'analisi quantitativa e in realtà quindi alla fine tornare a un metodo misto che però ovviamente ci ha largamente trasformati in questi anni e qui che secondo me c'è stata la maggiore divergenza tra diritto costituzionale e scienza politica finisco rapidamente rito di essere stato nei tempi che lezioni ne traiamo diciamo l'ipotesi centrale che dobbiamo tenere presente nelle scienze sociali e che le scienze sociali tutte non solo diritto e scienza politica ma diritto scienza politica economia psicologia sociologia sono largamente porose per le ragioni che avete detto per le ragioni che Frosini che Campi ha detto precedentemente partendo proprio dall'individuo e dall'individuo che ha di fronte un problema e rispetto a questo problema deve avere conoscenze più ampie di quelle che gli vengono dalla propria ristretta disciplina in questo senso il presidente Silvestri richiamava la famosa frase di Carnelutti che appunto è una frase che abbiamo avuto tutti in mente in questi in questi anni ma proprio per la porosità e qui però l'ipotesi di fondo che dicevo che sto per dire è questa negli anni nei decenni ci sono delle fasi in cui un settore disciplinare o una disciplina diventano dominanti rispetto alle altre scienze sociali quando introducono portano qualcosa di nuovo se ci facciamo agli anni 50 e la sociologia che è stata largamente dominante quasi subito dopo e l'economia o certi settori che sono stati dominanti contemporaneamente vediamo il dominio della statistica quando lo usiamo attraverso le nuove tecniche statistiche ma in questi anni per esempio ormai da diversi anni è la psicologia cognitiva ricordate il premio Nobel McFadden ricordate il premio Nobel Kahneman ricordate uno degli ultimi premio Nobel Tyler Richard Tyler sul tema del nudging che è un discorso di economia di politica e non tanto solo di psicologia in cui appunto ci ritroviamo ci ritroviamo tutti e in cui però abbiamo l'influenza proprio del settore disciplinare che si è più innovato e che influenza gli altri settori disciplinari le altre scienze sociali di volta in volta come dicevo sono stati la sociologia l'economia la psicologia cognitiva la statistica c'è una alla fine c'è una porosità tra le scienze sociali qui va inteso bene questo punto cioè non c'è porosità in termini di punto di vista il punto di vista il focus rimane specifico c'è il focus del costituzionalista c'è il focus dello scienziato politico dell'economista del sociologo dello psicologo dello statistico il punto di vista è come questo focus necessariamente viene integrato dal dai risultati disciplinari innovativi che vengono in altre discipline è chiaro che in questo quadro le comunità disciplinari rimarranno sempre come all'interno delle stesse comunità disciplinari rimarrà la la frammentazione anche se c'è necessariamente una salienza decrescente dei confini disciplinari perché il problema che vogliamo spiegare ci costringe a andare oltre questi confini disciplinari alla fine appunto rimaniamo dei separati in casa con una notevole frammentazione disciplinare anche interna forse siamo di nuovo alle convergenze parallele grazie 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 professor morlino grazie per questa intensa relazione ehm per questo dialogo che si è creato eh tra i relatori molto interessante e pieno di di spunti ehm chiaramente non spetta a me e non proverò neanche a farlo eh di tirare le fila di questi interventi che non hanno del resto bisogno eh della mia chiosa eh forse però possiamo provare a dire che anche nella relazione del professor morlino emerge chiaramente questo atteggiamento difensivo no? che fin dall'inizio c'è e che probabilmente è un un difetto originario della nascita no? dell'essere l'uno dentro l'altro eh di queste due discipline eh e di questa alternanza tra momenti di divergenza e di convergenza insomma a volte si sottolineano di più le divergenze a volte si sottolineano di più le convergenze eh però a questo punto penso e condivido con voi questo pensiero non perderei come dire i due profili perché probabilmente è come se stessimo guardando lo stesso cortile da due finestre diverse se ci mettessimo tutti in una medesima stanza ci sarebbero degli angoli del cortile che resterebbero in ombra e forse non è quello che vogliamo quindi non è la perdita di quei confini no? se lo sottolineava il professor Morlino non vogliamo perdere quei confini quelle frontiere disciplinari nello stesso tempo però se esiste e chiaramente esiste quel dialogo carsico forse è venuto il momento invece di portarlo alla luce di farlo emergere di essere più chiari nel nostro incontro nel nostro scontro e quindi questo è invece un obiettivo che possiamo darci in questo senso tanti incontri come quello di oggi tante prospettive di analisi comuni come quelle che proponeva il professor Campi forse sono la vera prospettiva del futuro quindi non uno scambiarci i ruoli perché altrimenti quel cortile rimarrebbe mezzo in ombra ma ecco non lasciare questo telefono senza fili in cui ci diciamo ma a volte per non dire ad alta voce non ci capiamo trasformare questa comunicazione in una comunicazione schietta a me non resta che ringraziare a tutti ma soprattutto i relatori di questo tavolo e buon appetito a tutti la dimensione costituzionale dell'economia con una specificazione il contributo della scienza economica alla definizione dei diritti fondamentali di natura sociale e dunque la scienza economica alla definizione dei diritti che costano che hanno una ricaduta sul piano dei costi e dunque anche delle scelte che uno Stato deve compiere e hanno accettato e io a nome dell'intero direttivo li ringrazio affettuosamente di svolgere la loro relazione la collega professoressa Luisa Cassetti che è ordinaria di istituzione di diritto pubblico dell'Ateneo Perugino che oggi un Ateneo a me particolarmente caro che oggi è rappresentato da ben due docenti abbiamo visto Alessandro Campi e il professor Maurizio Franzini ordinario di politica economica e già direttore del dipartimento di economia e diritto della Università La Sapienza di Roma ai quali appunto va in nostro sentito il ringraziamento il mio compito è quello del regolatore del traffico e quindi do immediatamente la parola alla collega e amica Luisa Cassetti per la sua relazione prego Luisa grazie Presidente io di primo luogo rinnovo il mio sincero ringraziamento ho già acceso ho già acceso sì 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 parlavo forse troppo piano ok già tutto pronto tutto a posto rinnovo il mio ringraziamento alla presidenza dell'AIC e a tutto il direttivo per questo cortesissimo invito che mi permette di tornare con altri occhi con un'altra prospettiva a temi a me cari perché ho avuto occasione nella mia formazione scientifica di trattarli appunto diceva Gianni Serges che siamo stati lasciati liberi di dare una impostazione al tema al macro tema individuato dal direttivo per parte mia ho ritenuto opportuno provare a individuare quali sono le categorie ricorrenti le formule più ricorrenti le formule di sintesi usate dai costituzionalisti perché come dicevamo stamane da parte degli storici come anche degli scienziati della politica il punto è che tipo di rapporto c'è stato ci può essere diceva Gianni forse un rapporto usuale perché c'è il diritto costituzionale dell'economia a me sembra e qui anticipo le conclusioni ovviamente provvisorie per quel che può essere una ricerca finalizzata una relazione e cioè che io l'ho chiamato un confronto a distanza a volte forse un po' troppo a distanza nel senso che ho riscontrato alcune categorie ricorrenti che sono state usate come formule generali dai costituzionalisti e soprattutto alcune categorie diciamo di tipo antitetico la prima in assoluto è kinesismo antichinesismo e quindi il dibattito sul se esista quale sia quali siano le caratteristiche di una costituzione davvero kinesiana negato accettato oggetto di discussione ma poi come vedremo questo dibattito ha portato dentro direttamente dentro il senso delle costituzioni quindi si parte dall'economia e poi si arriva al senso all'ubicon system di una costituzione quindi questo per dire quanto questi intrecci siano frequenti io ho dovuto a questo punto ho scelto di individuare due momenti storici anche per contenere la ricerca due momenti storici per valutare appunto la posizione dei costituzionalisti di alcuni costituzionalisti che hanno individuati e questi due momenti storici sono gli anni settanta e poi diciamo il dibattito che da lì nasce sul modello costituzionale e sull'organizzazione costituzionale interventista dirigista a massima estensione pubblicista e poi dall'altro lato invece ho messo in luce quello che accade dopo che in costituzione arrivano i parametri economici le grandezze economiche gli obiettivi economici e quindi il periodo post 2001 dove due revisioni si incrociano da un lato quella del titolo quinto la riforma del titolo quinto e poi la riforma del 2012 sull'equilibrio barra pareggio di bilancio l'ultima parte l'ho dedicata sempre con questa scansione temporale alle grandi questioni economiche sottese alla giurisprudenza della corte costituzionale perché anche su questo versante credo sia interessante vedere come alcuni argomenti di sistema nella giurisprudenza dei primi anni della corte costituzionale presentino delle caratteristiche appunto in cui si discuteva davvero si cominciava a discutere del modello costituzionale di disciplina dell'economia e la differenza rispetto all'oggi cioè al momento in cui i giudici costituzionali con una presenza nel testo di grandezze parametri e quindi obiettivi di natura economica a quel punto si devono misurare con la necessità di interpretarli qualificarli esporli attingendo forse in parte forse in maniera non critica alcune dottrine economiche come mini premessa che poi anche parte nella conclusione io ritengo che in questa fase affrontare il il tema del modo in cui i costituzionalisti si rapportano a queste grandezze a queste categorie ai grandi filoni di pensiero economico sia importante perché in realtà noi viviamo in un momento storico che come dire grazie tra virgolette alla pandemia ma ancora prima della pandemia viviamo in un momento storico in cui la commissione con der Leyen aveva già annunciato un ampliamento del bilancio europeo e a maggior ragione dopo la pandemia viviamo in una fase in cui effettivamente assistiamo lo dicono la gran parte dei commentatori in verità assistiamo con il Next Generation EU e quindi con l'attuazione del PNRR a un nuovo paradigma economico a una nuova dimensione che per dirla con gli obiettivi elaborati dall'OECD nel marzo 2021 dovrebbe generare un cambio di passo a livello globale europeo e globale e quindi parlare della percezione da parte dei costituzionalisti delle categorie economiche può tornare utile per capire come ci avviciniamo ora a questo eventuale cambio di passo che stiamo intravedendo in una situazione di grave crisi globale legata alla pandemia quindi riflettere su questo potrebbe essere un modo per vedere come poi si consoliderà questo intervento pubblicistico se sarà mantenuto se sarà modificato come tutti ci auguriamo il patto di stabilità con quei criteri rigidi che gli stessi economisti ritengono ormai superati quindi ci sono degli interrogativi che rendono questa materia particolarmente secondo me stimolante questo approccio allora operatori del diritto e teorie economiche diciamo che quando noi ci chiediamo ma come si sono nutriti i costituzionalisti dei grandi figlioni di pensiero dell'economia intendiamo soprattutto della politica economica evidentemente perché è questo forse l'ambito più vicino o comunque che ci trova diciamo meno a disagio i testi di politica economica e quindi in particolare Keynes come padre della moderna politica economica ritorna frequentemente negli studi dei costituzionalisti quindi il kinesismo antikinesismo come formula generale riassuntiva che che sta che sta lì a certificare un punto di un parametro di riferimento per giudicare la storia dell'intervento pubblico nell'economia piuttosto che la costruzione di una costituzione in senso keynesiano o antikenesiano per dare una cornia a chiassoni su assi interpretanti del 2013 che è stato molto stimolante dove appunto viene fatta la sintesi dei vari contributi contenuti in quel numero monografico dedicato proprio al rapporto tra diritto ed economia l'approccio diciamo i modi di relazionarsi alle grandezze ai parametri economici da parte dei giuristi sono di macrotipi ci possono essere formule normative che secondo l'opinione comune di tutti gli operatori rinviano a istituti modelli concetti economici per esempio concorrenza per esempio prezzi predatori hai bisogno dell'ateria economica e qui abbiamo un'interpretazione che ci dà la traduzione del concetto cioè che permette al giurista di avvicinarsi a un concetto economico il secondo modello è quando tu devi stabilire la sanzione per determinati comportamenti per esempio la sanzione in caso di concorrenza sleale che cos'è concorrenza sleale teoria economica qui l'interpretazione diventa qualificazione lo stesso terzo macro ambito non si può determinare l'adeguatezza di una norma giuridica se non ricorrendo una valutazione di adeguatezza del punto di vista economico quindi se una certa norma sia corretta dal punto di vista per esempio dell'obiettivo di tutelare la concorrenza anche qui l'interpretazione e qualificazione ciò che è interessante di questo studio è che secondo me condivisibilmente qui si dice che tutte le volte che compie in operazione interpretativa di questo tipo ogni interpretazione ogni decisione interpretativa è una decisione cioè è un atto decisionale e quindi come scelta è una scelta che fa l'interprete e come scelta può riservare dei punti deboli il giurista che sceglie di qualificare un certo provvedimento normativo come coerente con la tutela della concorrenza può acquisire un'interpretazione che non è condivisa dagli economisti e quindi come dire scatta l'interpretazione erronea la possibilità di un misunderstanding rispetto alla dottrina dominante in materia economica quindi c'è sempre un margine di discrezionalità e di diciamo aleatorietà nel momento in cui si procede a questo processo interpretativo per cogliere il significato che a quella grandezza danno gli economisti con tutte le conseguenze che ne derivano perché giustamente se noi pensiamo alla politica economica pensiamo a interpretazioni delle correnti di pensiero alla sistemazione delle grandi correnti di pensiero da questo punto di vista ha suscitato un mio interesse qui sintetizzo la relazione perché arrivo subito al primo aspetto della dottrina che mi ha colpito riferita proprio a questo uso della tesi Keynes anti Keynes ed è lo studio di Amato del 76 dove c'è un attento e preciso elenco di cause che generano che hanno generato tutti i limiti che conosciamo della grande fase dell'intervento pubblico nell'economia quindi con una dovizia di dati di sì non è un trattato giuridico è un trattato a confine perché giustamente da persona vicina alle istituzioni Amato ci spiega quali sono stati punti deboli della attuazione dell'intervento pubblico in economia ci spiega i limiti delle sovvenzioni ci spiega in particolare come si è sviluppata la presenza dello stato nell'economia e quali sono stati i punti deboli degli incentivi che i dirigisti volevano a tutti i costi organizzati in un certo modo e che invece i neoliberisti guardavano con estrema diffidenza e poi Amato ci mette in luce i limiti degli aspetti organizzativi a livello centrale la pluralità dei ministeri che secondo lui era una zavorra perché questa frammentazione della politica economica tra partecipazioni statali economia finanza interno per esempio in quel momento storico avrebbe generato una cacofonia di voci ma quella che è interessante è che quando viene spiegato in questo testo con i dati la propensione che è un nostro problema come sappiamo del deficit spending all'italiana qui c'è appunto la chiara netta accusa documentatissima sul non tanto la propensione alla spesa che non è assolutamente anzi è connaturata con lo stato sociale ma la spesa per spese correnti e quindi qui emerge chiaramente il problema di quella che Amato definisce come bugia pseudo-kenesiana cioè dice in realtà si percepisce tutta la fallacia della narrazione secondo la quale le spese correnti avrebbero effetti immediati benefici immediati sulla domanda interna e quindi sarebbe un motore formidabile della crescita e dello sviluppo però è evidente che qui c'era appunto il clientelarismo che ha generato le vegliazioni che conosciamo e quindi tutta l'anomalia di una interpretazione come vedremo assai poco rigorosa di quei pochi limiti che in effetti l'articolo 81 comunque prevedeva quindi questa è l'analisi diciamo in cui l'antitesi tra una certa vulgata di Keynes e le bugie collegate all'uso della spesa pubblica emerge con grande forza poi arrivano gli anni 80 e io lì ho riletto stamani sentivo appunto gli scienziati della politica che ricordavano l'importanza di Emilio e del gruppo di Milano e lì è stato molto utile tornare a leggere Bognetti Giovanni Bognetti che è il primo in realtà autore che negli anni 80 affronta se volete in maniera estremamente franca le norme costituzionali sull'economia troppo sbilanciato verso l'intervento pubblico verso le forme più massicce di intervento pubblico nell'economia e quindi soprattutto diciamo il limite che Bognetti vedeva in tutta questa costruzione Bognetti che fa proprio le tesi del gruppo di Milano quindi di Emilio ovviamente nel riprendere già siamo nell'83 quando cominciano a uscire le proposte di Emilio poi riprese nel 93 sui testi dedicati alla costituzione economica ma lì c'è appunto una lucida di analisi non solo di quello che appunto Amato bolla come bugia pseudo-kenesiana ma c'è un disegno di ricostruzione su nuove fondamenta della costituzione economica italiana e soprattutto della costituzione finanziaria perché Bognetti nell'elenco delle riforme che suggeriva in quel momento diceva chiaramente che c'era bisogno di una regola e che scali stringenti quindi di superare l'articolo 81 per come era stato fino allora interpretato e quindi poi Bognetti ci ricorda l'importanza delle rules e di un controllo notevole sulle regole fiscali l'altro perché vedo che il tempo scorre l'altro diciamo aspetto di questo uso delle tesi antitesi cioè Keynes contro Keynes arriva quando appunto sempre Bognetti stimolato dal suggerimento di Binn in tempi a noi molto più vicini che in realtà in questa antitesi Keynes anti Keynes c'è una tendenza anche nella dottrina più recente di interpretare l'antitenesismo come una formula generale che mi riferisco allo scritto di Mangiamedi appunto sulla voce per una voce neoliberismo l'anti Keynes è l'elemento fondante della cultura che si forma sia in Europa sia in America in America lo chiamiamo neoliberismo in Europa lo chiamiamo ordoliberismo colpisce il linguaggio che usa Mangiameli perché secondo me anche quando si traduce la cultura degli ordoliberali tedeschi che poi sono un mondo un universo ma lo spiego nella relazione insomma perché sono temi che avevo già trattato quando si usa il termine ordoliberismo per avvicinarlo al neoliberismo americano si fa una precisa scelta ideologica no? e noi sappiamo basta leggere insomma le traduzioni di Francesco Forte e di Clemente Felice che hanno nel 2010-12 tradotto molti di questi autori in lingua italiana rendendoli più fruibili bene loro dentro appunto al ordo liberalismo perché così lo traducono stanno ben attenti a porre i padri di quella cultura e lì il punto è che Fonajek viene troppo spesso e troppo facilmente assorbito dentro quella cultura è vero che ci furono dei contatti ben precisi no? tornando dall'America si parlarono e furono dentro quella cultura però per sintetizzare la catalansia di Fonajek non ha nulla cioè ha poco a che vedere con la percezione che l'ordoliberalismo ha dell'importanza dell'intervento pubblico in economia l'economia sociale di mercato con tutti i limiti che può aver avuto rappresenterà una linea guida che poi non sia stata costituzionalizzata è un altro paio di maniche dal punto di vista formale ma che sia stata una grande linea politica di costituzione materiale anche per l'ordinamento tedesco è indubitabile quindi vedete nelle classificazioni generali si arriva a dire appunto che l'ordoliberalismo e il neoliberismo americano sono sostanzialmente la stessa cosa perché vanno tutti contro Keynes sono entrambi la declinazione dell'anti Keynes ora passando velocemente a quello che mi colpisce della fase post 2001 mi limito rinviando alla relazione a dire che qui il problema è ben più grave nel senso che nel momento in cui noi abbiamo in costituzione delle grandezze economiche tutela della concorrenza piuttosto che equilibrio pareggio di bilancio non possiamo più coprirci dietro le etichette e le formule generali dobbiamo entrare in concreto e qui che sia un problema concreto questo della qualificazione da parte del giurista delle grandezze economiche viene fuori in una giurisprudenza che ho avuto occasione di studiare a partire dalla storica sentenza 14 del 2004 un leading case poco leading perché sarà poi in larga misura non seguito dalla giurisprudenza successiva perché poneva un giudizio di ragionevolezza come sappiamo per valutare se una norma che è per la Corte promozione della concorrenza sia proporzionata al fine di mantenere poi l'unità economica perché era questo il senso di quella qualificazione della Corte ecco qui mi ha colpito molto ho letto con attenzione quello che gli economisti hanno detto di questa decisione Giarda fa una requisitoria su quella acquisizione da parte dei costituzionalisti delle teorie economiche sulla tutela della concorrenza e bacchetta come con una penna rossa a tutti i punti in cui la Corte secondo lui impropriamente ha fatto sue alcune categorie come quella dell'equilibrio economico generale piuttosto quella della promozione della concorrenza perché di fatto anche i giuristi dissero in quell'occasione che quella sentenza allargando il concetto di promozione della concorrenza di tutela intesa come promozione della concorrenza finiva per dare uno spessore a una piccola norma che dava incentivi in agricoltura poi di fatto ce l'ha fatta sembrare come una linea di politica economica generale indispensabile perché doveva essere portata avanti dallo Stato e invece appunto noi sappiamo forse con l'occhio del giurista noi abbiamo in qualche modo compreso che quella era un escamotaggio interpretativo perché la Corte si è trovata avanti la necessità di capire chi decide sullo sviluppo economico di un paese e non potevano essere le regioni evidentemente quindi la concorrenza intesa come promozione diventa una leva come dice la Corte dello sviluppo economico di un paese e qui anche Giarda dice ma la concorrenza attenzione non è solo strumento è anche obiettivo e poi è un obiettivo ma non è un obiettivo in sé perché tu con la tutela della concorrenza bisogna vedere che cosa vai a fare cioè qual è l'obiettivo finale quindi bisogna vedere guardare oltre la tutela della concorrenza sempre su questa sempre su questa linea abbiamo avuto qui per spot per flash abbiamo avuto lo stesso problema della distanza di giurizio di economisti quando sono andati a studiare le sentenze del 2012-13 quando la Corte per la prima volta non si trova a giudicare una misura economica una norma specifica ma la politica di liberalizzazione e di nuovo la riconduce alla regolazione intesa come riregolazione come bisogno di nuova regolazione per rendere dinamico il mercato e ancor più gli economisti studiano la sentenza 299 del 2012 perché lì appunto c'era un problema della deregolamentazione dell'apertura dei negozi la Corte finge come dice Onida fa un errore e fa finta che non lo vede fa un errore perché la deregolamentazione tecnicamente non è la regolazione è la assenza di vincoli la totale eliminazione di vincoli quindi quello che Onida mette in evidenza è poi rimarcato anche dalla dottrina economica ma è interessante che gli studi economici c'è proprio uno studio di analisi economica del diritto cioè prende le sentenze del 2012 e le classifica come rientranti nell'analisi economica del diritto solo che l'economista quando va a leggere queste decisioni dice ma insomma non dovrebbe essere compito della Corte Costituzionale dire fino a che punto una pratica di liberalizzazione totale del mercato della distribuzione commerciale buona o cattiva dovrebbe esserci una pianificazione a monte che dica quella regione quel comune se la sente di coprire i costi di una regolazione più stringente a tutela del diritto alla domenica al culto al riposo come dicono i tedeschi in una sentenza che appunto invece ha censurato il Bundesverfassum dericht ha censurato la liberalizzazione dell'Amp di Berlino quindi forse dovrebbe esserci una pianificazione a monte non dovrebbe essere compito della Corte fare questi bilanciamenti e invece noi ci troviamo esattamente a questo punto per il modo in cui le liberalizzazioni in maniera un po' schizofrenica sono andate avanti nella nostra storia costituzionale recente tutto si è scaricato sulla Corte ma appunto e qui concludo attenzione perché quando queste grandezze entrano nella Costituzione entrano nel linguaggio dei giuristi che fanno il possibile per agganciarsi a questi accessori di Kenzo e qui mi fermo e vi ringrazio per l'attenzione benissimo davvero grazie a Luisa Cassetti per questa relazione molto denso vedo che dal punto di vista della consistenza è molto più consistente dalla parte che è stata esposta nella quale il punto centrale è proprio i modi di relazione dei giuristi rispetto al fenomeno economico ma che nell'ultima parte ha sollevato un problema di come dire di rapporto anche tra la stessa giurisprudenza costituzionale e la pluralità delle teorie economiche a questo punto la parola al professor Maurizio Franzini che appunto interpreta secondo il suo punto di vista il tema che abbiamo indicato nel programma grazie prego si sente? si ok la prima interpretazione era la quale fosse il pulsante giusto allora grazie molto benvenuto sono molto contento di essere qui anche perché questo mi ha offerto l'occasione per fare qualche esercizio interdisciplinarietà è una parola impegnativa diciamo di extra disciplinarietà cioè di occuparmi di altre cose magari con uno spirito di arrivare a una sintesi multidisciplinare interdisciplinare davvero dura francamente messa in questi tempi allora io vorrei parlare di lavoro soprattutto vorrei parlare di lavoro e vorrei parlarne nell'ottica di chiarire che cosa si dice dalle parti degli economisti del lavoro di questi tempi e che rapporto questo ha con alcuni principi costituzionali il diritto al lavoro il dovere di lavorare sono tutte questioni cruciali sulle quali intervenire e dico subito che la scienza economica è singolare ma non esiste quasi nulla di singolare all'interno della mia disciplina siamo una famiglia come posso dire molto numerosa e molto variegata che abita magari nella stessa casa ma in stanze molto diverse molto collocate in posti molto diversi c'è alcuno c'è alle stanze con la vista sul cortile il lavoro è una condizione indispensabile per permettere al mercato di assicurare la piena occupazione adesso semplifico ma voi capite bene che l'implicazione di assumere che la flessibilità nei salari nelle mansioni negli orari di lavoro nel trasferimento se è possibile da un lavoro a un altro è abbastanza in contrasto con l'idea del diritto al lavoro come lo si può intendere tornerò dopo su questo punto allora la prima cosa è la flessibilità e la flessibilità è quella che garantisce a tutti l'occupazione l'idea di base è se tu vuoi proteggere qualcuno crei condizioni tali che poi metti nei guai qualcun altro e quindi e quindi se tu vuoi tutelare il diritto al lavoro di tutti non devi proteggere nessuno adesso sto semplificando ma questa è una implicazione abbastanza drammatica di questo modo di guardare le cose associata a questa idea abbastanza strettamente c'è l'altra idea per la quale tutto quello che conta è la crescita economica cioè da un lato la flessibilità serve a fare piena occupazione dall'altro la flessibilità è favorevole anche a questa mitica crescita economica che risolve tutti i problemi e attorno a questo c'è una bella narrativa che si può raccontare come vi dirò tutte queste idee danno poi dopo a delle narrative che sono molto persuasive non so per esempio quella della flessibilità una narrativa persuasiva è del tipo bisogna fare dei sacrifici per stare tutti meglio quella della crescita è bisogna fare un po' di sacrifici perché poi dopo avremo tutti più reddito grazie alla crescita economica anche quelli che all'inizio sembrano essere danneggiati quindi la narrativa che la crescita per esempio riduce la disuguaglianza è una narrativa molto diffusa e molto persuasiva che sta dentro questo corpus di idee di cui ho appena detto la seconda cosa forse meno nota ma a cui io attribuisco molta importanza è che per questi economisti le preferenze dei lavoratori per il lavoro per il tipo di lavoro non contano niente cioè nella teoria economica anche quella più sofisticata dove ci sono i mercati dove c'è la libertà di scelta dove c'è tutte queste cose meravigliose non ci sono le preferenze dei consumatori per il tipo di lavoro che fanno questo è l'esito anche di un dibattito che si ebbe a cavallo del secolo scorso tra alcuni economisti inglesi e alcuni economisti austriaci della famiglia a cui apparteneva Ayer e in questa contrapposizione gli inglesi dicevano ma noi dobbiamo costruire una teoria che sia in grado di rappresentare anche le preferenze dei lavoratori per il lavoro e gli austriaci dicevano no il lavoro è solo rinuncia al tempo libero e la vedevano più o meno così tu rinunci a un bene che è il tempo libero che ti dà la possibilità di accedere a un altro bene supremo che è il consumo quindi veniva tutto subordinato a questa idea che il lavoro fosse in mezzo per accedere al consumo e qui posso fare una piccola parentesi stamattina ci si chiedeva di quando sono intervenuti dei cambiamenti fondamentali e qui io direi guardate che gli anni 60 sono gli anni si è imposta in un modo straordinario danneggiando ulteriormente quello che era rimasto di un'idea di lavoro come dimensione vitale e importante allora quando togliamo le preferenze non diamo nessuna importanza alle preferenze tutti i lavori sono uguali e tu sei soltanto chiamato a fare quello che ti viene chiesto non puoi esprimere altri anzi noi viviamo in un mondo nel quale se una cosa ti piace farla la devi fare con un salario più basso proprio perché in qualche modo c'hai questo vantaggio che ti piace addirittura lavorare quindi lo devi fare con una remunerazione più bassa questo è rilevante o non è rilevante per questioni di tipo la dignità del lavoro il raggiungimento di una dimensione identitaria anche attraverso l'attività che si svolge credo che lo sia molto e questo si ricollega a qualcosa che i costituenti discursero molto come sapete il problema della dignità del lavoro e il problema anche su cui ritornerò brevemente dei lavori socialmente utili che poi è diventata una parolaccia per oggi voleva dire una cosa ben precisa lavori utili per la collettività e non soltanto perché questo c'entra anche con le prezioni la terza idea rilevante per questo discorso che sto facendo è quella che è stata in qualche modo proposta con forza e fatta propria poi da un grandissimo ambito sia di diciamo di economisti sia di politici l'idea che le imprese devono massimizzare semplicemente il valore delle imprese lo cosiddetto shareholder value cioè l'idea che quello che conta è soltanto il valore delle imprese per gli azionisti questo c'è un articolo molto famoso di quando quando Keynes già se la cominciava a passare un po' male all'interno della disciplina con la rivoluzione cosiddetta monetarista uno dei punti era lo shareholder value per darvi l'idea di quanto sia importante questa cosa forse lo saprete ma in questi giorni in queste settimane a livello di commissione europea si sta discutendo di ma che mettiamo al posto dello shareholder value e c'è lo stakeholder value quello che dovrebbe vedere ma capite bene che a questo punto significa le imprese devono anche per ragioni etiche pensare soltanto agli azionisti pensare agli azionisti significa ovviamente fare politiche per rispetto al lavoro sono solo quelle che subordinano il lavoro al raggiungimento di questo tipo di risultato che è un risultato che anche di carattere finanziario è di breve periodo quindi è anche proiettato su una logica di profitti a questo aggravato dalle modalità con le quali vengono le tribù di manager che li spinge a operare per un risultato finanziario immediato allora questo punto è pensate il contrasto con quello che c'è in quello che si è discorso in costituente rispetto al coinvolgimento dei lavoratori nella gestione delle imprese siamo esattamente siamo esattamente agli antipoli tutto ciò dà luogo anche a narrative collegate tipo quella che se noi avvantaggiamo gli azionisti dirò meglio coloro che decidono delle imprese che oggi molti paesi sono sempre di più i gestori dei fondi finanziari vi do questo dato se prendete le 500 società americane quotate nel standard del cuore nell'indice di borsa nell'indice di wall street 430 adesso non mi ricordo bene ma più o meno questo è il numero sono gestite da tre fondi di investimento da tre attività vuol dire 38 persone che gestiscono un patrimonio inaudito spesso anche con idee in conflitto con quelle degli azionisti che sono quelli che li hanno risolvi quindi viviamo in un mondo in cui siamo arrivati anche oltre lo sharehold del value siamo arrivati al potere illimitato di coloro che gestiscono i soldi degli altri attraverso la finanza eccetera comunque ritornando a una delle narrative agganciate a questa qual è? è quella potentissima del cosiddetto effetto trickle down che cos'è il trickle down? tradotto è sgocciolamento cioè è l'idea che quando tu arricchisci qualcuno al top poi prima o poi ne beneficiano tutti perché qualcosa deve sgocciolare dall'alto verso il basso e quindi anche coloro che nell'immediato possono essere danneggiati da questa concentrazione al top poi saranno contenti perché si accorgeranno ecco vi posso dire che questa narrativa in realtà non circola nemmeno tra i più seri diciamo di coloro che frequentano le suite non c'ha fondamento empirico non c'ha fondamento teorico ma ha una potenza persuasiva incredibile una di quelle narrative che riescono a convincerci a convincere moltissimo perché sembrano che posso dire una specie di ordine sovrannaturale che si impone e che riesce e il ragionamento quindi diventa quello fai qualche sacrificio accetta perché prima o poi ne trarrai beneficio attraverso mi sono sempre chiesto perché non c'è il trickle up come il trickle down che sgoccia perché quello che parte dal basso non possa dire verso l'alto e avvantaggiare anche chiusa parenti allora queste sono le tre idee fondamentali come si collegano ad alcune questioni di cui io ho appreso da direttante leggendo un po' di atti la questione di tre cose diritto al lavoro dovere lavoro e retribuzioni dignitose voi sapete che molti costituenti di fronte al discorso del diritto al lavoro dissero ma che vuol dire mica possiamo avere il dovere di dare il lavoro a tutti cioè lo Stato non ha il dovere di dare il lavoro a tutti e altri che dicevano no lo Stato deve fare quello che poi con Keynes divenne abbastanza più chiaro doveva creare le condizioni per il pieno impiego se usava il lavoro vuol dire proteggere qualcuno gli NG qualcun altro il mercato riuscirà a trovare la soluzione basta che lo lasci lavorare se poi le tributioni sono un po' basse lo vediamo dopo però qualsiasi interferenza in questa direzione quindi il diritto al lavoro si tutela lasciarsi e il diritto al lavoro si tutela non proteggendo il lavoro che è una specie di paradosso ma è qualcosa che sta dentro questo tipo di oggi se veniamo ora al dovere a lavorare se non ho letto male se non ho capito male mi sembra che i costituenti discutessero di dovere al lavoro in due sensi nel senso di non puoi ossiare quindi il dovere di lavorare è diciamo su questo tema siamo pieni di discussioni in questi giorni basti pensare ma non voglio parlare a quello che si dice del radio di cittadinanza del divanismo che è una forma di sollecitazione all'ozio che sarebbe solamente in contrasto con il dovere di lavorare gli economisti di la suite che dicono dicono ma se il lavoro è debole e per essere flessibile deve essere un po' debole a meno dei segmenti il problema non c'è perché uno per sopravvivere per raggiungere un livello di vita decente deve andare a lavorare quindi non c'è bisogno di imporre un dovere basta creare le condizioni di flessibilità che queste si riflettono anche sul superamento del problema dell'ozio se ci ripetete un attimo questa è nella logica del radio di cittadinanza cioè quello di dire radio di cittadinanza alta eccetera eccetera se lo togli riesci ad avere questa disponibilità al lavoro che altrimenti non c'è la seconda accezione mi sembra che fosse quella che diceva il dovere al lavoro è il dovere a svolgere un lavoro socialmente utile problema complicato problema delicato quindi era un teso come dovere nei confronti della società per quello che riguardava la capacità di dare alla società qualcosa di utile che cosa direbbe l'economista diciamo della suite direbbe ma lo decide il mercato l'economista delle suite direbbe ma che vuol dire la tribuzione sarà quella che il mercato decide e non c'è altro da fare a meno di non ricadere nel problema che poi dopo ti ritrovi i disoccupati per garantire la vita dignitosa come la intendi tu a qualcuno poi getti sull'astrico qualcun altro e poi ti devi porre il problema di quale forma di protezione dare a loro mi ricordo mi è molto colpito la frase di un costituente che dice ma se un'esistenza libera e dignitosa un individuo la deve garantire lo Stato questo signore vuole fare il pittorio il poeta e nessuno si compra le sue opere lo Stato gli deve garantire lo stesso la vita dignitosa allora quindi questo è un esempio del dilemma in cui si dibatteva di cui si dibatteva e che viene risolto nel modo che vi ho detto quando si ha questa fiducia enorme nel funzionamento del mercato e infine come ultimo punto la questione della partecipazione dei lavoratori alla decisione dell'impresa che è lontana a mille miglia dallo shareholder value che ha anche lei un valore come posso dire dell'interpretazione del presente significativo per esempio riflettevo sul fatto non so se avete letto che è stato dato un premio a quella società di consulenza del lavoro che ha gestito il licenziamento dei 430 lavoratori della GKE ecco mi chiedevo se in un mondo in cui non ci è lo shareholder value o qualcosa del genere che è un servizio allo shareholder value in un momento in cui non lo fosse altro che il premio dovrebbe dare qualcosa bene allora qualche dato rapidamente sapete quanti sono i lavoratori poveri nel nostro paese cioè coloro che calcolando la povertà povertà non è un concetto oggettivo si può misurare in vari modi il modo tipico di calcolarlo anche a livello europeo è quello di misurare il salario che è meno del 60% del salario mediano cioè si prende il salario mediano che è il salario che guadagna il lavoratore che ha il 50% più ricchi di lui e il 50% più poveri si prende il 60% che si considera povero chi sta sotto questa soglia il concetto di lavoratore povero di working poor non esisteva fino a qualche tempo fa adesso è all'ordine del giorno e nel nostro paese calcolandolo abbastanza accuratamente i working poor sono il 13,2% della forza lavoro cioè vuol dire che è working poor un lavoratore su 8 che mi sembra un bel risultato oltre a ciò abbiamo dei dati sul grado di insoddisfazione dei lavoratori che sono abbastanza impressionanti sapete quanti sono i lavoratori part time che non vogliono fare part time cioè che sono obbligati a fare part time perché non trovano di meglio sono 2 milioni 750 mila che vuole dire il 12% non degli occupati part time ma di tutti gli occupati cioè con un numero straordinariamente elevato e che cosa viene fuori da alcune indagini che fa l'Europa la percentuale dei lavoratori che vorrebbero fare qualcos'altro è altissima di quelli insoddisfatti in particolare mi ha colpito che più di un quarto il 27,7% dei lavoratori autonomi vorrebbe fare il lavoratore dipendente cioè è insoddisfatto della sua attività di poter fare un'idea di chi possano essere questi lavoratori autonomi con questo grado di insoddisfazione e poi ci sono i lavoratori insicuri ci sono i gig workers di cui non possiamo parlare del capitalismo digitale delle piattaforme quelli che hanno il secondo lavoro perché non arrivano a mettere insieme c'è una serie di questioni molto importanti un segnale significativo ci viene dagli Stati Uniti non so se avete letto questo problema che sembra che dopo la fine della pandemia e dopo anche la fine degli interventi straordinari a sostegno dei redditi dei lavoratori un numero rilevantissimo di lavoratori si sta licenziando quella che gli americani chiamano la great vaccination cioè stanno rassegnando le dimissioni dal lavoro si cercano le spiegazioni ma una delle spiegazioni che riesce a essere abbastanza convincente è quella che durante la pandemia si sono resi conto scusate il termine di quanto fa schifo il lavoro che fanno e quindi non ci vogliono non ci vogliono tornare a lavorare per salari bassi a svolgere mansioni tutto questo per dirvi che seguendo certe logiche si arriva a queste forme di degradazione del lavoro non so come altro chiamarlo per una quota consistente molto consistente di lavoratori e tutto ciò non con il beneficio atteso sulla crescita sulla produttività su quei risultati mi dico una sola cosa in Italia abbiamo cominciato ad introdurre elementi di flessibilità pesanti nel mercato del lavoro in prima metà degli anni 90 immediatamente è aumentata la disuguaglianza immediatamente è caduta la produttività cioè abbiamo un collegamento tra questi tre fattori che non va sottovalutato cioè quello per il quale quando tu metti in atto delle misure che aumentano la flessibilità del lavoro non hai il risultato di più crescita ne hai di meno e le ragioni possono essere molte una plausibile quella che dice quando tu paghi in salarietà fai meno innovazioni cioè dici io i profitti li difendo tagliando i salari piuttosto che facendo innovazioni e innovazioni servono alla produttività oppure c'hai un clima in fabbrica che è di scarsa cooperazione dei lavoratori e questo genere degli effetti negativi sulla stessa produttività ci sono abbastanza elementi per poter sostenere che questo è rilevante e voglio qui ricordare fare un ultimo punto prima di chiudere il punto è quello della mobilità sociale quando voi avete una società fortemente diseguale come questa nei gradini più bassi finiscono quasi inevitabilmente quelli che vengono dalle origini familiari più svantaggiate per tantissime ragioni facili a spiegarsi noi siamo un paese ad alta disuguaglianza e a bassissima mobilità sociale cioè i dati ci dicono che coloro che nascono nelle famiglie che non so sono il 10% più povero di reddito hanno una bassissima probabilità di salire nella scala dei redditi non tanto di guadagnare di più o di meno dei loro genitori ma quanto di superare qualcuno che è figlio di uno che stava più in alto di loro nella scala sociale non so voi cosa ne pensiate ma credo che il venire meno di questa condizione sia di una discreta gravità per il buon funzionamento della democrazia e aiuti a generare un fenomeno che io tendo a chiamare come un fenomeno di tendenze oligarchiche cioè disuguaglianze crescenti e sempre gli stessi al top adesso per semplificare molto e brutalizzare un po' quello che intendo dire mi piace ricordare qui una cosa che disse Fanfani nella Costituente il quale disse dicendo che la Repubblica è fondata sul lavoro si esclude che possa fondarsi sul privilegio e sulla nobiltà ereditaria mi sembra che riflettere sull'importanza che il lavoro ha come fatto dignitoso che permette di ascendere eccetera è riflettere anche sul fatto che quando questo non c'è c'è un'altra base su cui si rafforza si cementa il potere e la rendita è questa e allora che dicono rapidamente gli economisti del cortile insomma con la finestra sul cortile dicono poco meno guardate che un po' di rigidità fa bene un po' di rigidità non serve soltanto a tutelare il lavoro e a rendere più facilmente perseguibili gli obiettivi di diritti e i diritti di Pusipal servono anche alla produttività servono anche a favorire la crescita economica un famoso economista italiano scomparso da diversi anni ormai sosteneva esattamente questa tese mi sto riferendo a Paolo Siros D'Albini quando diceva guardate che c'è un grado ottimo di rigidità del lavoro va male il lavoro troppo debole va male il lavoro troppo forte dobbiamo trovare il grado ottimo le istituzioni devono essere disegnate per favorire questo grado ottimo di rigidità che è anche uno strumento di disciplina nei confronti degli imprenditori tutti dobbiamo essere disciplinati gli imprenditori no cioè questo evidentemente è un'accezione un po' parziale di quello che deve accadere per far funzionare e che cosa dicono facciamo il salario minimo il primo nobile dell'economia quest'anno è stato da David Kahn che ha studiato gli effetti del salario minimo sull'occupazione e ha trovato che non ci sono effetti è uno dei contributi che lui ha dato effetti negativi sull'occupazione intendo dire come ce lo possiamo spiegare con le rendite che cose sono le rendite le rendite sono quello che guadagni di più di quello che ti basterebbe per fare quello che stai facendo allora quando voi avete molte rendite se vengono un po' erose dal salario minimo non è che uno dice chiudo e me ne vado mi accontento mi accontento di una rendita un po' più piccola e non succede niente di particolarmente tre mani se noi partiamo come partiamo da un mondo in cui le rendite intese in questo senso sono molto elevate erodere erodere le rendite serve all'equità serve ai diritti e non danneggia la crescita e non danneggia l'efficienza in più può avere quell'effetto può avere quell'effetto che vi dicevo prima di stimolo alle innovazioni ci sarebbero molte altre cose che potrei dire ma mi avvio a concludere perché il tempo è passato però all'interno delle idee degli economisti del cortile ce ne sono alcune che riguardano la governance delle imprese come fare oltre lo shareholder value ce ne sono alcune che hanno molta attenzione alle innovazioni che dicono noi dobbiamo favorire le innovazioni che sono complementari al lavoro e non sostitutive del lavoro che è un concetto molto importante sono innovazioni che aiutano chi lavora a fare meglio il proprio lavoro ci sono innovazioni che mandano a casa quelli che lavoravano alcuni economisti chiamano stupide le innovazioni del secondo tipo cioè quelle che mandano solamente a casa i lavoratori senza nessun altro beneficio come possono essere non so le casse automatiche ai supermercati per esempio quelle sono innovazioni che servono soltanto a cacciare i lavoratori e con queste idee si può credo abbastanza ragionevolmente pensare di mettere insieme un po' più di diritti un po' più di tutoria del lavoro e non meno di benessere materiale se questo è quello che vogliamo e non concepire il benessere diciamo non materiale come un sottoprodotto di quello che garantirà il mercato e da questo punto di vista volevo citare una frase detta da una persona molti anni fa insomma senza questa persona forse io non sarei qui e non sarei qui a dirvi quello che vi sto dicendo la frase l'ideale è quello di costruire un mondo in cui lo sviluppo civile e sociale non sia il sottoprodotto nello sviluppo economico ma sia un obiettivo coscientemente perseguito queste parole furono dette nel 1976 da Federico Caffè e credo che abbiano un valore molto importante ancora oggi vedo un panorama che potrei sintetizzare così viviamo in un'epoca che chiamiamo di neoliberismo ma magari ci fosse il neoliberismo inteso come libertà di ingresso nei mercati concorrenza anche non solo tra i poveri ma anche concorrenza tra i ricchi quello vuole dire liberi noi secondo me viviamo in un'epoca di croni di capitalismo cioè di capitalismo in cui è fortissima la saldatura tra il potere economico e il potere politico stamattina qualcuno ricordava Machiavelli che diceva prima o poi la forza economica diventa forza politica e noi ci siamo pienamente dentro questa cosa il nostro ostacolo principale è questa commistione che è andata molto avanti in tantissimi paesi tra potere economico e potere politico e questa commistione si alimenta di narrative persuasive il minimo che possiamo fare è cercare di smontare queste narrative persuasive ed è un po' quello che ho cercato di fare oggi grazie 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 davvero al professor Franzini per questa altrettanto densa relazione che suscita molti spunti di riflessione che ha interpretato da un versante diverso e molti versi complementare alla impostazione di Luisa Cassetti il tema che avevamo tracciato bene a questo punto l'adempimento successivo dovrebbe essere quello dell'assemblea ma noi utilizziamo questo piccolo intervallo per un adempimento che non è scritto nel programma ma che è molto importante un'occasione annuale e cioè la consegna del premio intitolata alla memoria del nostro compianto collega Sergio Pacunzio io invito se ci consentite un attimo svolgiamo questo adempimento e poi possiamo perché poi alle 5 abbiamo l'assemblea io avevo pensato di inserirla qui dentro ecco il tempo c'è allora ecco prego Elisa Parunzio prego 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 è comodo è comodo ecco intanto possiamo prego io ho qui la motivazione del 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 premio intanto credo di interpretare i sentimenti dell'intero del presidente dell'intero direttivo e direi di tutti i soci non è ringraziare la perdurante disponibilità di Elisa Zandoni Parunzio a finanziare questo premio così importante che vuole incentivare e premiare il miglior scritto di carattere monografico dell'anno immediatamente precedente a quello nel quale si tiene il convegno quest'anno l'anno è il 2020 la commissione quest'anno era presieduta dal collega Roberto Lania che era stato sotteggiato tra una rosa di colleghi indicati dalla signora Parunzio dalla collega Elisabetta Lamaec sotteggiata all'interno del direttivo dell'AIC e dal professor Luigi D'Andrea che era stato disegnato al presidente secondo l'accordo che fu a suo tempo stipulato quando era presidente Massimo Luciari la commissione ha esaminato otto lavori io dico molto rapidamente che la commissione ha espresso il proprio apprezzamento per l'impegno scientifico dimostrato dai volumi dei dottori Aru Casanova Martire Ragone Rospi e Spadaro e ha espresso al tesivo una particolare valutazione di meritevolezza per il volume di Leonardo Pace dal titolo L'adeguatezza della legge e gli automatismi il volume dice la motivazione evidenzia profili di originalità nell'impostazione di una questione di notevole spessore teorico quale quella degli automatismi legislativi si apprezzano anche la capacità argomentativa e la chiarezza espositiva il volume si segnala inoltre per la rilettura degli interventi manipolativi del giudice di costituzionalità alla luce dell'esigenza costituzionalmente pregevole di garantire la necessaria flessibilità applicativa della legge e pertanto all'unanimità ha assegnato il premio panunzio per il 2021 alla monografia del dottor Leonardo Pace che è qui presente che è qui presente e che io invito vieni 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 ecco qui il dottor Pace a quale complimenti complimenti facciamo un piccolo applauso io vorrei vorrei semplicemente ringraziare la signora D'Annoni Panunzio la commissione che ha avuto l'onere di leggere il mio come gli altri lavori presentati sono particolarmente felice che il giudizio che mi segue fin dal tempo della tesi di laurea e anche prima ed è una guida non soltanto accademica ma anche di vita sono molto contento per questo e l'ultima cosa vorrei ringraziare gli altri professori di diritto costituzionale e diritto pubblico di Roma 3 che mi sono stati vicino e mi continuano ad essere vicino i colleghi e gli amici e il professor Modugno anche ti tengo a ringraziarlo per quello che ho imparato leggendo le sue opere e quello che sto imparando in questa fase della mia vita con lui grazie al Signore e all'Associazione Italiana di Costituzionalisti per questo momento grazie 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 se vuoi rimanere ci fa piacere una parte di dibattito allora rimane un quarto d'ora di tempo tranquillamente per interventi sulla mi pare che c'è il professor Amirante che aveva manifestato l'interesse ad un intervento prego prego l'intervento e scherzando mi dice anche anche in ragione dei risultati elettorali il buffet è stato prorogato non so per quanto tempo ma adesso possiamo introdurre un breve dibattito e c'è Carlo Amirante che eccolo qua si beh ci sarebbe tantissimo da dire ho apprezzato molto entrambe le relazioni ma mi soffermerò solo su due tre punti il primo punto è la questione che è alla base delle sentenze della Corte Costituzionale che credo potrebbe interessare non solo i giuristi ma anche in particolare quelli che si occupano di diritto dell'economia ma anche gli economisti sta per uscire un libretto a mia cura con un saggio mio e un saggio di Carlo Panito e d'altra parte c'è stato un libro di Amartya Sen che finalmente pone il discorso del rapporto fra razionalità e ragionevolezza nell'economia e il saggio di Carlo Panito che uscirà in questo libretto fa un'indagine dall'economia classica Smith Riccardo Marx fino alle forme più recenti di economia per dimostrare come il concetto di razionalità cambia talmente dall'ora ad oggi da diventare praticamente da far ritenere che oramai anche per gli economisti anche se l'espressione non viene sempre utilizzata però Amartya Sen utilizza nel suo libro che è quella di ragionevolezza per cui penso che i giudici costituzionali non dovrebbero avere alcuna remora a valutare le politiche economiche che vengono sottoposte al suo esame perché dagli studi che recenti che ho fatto dagli ultimi 20 anni mi sono occupato questo anche per merito della facoltà in cui ho insegnato la facoltà di scienze politiche e sociali in cui abbiamo insegnato insieme con Franzini poi se voi pensate che una volta la facoltà di economia si chiamava economia politica adesso si chiama economia tu cur già questo vi dovrebbe spiegare come è cambiato il concetto di economia e si è supportata questa idea che l'economia politica sia una materia assolutamente politica è vero che tra il sedio e il facetto Franzini ha dimostrato molto bene che così non è del resto io ritengo che tutte le teorie generali sia quelle giudizie che quelle economiche servono più per far capire quello che pensa dell'economia l'autore che non come funziona l'economia mentre invece l'economia applicata le politiche economiche eccetera invece fanno riferimento alla struttura reale dell'economia e questo naturalmente ha un'enorme conseguenza e quindi penso che la realtà è quella di esaminare le politiche economiche rispetto a dei parametri reali per esempio il mercato la teoria del mercato ma il mercato io mi riferisco non a Marx ma a Jackson che è uno dei più famosi economisti inglesi che scrive sulla rivista di Cambridge che è uno dei più prestigiosi del mondo Jackson dice che chi parla di mercato è un ignorante perché esistono i mercati non il mercato cioè esistono una serie incredibile di varianti che dipendono dalla moneta in cui si fa lo scambio dal fatto dei soggetti lo scambio sia individuali o collettivi per esempio quando combattono e confliggono i sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro questo è un argomento a seconda del sistema fiscale se lo sistema fiscale è quasi a alto zero oppure c'è un alto altissimo è chiaro che gli elementi sostanziali del mercato vincano radicalmente e per esempio e mi meraviglio che questo in realtà non sia ma per la questione di tempo non sia venuta l'ordine del giorno e chiudo perché all'ordine del giorno la questione dell'ambiente e della salute perché io credo che dopo quello che è successo negli ultimi due anni il problema dell'impatto sulla salute ma anche prima tu parlavi degli sgocciolamenti parlavi del problema della salute ma io penso che la legislazione è una legislazione alla quale gli economisti non si potrebbero opporre dovrebbe prevedere delle reazioni di tipo premiale per esempio per le imprese dove non ci sono incidenti sul lavoro non ci sono morti sul lavoro per esempio potrei dire infinite altre cose ma penso che l'idea di base cioè che il sistema economico è un sistema fondato che ha ragionevolezza e tutto dipende dai metodi che si usano anche perché purtroppo si parla di mercati e non di modo di produzione questo non per essere comuni ma perché gli elementi che costituiscono il ideale funzionamento dell'economia sono il rapporto tra la finanza che adesso produce più denaro che non la produzione di beni e servizi l'impresa e il lavoro e poi siccome oramai anche l'ambiente i fenomeni atmosferici sono oggetto sono un modo di produzione tutte le acque il mare l'atmosfera il suolo eccetera e allora naturalmente bisognerebbe valutare nel sistema produttivo anche questi elementi cose normalmente la teoria economica non fa grazie i lavori riprendono domani e noi abbiamo adesso l'assemblea dei soci dell'AIC grazie a tutti i partecipanti siamo a posto buongiorno a tutti siamo arrivati alla quarta sessione del nostro convegno annuale dedicata alla dimensione costituzionale dell'etica principio personalista e filosofia morale prima di introdurre i relatori di questa sessione poiché dispongo di questo microfono vorrei a nome di tutti i soci ringraziare la sede napoletana per l'accuratezza con cui è stata preparata l'intera giornata di ieri e per l'accoglienza direi principesca della serata veramente grazie grazie interpreto in modo minimalista il mio ruolo di moderatrice invito i due relatori di questa sessione in presenza e da remoto come d'accordo a contenere le loro relazioni nei 30 minuti in modo da assicurare un ordinato svolgimento di questa mattina e mi accingo a presentare i relatori il primo intanto per entrambi non ci sarebbe bisogno di presentazione ma vorrei ricordare a tutti che Cesare Pinelli è ordinario di diritto costituzionale alla sapienza di Roma membro della commissione di Venezia e direttore della rivista diritto pubblico il titolo della sua relazione di oggi è il diritto a essere se stessi e il pieno sviluppo della persona umana è con grande piacere che lo ascoltiamo grazie grazie ringrazio il presidente Silvestri e gli altri membri del direttivo uscente per avermi consentito di tenere questa relazione e anche della scelta in generale felice a mio avviso di avere articolato il convegno per sessioni tematiche e di dare poi ai relatori la scelta del titolo più conveniente mi sembra una soluzione proprio scientificamente molto ben pensata perché ho scelto questo titolo ho scelto questo titolo perché nonostante il fatto che visibilmente le locuzioni di cui si compone appartengono a sono di sedi diverse la prima diritto di essere se stessi è una locuzione adoperata prevalentemente dalla scienza giuridica di recente poi solo di recente qualche volta in giurisprudenza la seconda fa parte dell'articolo 3 secondo comma della costituzione quindi sono due sedi completamente diverse ma e il senso come vedremo sarà diverso tuttavia le lega un dato comune quello di rispondere alla domanda su come il diritto combina il rapporto fra identità e diritti fondamentali detto questo nelle concezioni prevalenti nelle accezioni prevalenti del diritto di essere se stessi perché c'è per esempio un bellissimo libro di Piero Bellini che si chiama così del 2007 ma fa parte di un'altra un altro ordine proprio un'altra concezione stiamo parlando invece di un libro come quello di Guido Alpa recentissimo e anche stiamo parlando di questi libri non di quello di Bellini in queste accezioni si avvertono concezioni etiche e mutamenti negli orizzonti della convivenza lontani da quelli rinvenibili in una formula come il pieno sviluppo della persona umana pur visibilmente suscettibile di interpretazione evolutiva d'altra parte agli studiosi di un diritto che mantenga la pretesa di durare e tanto più del principio personalista ritenuto al vertice o al centro dell'ordinamento dalla Corte Costituzionale a questi studiosi tuttora spetta apprezzare la portata delle sfide che incontra e cercare fin dove l'interpretazione evolutiva possa spingersi senza tradire il senso del principio cui si riferisca la questione posta dalla distanza strutturale della figura del soggetto giuridico dall'identità umana era ben presente ai grandi giuristi del secolo scorso qui sarà un po' lungo scusate ma sono troppo belle queste citazioni speriamo che non per Morisso Rioux la personalità giuridica individuale ci appare continua identica a sé nasce con l'uomo si forma sin da subito resta sempre la stessa per tutta l'esistenza supporta senza cedimenti nel corso degli anni situazioni giuridiche immutabili veglia mentre l'uomo dorme resta salda mentre questi sragiona talvolta si perpetua dopo la morte dal momento che si danno dei successori quali continuatori della persona ora nella realtà delle cose le rappresentazioni e le evoluzioni degli uomini sono discontinue mutevoli contraddittorie non solo non persistono nel melesimo oggetto ma variano costantemente su questa fisionomia irrequieta tumultuosa indomita agitata da tutti i capricci e tutte le passioni fisionomia che è la faccia volitiva dell'uomo il diritto applicato una maschera immobile e grazie a un certo numero di finzioni e di istituzioni giuridiche accessorie che la personalità giuridica è giunta a separarsi dalla realtà cangiante delle rappresentazioni e volizioni umane per assicurare continuità identità dei rapporti di diritto e qualche tempo più tardi Carlo Esposito riteneva che l'ipotesi di valutare sul piano etico la persona non direttamente ma dalle opere si scontrasse con l'impossibilità di sottoporre a un unico giudizio la molteplice varia attività di un individuo che fu bambino e poi giovane e poi adulto e poi vecchio e compì con animo diverso infinite cose diverse grandi e piccole mutevoli e indegne di nota legate intimamente fra loro per quanto egli mutasse di continuo e non si conservasse mai uguale a sé e d'altra parte aggiungeva le valutazioni estrinseche cioè quelle che si sogliono qualificare come etiche data la loro esteriorità la loro limitatezza i loro rapporti ad altre attività e date le pretese che si affacciano di far valere se stesse i propri diritti di contro a ogni altra attività non si saprebbero caratterizzare altrimenti seguendo vecchi concetti e denominazioni che come valutazioni legalistiche degli uomini e delle cose e come modo di vedere le cose sub specie iuris in queste versioni gli attributi ascritti tradizionalmente alla soggettività giuridica trascendevano le mutevoli espressioni dell'identità individuale non quali concetti ritenuti ad esse superiori in base ai paradigmi scientifici allora dominanti ma quali strumenti ritenuti necessari a fini stipulativi pur nella loro intrinseca limitatezza euristica questo motivo fondamentale potrebbe essere andato perduto in sede scientifica con l'abbandono della tradizionale visione del soggetto giuridico ritenuta asfittica e formalistica non credo possa ipotizzarsi lo stesso per quanto riguarda il diritto costituzionale nonostante gli sia sovente ascritta la funzione di aver rotto quella tradizione la trama della soggettività giuridica risultante dalla legislazione soprattutto dal codice civile affiora in costituzione con richiamo alla capacità giuridica alla cittadinanza e al nome che serve solo a porre un divieto nessuno può esserne privato per motivi politici nell'età dell'innocenza del liberalismo la discrezionalità del legislatore poteva essere assoluta anche in materia dopo il totalitarismo occorreva porre un argine al potere pubblico a partire dal potere normativo di modificare i segni minimi di riconoscibilità dell'identità individuale per motivi politici il privare per motivi politici chiunque ossia l'uomo in quanto tale perché si parla appunto di nessuno dei segni distintivi che ne garantiscono la elementare riconoscibilità i quali perciò corrispondono a nozioni giuridiche necessariamente generali astratte e utili proprio perché tali a stabilire un'argine nei confronti di un legislatore che potrebbe farsi pericolosamente concreto privare appunto per motivi politici chiunque ricorda la situazione descritta all'epoca da Anna Arendt ci siamo accorti dell'esistenza di un diritto ad avere diritti solo quando sono comparsi milioni di individui che lo avevano perso e non potevano riacquistarlo a causa della nuova organizzazione globale del mondo questa sventura non derivava dai noti mali della mancanza di civiltà della retratezza della tirannide e non le si poteva porre rimedio perché non c'erano più sulla terra luoghi da civilizzare perché volere o no vivevamo ormai in un unico mondo solo perché l'umanità era completamente organizzata la perdita della patria e dello status politico poteva identificarsi con l'espulsione dall'umanità stessa nel frattempo a premessa di un saggio scritto in reazione alla teoria nazista del diritto internazionale come diritto dei popoli Franz Neumann aveva avvertito quindi una posizione molto lontana da quella di Anna Arendt le pagine che seguono potrebbero essere intitolate in difesa della sovranità dello Stato al di là delle diverse concezioni filosofiche l'articolo 22 costituiva la risposta dell'Italia a una questione così posta dove il richiamo a nozioni giudiche tradizionali era non meno importante del loro carattere generale astratto e prima ancora artificiale il costituzionalismo post totalitario non rigettava lo Stato né faceva meno delle nozioni giuridiche che con esso erano state forgiate solo che le impiegava in un quadro diverso da quella soveranità solipsistica di cui aveva parlato Kelsen le impiegava come intelagliature necessarie allo svolgimento di una convivenza orientata da certi principi abbandonare l'ideologia statualistica sul versante interno come quello internazionale non significava in definitiva perdere di vista le buone ragioni di un ordine basato su stipulazioni convenzionalmente assunte con quella misura di astrattezza senza la quale non sarebbe neanche pensabile allo stesso modo l'individuazione del canone della ragionevolezza a partire dal principio di eguaglianza formale non ha superato la risalente interpretazione che si limitava a scorgervi il precetto di pari forza di legge che era stata sostenuta dalla esposita poco dopo entrare in migliori della costituzione ma vi si è aggiunta riferendosi a un profilo diverso da quello dell'efficacia normativa e già Heller aveva ammesso che nemmeno lo stato assoluto poteva ritenersi strumento di oppressione della classe dominante perché la concentrazione della legislazione delle mani del sovrano era stata necessariamente collegata a un'eguaglianza giuridica più o meno grande e la correlazione di una almeno minima misura di astrattezza alla garanzia dell'eguaglianza è rimasta fra le acquisizioni della scienza giuridica contemporanea il congedo dal modello di etnia bianco di matrice europea cristiana maschile eterosessuale che traspariva dall'involucro del soggetto giuridico o dall'immagine del soggetto presupposta del liberalismo politico e giuridico ha dunque coinvolto l'involucro solo fino al punto in cui non serviva ad altro a garantire tutti proprio in virtù della sua astrazione da pericolose concretizzazioni del potere politico che una volta avarcata la soglia della sfera interna avevano assoggettato le coscienze riducendo gli uomini ad automi questo riassetto faceva salve le buone ragioni dell'ordine convenzionale nel momento in cui orientava la convivenza verso nuovi principi ed è tuttora apponibile qui scopro le carte tanto per capirci al mantra postmoderno della demistificazione che cerca ciecamente sempre nuovi bersagli non solo quello più facile del soggetto giuridico astratto ma anche come vedremo l'idea di persona iscrivibile nell'orizzonte del costituzionalismo post totalitario in separazione lungo dominante dell'articolo 2 si è basata sull'alternativa per cui ossia individui ossia membri di una comunità e ancora Gustavo Zagrebelsky diceva che una nozione relazionale di persona finiva inevitabilmente per dimenticare che al momento cruciale si finiva sempre per andare verso la polarità della grande dicotomia però il carattere relazionale dell'identità umana non ha molto a che vedere con un tentativo di sintesi anzi non ha nulla a che vedere con un tentativo di sintesi egheliana della grande dicotomia non solo perché a differenza dei poli della dicotomia solo per altri versi opposti l'identità del soggetto non viene più a fondarsi su una sostanza ma perché storicamente costituisce il punto di approdo del costituzionalismo post-totalitario che può muovere dalla constatazione che la costituzione garantendo i diritti inviolabili dell'uomo non solo in quanto singolo ma anche nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità presuppone che la sua personalità non si svolga nel vuoto ma attraverso un tessuto relazionale assicurato da comunità di cui pure la costituzione si guarda dal fornire elenchi chiusi o organicisticamente preordinati in base al testo non si saprebbe come l'uomo possa svolgere la sua personalità come singolo può svolgerla solo in formazioni sociali quindi questa personalità altrimenti non si può svolgere da nessuna parte e così perde anche la sua estensione diacronica cosa resta di una personalità priva di riferimenti nello spazio nel tempo la deduzione non implica un annullamento dell'uomo nelle formazioni sociali perché il limite così ricavato investe solo l'ipositi di un uomo che come singolo non svolge in formazioni sociali la sua personalità ma il singolo è inserito nel continuo processo relazionale dello svolgimento della sua personalità che è cosa diversa dallo sviluppo pieno sviluppo della persona umana anzitutto perché si riferisce alla dimensione epistemologica dell'identità anziché a un valore d'altra parte più orientiamo immediatamente in senso assiologico la riflessione sulle formazioni sociali più sacrifichiamo la dimensione epistemologica dell'identità individuale su cui si addensa una parte importante dei problemi dei diritti inviolabili del nostro tempo mi riferisco al rapporto fra interno ed esterno dell'uomo una tradizione di pensiero che da Hobbes a Spinoza continua con Kant e Suermil vedeva nella libertà di pensiero il presupposto naturalmente inviolabile di tutte le altre libertà proprio perché interiore e quindi non raggiungibile dal potere solo che questo è questo presupposto è venuto meno soprattutto a seguito dei totalitarismi del ventesimo secolo e quindi la modificazione del confine fra esterno e interno comportava una corrispondente estensione della protezione giuridica ai processi di formazione del pensiero il rapporto fra garanzia sono costretto a tagliare quindi mi dispiace speriamo che si colgano i fili il rapporto fra garanzia e riconoscimento dei diritti inviolabili e compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale è stato storicamente oggetto di diverse letture qui vale la pena di esaminare le prospettive da cui la persona viene rispettivamente riguardata nel primo caso rileva come identità come personalità che di fatto non può formarsi se non in relazione ad altre e quindi si esprime una presunzione di fatto che concorre a richiedere il compito di garantire e riconoscere i diritti inviolabili nell'altro il pieno sviluppo della persona umana non è un diritto garantito ma l'approdo di un processo nel quale sono presenti un'altra presunzione di fatto la sussistenza di ostacoli di ordine economico e sociale e un altro compito della Repubblica quello di rimuovere dagli ostacoli che non mira a indirizzare paternalisticamente la persona verso un approdo precostituito ma a lasciare a ciascuno la scelta dell'approdo preferito ossia l'interpretazione del proprio pieno sviluppo compreso il tipo di rapporto fra ragione e sentimento o quello fra soma e psiche oggi al centro di tante controversie la valenza assiologica dell'enunciato non va riferita tanto perciò alla persona e neanche al pieno sviluppo ma alla libertà a ciascuno riconosciuta e garantita anche grazie alla rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale di individuare quel pieno sviluppo diversamente del resto la priorità della persona rispetto allo stato sarebbe stata contraddetta in maniera flagrante e qui c'è tutto un discorso anche di breve ma insomma che riguarda la costituente secondo un'opinione molto diffusa fra i giuristi il ricorso della costituzione alla nozione di persona avrebbe contribuito decisivamente a liberare il soggetto giuridico dalla strattezza che l'ho caratterizzata all'epoca dell'affermazione della dommatica anzitutto gius privatistica e proprio su questa premessa hanno trovato spazio le correnti formule del diritto di avere diritti e del diritto di essere se stessi più articolate le posizioni dei filosofi per alcuni dei quali mi riferisco a Roberto Esposito la nozione di persona ricavabile dal costituzionalismo e dall'universalismo presenterebbe una strutturale antinomia rimandando insieme alla maschera e al volto all'immagine e alla sostanza alla finzione e all'identità e alla realtà con la conseguenza che nonostante una montante retorica dell'impegno umanitario la vita umana resta ampiamente al di fuori della tutela del diritto anche se il ricorso alla nozione di persona si spiega storicamente tuttavia c'è questa contraddizione ora la costituzione sfongiura il paradosso che il tentativo di umanizzare il diritto con ricorso alla figura della persona rimandi alla maschera anziché al volto con una distinzione tra sfera esterna dove si afferma l'esigenza di imputazione necessariamente formale di diritti inviolabili e doveri inderogabili e quella interna dove si presume che garantiti i diritti inviolabili adempiuti i doveri inderogabili e rimossi gli ostacoli di ordine economico e sociale ciascuno sia posto in grado di individuare e realizzare la propria visione e il pieno sviluppo della persona umana questo tipo di critica che ho riferito quella di esposito sembra rivelare alla nozione di persona sembra rivelare il vuoto teorico ed etico lasciato dai semplificatori del pensiero dai semplificatori del pensiero dei maestri del sospetto Marx Nietzsche e Freud di quanti cioè esasperando la giusta polemica anti-idealistica contro il primato assoluto della coscienza questo è un pensiero di Remo Bodei che sto riportando hanno unilateralmente favorito l'idea che contassero solo quelle forze che agiscono alle spalle degli uomini le potenze economiche la grande ragione del corpo l'inconscio o l'ess in questo modo hanno delegittimato il ruolo della coscienza e de-responsabilizzato gli individui ponendoli alla mercè di potenze anonime o di capi che non rispondono a nessuno delle loro decisioni nell'ambito della riflessione filosofica sulla natura delle persone l'idea di un dispositivo di potere che passa misteriosamente sopra la coscienza e la libertà di chi pensa equiverebbe dunque a rinunciare a quella scrive Roberta De Monticelli a quella responsabilità nell'uso del linguaggio che consiste nell'impegno a rispondere in prima persona della plausibilità di ciò che si afferma e da parola dispositivo riguarda ricorda Michel Foucault e la contrapposizione alla vita del dispositivo e quindi la nozione di biopolitica queste riflessioni hanno lasciato tracce anche fra i giuristi almeno fra quanti vedono come Stefano Rodotà nelle nozioni costituzionali di persona e dignità ormai uno degli elementi fondativi di un costituzionalismo volto proprio a sottrarre la persona alla prepotenza della biopolitica sul presupposto che Foucault non indaga questa categoria in forme astratte ma la riporta alla realtà degli strumenti e istituzioni di cui il potere concretamente si serve dall'ospedale al carcere fine della citazione eppure uno studio apposito ha considerato il discorso di Foucault sul potere una foresta incolta e sovraccarica e una nebulosa mutante senza contare che se c'è un luogo in cui viene ad addensarsi è proprio il circuito normativo proprio degli apparati statali tanto più arduo appare il tentativo di conciliarlo col costituzionalismo repubblicano come sto messo mancano è un guai come sempre inevitabile pur insistendo su aree semantiche non coincidenti le formule diritto di essere se stessi e diritto di avere diritti appartengono alla stessa famiglia concettuale prece si è confrontata a quella del pieno sviluppo della persona umana il confronto con Anna Arendt mi sembra abbastanza chiaro perché in questo caso non si parla affatto dei profughi non si parla dello Stato ma si parla di cittadini che in realtà hanno diritti anche se discriminati anche se oltraggiati vulnerabili eccetera ma di cittadini e quindi la situazione è molto molto diversa questo per quanto riguarda il diritto di avere diritti devo per forza tagliare per quanto riguarda il diritto di essere se stessi ehm ha osservato eh Guido Alpa che eh una società da un lato che è una società costruita sui ruoli e non potrebbe essere diversamente eh appunto è inevitabile che una società sia costruita sui ruoli ma l'identità è uno strumento che di volta in volta può assolvere una funzione liberatoria o persecutoria e il livello di civiltà di una società è dato dalla misura con cui è in grado di assicurare a ciascuno il diritto di essere se stessi quindi più è civile e più c'è il diritto di essere se stessi tutto il resto evidentemente non conta al pari della versione postmoderna del diritto di avere diritti la locuzione diritto di essere se stessi parebbe presentarsi come sintesi verbale di una somma di tutti i diritti possibili purse con una esplicita finalizzazione ad essere se stessi che non compare nel diritto di avere diritti ed è proprio per il tentativo di rispondere anch'essa alla domanda su come l'identità si combini con i diritti che il diritto di essere se stessi autorizza a rispondere alla domanda autorizza a chiedersi se in quale misura coincida col pieno sviluppo della persona umana si ripresenta la questione del significato e della misura della demistificazione del soggetto giuridico che una volta superata l'idea di natura nell'interpretazione costituzionale non consiste più nel cercare il profilo antropologico che la maschera della persona nasconderebbe artatamente ma consiste nello stabilire se il diritto di essere se stessi si risolva nel diritto del singolo di ascrivere effetti giuridici all'affermazione della propria identità il problema è questo e risulta molto chiaramente dalla giurisprudenza della corte costituzionale più recente in una serie di casi che riguardano l'identità di genere riguardano la prostituzione volontaria riguardano l'aiuto al suicidio questo è il problema è quello della scelta di ascrivere effetti giuridici di propria iniziativa oppure quella di rendere necessario che ci sia qualcuno che accerti questa ascrizione qualcuno che sia pubblico non necessariamente un giudice ma qualcuno che non sia il soggetto stesso che ascriva effetti giuridici alla propria identità questo è il punto cruciale che anche vale anche quando il diritto di essere se stessi nasca si riferisca a persone qualificate come vulnerabili nella dimensione materiale dei corpi finalmente credo che ce la faccio e talora anche nella sfera mentale proprio la recente giuristrudenza citata dimostra che anche in tali casi il carattere relazionale della persona può a meno marme i processi di autoreterminazione quanto al rischio che l'accento su tale carattere appiattisca la posizione del singolo su modelli identitari condizionati dalla comunità di appartenenza sarebbe scongiurabile questo sostenuto di recente Angelo Schillaci sarebbe scongiurabile laddove il riconoscimento giuridico di scelte e situazioni di vita come quello operato dalla Corte Suprema ed altre corti europee riservi a chi sia colpito ora specifica vulnerabilità lo spazio necessario a svolgersi liberamente in una dimensione intersoggettiva animata dall'eguale rispetto in questo modo il riconoscimento giuridico potrebbe far cessare una discriminazione o uno stigma subito dal singolo da parte della società ma non anche il condizionamento comunitario che potrebbe casomai uscirne rafforzato si conferma così la necessità di distinguere la dimensione intersoggettiva a seconda che la si riguardi in una prospettiva epistemologica dove i processi di definizione dell'identità del singolo ben possono crearne o alimentarne vulnerabilità ovvero assiologica in cui emerge in primo piano il principio di solidarietà di gruppo cui di suo alto può tuttavia sempre consistere nella costruzione di identità collettive intolleranti verso altri gruppi o verso la società nel suo complesso i percorsi di riconoscimento del diritto di essere se stessi non corrispondono a una marcia trionfale da un lato la sussistenza di scelte e situazioni di vita che vi vengano riconnesse non può essere lasciato al solitario apprezzamento di chi intenda avvalersene dall'altro il relativo accertamento può comunque incontrare i limiti derivanti dal rispetto proprio e altrui vale qui la presunzione costituzionale che rimossi gli ostacoli di ordine economico e sociali che li possano meno male i processi di affermazione del pieno sviluppo della persona si svolgano il più possibile al riparo da intrusioni esterne private non meno che pubbliche né il diritto nell'etica e questo l'ultimo paragrafo possono disancorarsi e staccato dagli altri per quello che capirete subito possono disancorarsi dai contesti sociali in cui si suppongono operanti senza rivelare fondamenta troppo fragili e in definitiva degenerare in dogmatismo o immoralismo a distanza di oltre mezzo secolo sembra se essersi avverata la previsione di società senza padre caratterizzate dal rifiuto del senso del dovere da parte delle giovani generazioni e dalla tendenza a sostituire il conflitto tra fratelli al conflitto col padre sarebbe da chiedere agli antipaternalisti integrali come possano ancora concepire il loro paradigma alla maniera di John Stuart Mill costoro sembrano preservare i bersagli di ieri ma le discriminazioni perpetrate ai danni di singoli o gruppi riflettono stigmi e pregiudizi coltivati sempre meno da grandi maggioranze al riparo di leggi generali astratte riproporre oggi lo schema delle discrete and insular minorities da cui ebbe inizio negli anni trenta dello scorso secolo la storia dello scrutinio stretto equivale a ignorare che le discriminazioni sono oggi sempre più opera di altri gruppi caratterizzati da un assorbente investimento identitario si è parlato di una crisis of the general nel senso di paradigma cognitivo destinato a guidare le rappresentazioni collettive e dalla contestuale crescita di un culto per le estreme singolarità che il cultural capitalism avrebbe istituzionalizzato grazie alle reti digitali o in alternativa di comunità tenute insieme da un essenzialismo culturale che ha una versione dell'identità per riprendere una distinzione di di ricor di poricor dell'identità come ipse che cerca il se attraverso le continue relazioni intrattenute con gli altri nel corso del tempo preferisce l'identità come idem che pretende un se ontologicamente identico nel corso del tempo forme tribali di aggregazione si aggiungono ai tradizionali corpi intermedi e talvolta si candidano a sostituirli trasformando il sempre variabile e delicato rapporto fra cultura e natura in un conflitto senza scampo e in definitiva autoristruttivo in questo clima è maturato il discorso sul diritto di essere se stessi riflette le diffuse istanze di singolarità che si autodefiniscono in contrapposizione a ogni ricerca di tratti comuni e una speranza di raggiungere una dimensione autentica del sé nonostante nuove maschere sociali abbiano già sostituito le antiche le relative pretese di riconoscimento giuridiche avanzate o avversate che siano investono quasi tutto l'arco delle situazioni oggetto dei divieti costituzionali di discriminazione dall'identità di genere alle richieste di abolire la parola razza e di cancellare le memorie del passato coloniale autoritario al già previsto reato di negazionismo fino alle battaglie sul rifiuto di vaccinazione prima che ai giudici e legislatori il diritto di essere se stessi fa appello al diritto costituzionale il risultato è di sovraccaricarlo di sempre nuove istanze identitarie ma lo stesso richiamo in funzione legittimante alla formula del pieno sviluppo della persona umana trascura che le modalità di innesto dei diritti sul tronco delle identità individuali sono troppo diverse perché riguardano l'obliterazione di fatto sia del carattere relazionale della persona sia della soglia interna di maturazione delle scelte e dei convincimenti circa l'essere se stessi soppiantata da un'ostensione realizzata in via comunicativa del diritto alla propria identità qui in definitiva l'interpretazione evolutiva e aperta degli enunciati costituzionali dovrebbe fermarsi grazie grazie davvero professor Pinelli per la ricchezza degli stimoli dei riferimenti non solo naturalmente giuridici ma anche filosofici e riferimento a tante altre discipline nell'idea di questo convegno perfettamente interpretata mi conferma l'idea che di identità personale dovremmo noi costituzionalisti continuare a parlare perché professor Pinelli ha gettato tanti semi e vorremmo vedere in futuro che che piante potrebbero crescere dai semi che ha gettato grazie davvero anche per il sostanziale rispetto del termine grazie ancora adesso sono molto lieta di passare la parola al secondo relatore di questa sessione da remoto Alfonso Di Giovine professore merito di diritto pubblico comparato nell'università di Torino anche qui interpreto il mio ruolo minimale di passare la parola dopo la presentazione invitando nuovamente al rispetto del termine di 30 minuti e salutandolo benvenuto eh annuncio il titolo della sua relazione che adesso ascoltiamo con grande piacere il titolo è tracce di pensiero illiberale alla costituente i diversi approdi nel testo costituzionale grazie e buona relazione buongiorno a tutti grazie alla moderatrice per avermi dato la parola e grazie al professor Silvestri e al consiglio direttivo per avermi affidato questa relazione di cui comincio subito la stringente sintesi mi rendo conto che l'aggettivo illiberale avrebbe bisogno di una decodificazione ma la troverete nel testo scritto perché ora mi porterebbe via 6-7 minuti entro dunque in medias res dicendo che la premessa da cui muove il mio discorso non può essere che quella del tutto pacifica in dottrina secondo cui l'unico modello di costituzione concretamente possibile nel contesto storico nazionale e internazionale post bellico era una costituzione di tipo liberal democratico orbene l'osservatore constata a prima vista guardando la composizione dell'assemblea che essa è composta per circa l'80% da forze politiche il cui background culturale non appare il più adatto ad edificare un sistema costituzionale in linea con quello che comunemente definiamo liberal democrazia tali forze si contrapponevano infatti in due blocchi che non ispiravano i migliori auspici sotto il profilo della loro caratura liberale sui democristiani che pure potevano giovarsi e in effetti si giovarono una tradizione di tutto rispetto come quella del popolarismo stursiano pesava l'infeudamento con una chiesa che con pacelli coltivava come dice Pombeni ambizioni imperiali per quei che riguardano i rapporti con il potere politico sui socialcomunisti che pure non soffrivano come i democristiani di un'assissiante ingerenza ravvicinata pensava l'ipoteca di una cultura e di un elettorato egemonizzati dalla figura di Stalin rimane dunque che come è stato scritto uno dei misteri tra virgolette ovviamente che lo storico e il giurista è chiamato a risolvere è quello di capire come un'assemblea in cui di veri liberali ce n'erano pochi sia riuscita a concordare un testo che se si prescinde da alcune gravi anomalie è in linea con la media delle costituzioni europee post belliche questo risultato veniva raggiunto grazie al realismo delle maggiori forze politiche le loro elite compresero che dovendo costruire una casa comune di impianto liberal democratico non erano le loro rispettive case edificate su fondamento su fondamenti che convergevano nell'organicismo anti individualistico le più idonee a ricevere il certificato di abitabilità nel senso voluto dalla forza delle cose e infatti si sprecano le dichiarazioni nelle quali i costituenti negano di voler di voler redigere una costituzione socialista o una costituzione cattolica ma compresero queste elite bisognava come ha affermato Cheli passare per la casa degli altri quella che nei precedenti cento anni era stata costruita con i mattoni della cultura e della ideologia liberale pertanto si verificò il paradosso per cui tale cultura liberale presente in assemblea in termini numericamente esigui ma qualitativamente elevati si rivelò determinante e in qualche caso egemone nella redazione dei vari articoli a volersi chiedere quali furono i canali attraverso cui si passò da posizioni distanti e spesso illiberali a posizioni condivise e liberali a me sembra di poter dire che l'accordo nasce talvolta sotto il segno del processo di mutuo apprendimento tematizzato da Habermas talaltra sotto il segno dell'overlapping consensus teorizzato da Rawls e talaltra ancora meno nobilmente se si vuole ma molto realisticamente sotto il segno del tanto deprecato in altri contesti complesso del tiranno intendo dire a proposito dell'ultima espressione che nell'eliminazione delle proposte di funzionalizzazione e dunque di limitazione delle libertà e dei partiti gioco anche il timore che prevedere i limiti al dispiegamento delle libertà e dell'azione dei partiti potesse essere occasione di futura ritorzione della maggioranza e dell'esecutivo nei confronti dell'opposizione prende corpo cioè il principio di diffidenza che secondo Jefferson deve ispirare il costituzionalismo sicché la tutela dei valori liberali non passa solo attraverso la porta della convinta adesione ad essi ma anche attraverso la finestra della convinzione che solo quelli i valori liberali possono equanimamente garantire le posizioni di forza acquisite dai due blocchi contrapposti i quali non si dimentichi ai tempi della costituente agivano ancora sotto il velo dell'ignoranza va da sé che un compromesso qualunque sia l'iter percorso per arrivarci implica sempre un disaccordo iniziale e un accordo raggiunto attraverso una mediazione potendo nei confronti dei vari attori esserci una arrivare a una convinzione diversa da quella da cui si era partiti ed è effettivamente capitato talvolta quello che scriveva Dossetti a fine aprile 1947 è accaduto scriveva Dossetti più di una volta che pur muovendo da premesse ideologiche e politiche contrastanti tuttavia un dibattito aperto e franco portasse alla fine a un testo che non era soltanto un compromesso approssimativo ed empirico ma costituiva una soluzione sistematica e sintetica veramente individuante un principio nuovo al di là delle posizioni originarie dell'uno e dell'altro partito chiusa citazione quello che viene mimetizzato dalla percezione di certe norme penso ad esempio al primo comma dell'articolo 21 è che arrivare all'accordo fu il risultato di lunghe difficili e spesso logoranti discussioni e che prima di siglarlo l'accordo le parti contrapposte si schierarono esibendo senza remore il loro DNA identificativo che spesso non era in linea con i valori liberali tentando quindi forzature ideologiche e partigiane che se non controbilanciate dalla necessità di trovare una sintesi avrebbero dato esiti di qualità molto inferiore a quelli ora presenti in questa situazione orbene è proprio esaminando questi tentativi di forzature che si viene a contatto con le tracce di cultura illiberale di cui al titolo metterle in evidenza significa cogliere direi allo stato puro le culture presenti in assemblea le quali non perché assorbite nel compromesso fusione finale perdono ogni rilevanza politica ogni sia pur latente carica di rivalsa magari nella fase post-cossituente come capitò per l'indissolubilità del matrimonio civile muovendo dall'ipotesi che sia plausibile il discorso finora svolto ne discende che la confluenza tra i due universalismi con forti potenzialità di integralismo e cioè l'umanesimo cattolico non del tutto deconfessionalizzato e l'umanesimo socialista depotenziato dall'utopia rivoluzionaria dicevo la confluenza fra questi due universalismi sul terreno comune della cultura liberale può avere successo solo quando essi utilizzano una strategia dialogica di tipo conflittuale volta cioè a raggiungere un compromesso per reciproca e visione dei rispettivi patrimoni di partenza mentre questa confluenza è destinata al fallimento quando le forze politiche trovano un accordo per sovrapposizione dei rispettivi deficit di cultura liberale un buon test per accreditare una simile congettura e l'analisi di due dibattiti svoltisi all'inizio dei lavori costituenti ambe ambe due ebbero luogo in prima sottocommissione rispettivamente nelle sedute del 9 e 10 settembre 46 questa ebbe ad oggetto in particolare la relazione lapiga dal titolo principi relativi ai rapporti civili e la seconda nelle sedute del primo e del 2 ottobre 46 di esse mi occupo abbastanza diffusamente nel testo ma qui nell'impossibilità di esporle mi riferisco solo alla loro conclusione dico solo che la prima quella del settembre costituisce un buon esempio di tecnica dialogica conflittuale che alla fine riuscì a tacitare l'accentuato carattere organicistico medioevalizzante e lo spirito fortemente confessionale della relazione lapidiana la seconda invece si svolse in chiave diametralmente opposta potrei dire in chiave di fraterna collaborazione e costituisce un esempio paradigmatico del fatto che articoli di impronta liberale possano essere approvati come già ho accennato solo quando i due blocchi muovono la posizione diversa ma poi arrivano a un compromesso per reciproca edizione o intersezione nulla di tutto questo avvenne nelle due sedute dell'ottobre delle quali nel testo scritto ricostruisco l'infietante andamento consociativo con esiti francamente liberticivi si arrivò a prendere come esempio da seguire la costituzione staliniana del 36 in particolare gli articoli 125 e 126 qui posso solo richiamare le conclusioni tratte alla fine del dibattito da Togliatti e da Dossetti il primo disse che le libertà sono garantite dalla costituzione ma devono essere esercitate in un determinato modo Dossetti si espresse nel senso che la libertà esiste ma intanto lo Stato la deve riconoscere in quanto venga esercitata per un determinato fine mi faio una citazione auto evidenti e faccio solo notare che se avessi avuto la meglio il deficit di cultura liberale che emerge da esso svolto cioè che emerge proprio in generale da questo dibattito svolto non all'insegna del compromesso per edizione ma all'insegna dell'accordo per sovrapposizione l'impianto della costituzione avrebbe assunto tutt'altra fisionomia per non dare l'idea che parlo col senno di poi ricordo che uno studioso di finissima cultura liberale cosmopolita Giuseppino Treves definiva in un articolo del 1947 una delle disposizioni proposte il bacillo che può uccidere ogni libertà d'altra parte che questo bacillo continui ad operare all'interno dell'assemblea si può dimostrare ripercorrendo il dibattito che ha portato all'approvazione di articoli come il 18 il 21 primo comma e il 46 prima di arrivare all'attuale liberale formulazione anch'essi dovessero superare le insidie della finalizzazione di questo percorso talvolta tortuoso do conto nella relazione scritta ora vi informo solo delle relazioni di partenza lasciando alla vostra intuizione le difficoltà che si dovessero superare per giungere all'attuale formulazione quanto all'articolo 18 esso risultò dalla combinazione di un testo predisposto in comune da Basso e la Pira e da una parentesi che la Pira pretese di aggiungere e dalla quale Basso si dissociò sicché l'articolo proposto si presentava in questa sgradevole formulazione il diritto di associarsi senza autorizzazione preventiva e per fini che non contrastino con la legge penale aperta parentesi e con le libertà garantite dalla presente dichiarazione chiusa parentesi e riconosciuto a tutti come potete immaginare fu complicato superare l'ipotesi di funzionalizzazione presente nella parentesi di la Pira quanto all'articolo 21 il testo su cui iniziò la discussione in prima settocommissione fu così formulato da Dossetti ogni uomo ha diritto alla libera professione delle proprie idee e convinzioni perché non purché non contrastino con le supreme norme morali con le libertà e i diritti garantiti della presente Costituzione e con i principi dell'ordine pubblico anche in questo caso si può immaginare quanto accesa si rivelò la discussione che comunque finì per incenerire i propositi di finalizzazione funzionalizzazione di Ossettiani anche la discussione sull'articolo 49 un esempio paradigmatico come il complesso del tiranno la paura del tiranno sia stata un sentimento importante nel processo di affinamento e di definalizzazione delle proposte iniziali che più o meno apertamente sembravano alludere a forme di democrazia protetta come esempio paradigmatico vi propongo il testo redatto dal democristiano Merlin e dal socialista Mancini i cittadini hanno diritto di organizzarsi in partiti politici che si formino con metodo democratico e rispettino la dignità e la personalità umana secondo i principi di libertà e unguaglianza vedete qui come il bacillo è all'opera e come sarà poi difficile superarlo passo a trattare delle materie che per un'anime consenso stavano più a cuore alla chiesa i patti lateranensi la famiglia e la scuola devo però prima di farlo affrontare un argomento penoso gli articoli in cui mi riferisco furono approvati in un contesto profondamente viziato illiberale appunto in quanto al di sotto di un sia pur modesto livello di separazione tra politica e religione tra stato e chiesa mi riferisco all'asfissiante ingerenza ormai copiosamente documentata da una origina d'anni in qua con acribia storica inoppugnato l'asfissiante ingerenza delle gerarchie ecclesiastiche supposituenti democristiani e non solo è un'attitudine succube nei loro confronti alla ricerca soprattutto da parte democristiana di fra virgolette indicazioni precise in effetti non si contano le trattative i contatti le lettere i colloqui le discussioni le telefonate non su un piano di parità ma di deferenza dei rappresentanti dello stato nei confronti di quelli della chiesa fra i dignitari della santa sede e gli uomini di punta della dc psicologicamente direi in ginocchio del partito liberale e perfino del partito comunista a leggere Elia in quella intervista che ha fatto con scopola a Dossetti e Lazzati intervista rilasciata nel novembre 84 e poi pubblicata da Milino nel 2003 a leggere Elia dicevo si avverse in filigrana il disagio che è di prova di fronte alla parola direttiva che avevano come destinatari i deputati che avrebbero voluto decidere senza vincolo di un andato come in cap disponeva lo statuto Albertino dopo aver letto tutto quello che ci è stato squadernato non mi sembra polemico affermare che per quanto riguarda quegli articoli in particolare il 7 si possa considerare che la nostra costituzione appartenga a quel genere di testi costituzionali definiti a sovranità limitata quelli in pratica a partire a parte gli esempi storici di Germania e Giappone dei paesi in via di spirito osservo solo che di questo backstage deteriore i costituzionalisti non hanno preso atto con la dovuta attenzione in qualche modo quindi tradendo lo spirito di questo convegno che vorrebbe essere unimo alla interdisciplinarietà pur soffermandomi solo sull'articolo 7 e rinviando allo scritto per famiglia e scuola non posso che procedere per rapidi flash che ne evidenziano alcuni punti chiave comincio con dire che anche questo articolo è il frutto di una deradicalizzazione di un testo più confessionale presentato da Gossetti ma poi scomparso dal dibattito dove si diceva che la religione cattolica religione della quasi totalità del popolo italiano è la religione dello Stato a parte questa deradicalizzazione va detto che l'articolo 7 a differenza di molti altri non fu l'esito di quel processo di mutuo apprendimento di cui ho prima parlato citando Apermas né tantomeno di un overlapping consensus alla rosa il testo approvato in prima sottocommissione il 18 dicembre del 46 è già quello attuale e nella discussione in commissione 75 né quella in assemblea plenaria lo ha mutato c'è stato solo un intervento di tipo stilistico un aggiustamento stilistico del comitato dei 18 il fatto che esso l'articolo 7 sia stato incardinato tra i principi fondamentali e dunque tendenzialmente immodificabili non è privo di importanza e stupisce in silenzio se si eccetta un intervento di divini della sinistra e dei laici sull'argomento tale collocazione prestigiosa che volle essere probabilmente un omaggio alla chiesa la rafforza quella che avrebbe dovuto essere l'argomento principe che si sarebbe dovuto spendere all'ilà dei ragionamenti giuridici di Tossetti tra mandri argomento principe per contrastare l'inserimento dei patti in Costituzione e cioè che con tale innestro si veniva a determinare un enorme innalzamento di status politico dei patti stessi che venivano in senso politico ripeto costituzionalizzati quanto in particolare alla credibilità degli interventi di Osset ha posto una pietra tombale lo stesso monaco nell'intervista già citata ad Elia e Scopola quando alla domanda se fosse veramente convinto della compatibilità fra la Costituzione e tutte le norme del concordato risponde io non ero convinto e appena oltre riconosce mi sono battuto ma in fondo era una difesa di pazza parola non ci appunto mi sembra di poter dire inserito dunque come tra i principi fondamentali l'articolo 7 si manifesta nel loro ambito come norma di rottura etica ed estetta etica perché inserita come in una serie di principi di alta e nobile impronza antifascista si fa l'attore in chiave adesiva di uno dei più caratterizzanti documenti tra quelli approvati durante il ventennio estetica perché rompe inordinatamente l'atmosfera fra virgolette lirica che si restiva negli articoli con cui si apre la costituzione inserendovi una norma concreta in pratica un indirizzo di politica ecclesiastica ad applicazione immediata che fa riferimento anche questa è una irregolarità comparatistica che colpisce l'osservatore a uno specifico accordo internazionale va anche aggiunta un'altra peculiarità dell'articolo 7 che in altri contesti viene giudicato in modo positivo e cioè quella di essere una disposizione di costituzione scritta in perfetta aderenza con la costituzione materiale intesa come complesso di valori fondamentali supportato dalle forze dominanti in un momento storico dato approfitto per ricordare che siamo alla scadenza mancano due minuti rispetto allora chiedo scusa per dover adempire in questo modo il mio ruolo sforerò di tre minuti nel senso perché dicevo appunto aderenza alla costituzione materiale nel senso che il ventregonfio dell'Italia per usare un'espressione di parri era naturalmente predisposto a pastorire una norma di quel genere c'era una chiesa in cui il fiuto politico aveva tempestivamente indotto a passare dall'appoggio al fascismo alla vicinanza e al sostegno ai nuovi principi una chiesa determinante come sempre per la solidità del sistema politico che si andava configurando c'era un partito cattolico ad essa legata a doppio filo anche sotto il profilo delle sue fortine elettorali e un partito comunista le cui tradizioni affondavano secondo Guido Quazza in un humus nel quale le posizioni radicali e laiciste sono sempre state considerate con freddezza anzi con fastidio e sostanziale possibilità a disposizione di queste forze c'era un mito da agitare e concreti rapporti di forza da far valere il mito era quello della pace religiosa agitato incostituente da democristiani e comunisti e smentito fra gli altri da Nenni e Calamandrei contro di esso si è pronunciato in sede di analisi storica Iemolo nel 1950 1858 affermando che parlare della conciliazione del 1929 come di un fattore che avrebbe ridato pace a delle coscienze è un falso storico venendo i tempi della costituente la realtà era per dirla con alberigo in uno scritto del 77 che si andava consolidando in quegli anni un'accezione della pace religiosa quale fattore di stabilizzazione dipendente dalla benevolenza della Santa Sede nei confronti della Repubblica Nascente un'accezione prevalentemente istituzionale e di vertice un affare di ceti dirigenti che passa sulla testa della gente anche quando è iscritta in una strategia di rinnovamento popolare e infatti a rileggere il discorso di Togliatti del 25 marzo del 47 appare evidente che l'interlocutore non sono certo le masse cattoliche comuniste ma la gerarchia vaticana e questo perché il problema dell'inserimento dei patti in costituzione era in realtà un problema di stabilità politica di ragione di stato per democristiani e comunisti di intransigente difesa dei propri privilegi per la Chiesa e proprio la Chiesa era tra gli attori in campo quella quello più forte rifacendomi a Giovanni Sartori ricordo che egli faceva dipendere lo status la forza dei partiti da due fattori il potenziale di coalizione e quello di ricatto due potenziali di cui la Chiesa disponeva al massimo grado era per così dire coalizzata con il fedele partito di maggioranza relativa e teneva sotto scacco per non dire ricatto quasi tutto l'arco politico condizionando il suo appoggio a una democrazia ancora fragilissima alla soddisfazione delle sue richieste domanda si poteva in questa situazione stare dietro alle Ubie liberali di un Rawls secondo il quale lo Stato non deve far nulla che favorisca o promuova qualche particolare dottrina comprensiva anziché un'altra risposta no e infatti così fu grazie 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 veramente anche al professor di giovine per questa ricchissima relazione per rispetto dei tempi anche qui veramente gliene siamo grati siamo grati ai due relatori e possiamo a questo punto cambiare il tavolo e passare alla quinta e ultima sessione prima di aver ah i risultati dell'assemblea saranno in questo momento letti da col no allora benissimo grazie allora do lettura della riunione del consiglio direttivo dell'associazione della nostra associazione in data 4 novembre 2021 alle ore 9 in Napoli presso la sede del dipartimento di giurisprudenza dell'università degli studi di Napoli Federico II nella sede centrale di corso Umberto I si è riunito per l'insediamento e per i primi adempimenti il consiglio direttivo convocato ai sensi dell'articolo 10 dello statuto dal professor Sandro Stajano più anziano fra i quello che ha avuto l'anziano nel senso che ha avuto più voti sono presenti i componenti eletti professoressa Francesca Biondi professor Corrado Caruso professoressa Elisabetta Catellani professor Massimo Cavino professor Claudio Panzera professoressa Giovanna Pistorio professor Fabrizio Politi professoressa Antonella Sciortino professor Sandro Stajano assume le funzioni di segretaria verbalizzante la professoressa Francesca Biondi si procede all'elezione degli organi previsti dall'articolo 7 dello statuto il consiglio direttivo elegge all'unanimità presidente il professor Sandro Stajano vicepresidente la professoressa Elisabetta Catellani segretario la professoressa Francesca Biondi tesoriere il professor Massimo Cavino il presidente provvederà a fissare la data della prima riunione del consiglio direttivo credo di interpretare il pensiero e il sentimento di tutti nell'augurare al nuovo consiglio direttivo buon lavoro per le migliori sorti della nostra associazione grazie allora dobbiamo accelerare moltissimo mi è stato pregato quindi avviamo immediatamente la quinta sessione sulla dimensione costituzionale dell'arte il contributo delle arti alla cultura costituzionale do atto del fatto che purtroppo la professoressa Marina Valenzise per causa di forza maggiore non potrà intervenire paradossalmente questo contribuisce a contenere i temi della i tempi della sessione un grazie agli amici napoletani per la squisita ospitalità e dal direttore dell'associazione e dal suo presidente per il coinvolgimento graditissimo soprattutto mi sento di esprimere di rinnovare un omaggio alla memoria del vice presidente della nostra associazione Beniamino Caravita di Toritto il convegno rappresenta un'occasione importante di incontro perché nasce dalla necessità di riflettere su di un quesito fondamentale per la scienza costituzionalistica come stia mutando quel particolare fenomeno sociale che definiamo diritto e di conseguenza la necessità di ripensare lo strumentario giuridico nelle società postmoderne stiamo ormai assistendo non solo alle trasformazioni di istituti categorie principi giuridici ma ai caratteri della stessa giuridicità e questo ci obbliga come giuristi in particolare come costituzionalisti ad ampliare l'orizzonte della nostra riflessione ad uno sforzo ulteriore di comprensione ed è sempre più rapidi su movimenti che attraversano le nostre società assistiamo ad una metamorfosi della dimensione sociale su cui il diritto moderno si è relazionato per oltre due secoli dalla presupposta certezza e prevedibilità dei rapporti sociali all'incertezza dalla sicurezza al rischio come dimensione onnipresente da una tecnica dominabile alla invasività e difficoltà di gestirne gli esiti da un'idea di scienza come strumento di stabilità alla sempre maggiore consapevolezza che la sua funzione fondamentale presuppone una dialettica tra ricostruzione e ricostruzione che ha nell'inquietudine e non nella presunzione di certezza acquisita una volta per tutte l'indispensabile motore dalla compresenza accanto alla dimensione nazionale ed internazionale riconducibile alla statualità di una di variegatissime dinamiche trasnazionali la cui regolazione avviene in forme originarie nuove muta la realtà mutano gli ordinamenti giuridici al di là dello stesso mutamento normativo a testimonianza dell'incidenza dell'insieme dei processi culturali si tratta di un fenomeno che gli storici del diritto e gli studiosi di diritto comparato verificano costantemente con riferimento alle varie epoche storiche e dalle diverse latitudini ma questo testimonia come un ordinamento giuridico non sia solo un problema di statuzioni di disposizioni che nel relativo processo di strutturazione concorrono fattori metagiuridici fattori che non sono esterni a ciò che definiamo diritto ma ne sono parte costitutiva noi giuristi contemporanei siamo dal punto di vista scientifico fortunati è nelle epoche di transizione che è possibile cogliere il divenire dei processi di strutturazione di quel particolare fenomeno sociale che denominiamo diritto che dobbiamo ripensare cosa sia l'oggetto dei nostri studi cosa debba intendersi appunto con tale termine con tesi come siamo tra l'uso di categorie che percepiamo ormai inadeguate e la difficoltà di elaborarle di nuove come già avvenuto tra 8 e 900 si parla frequentemente di crisi del diritto ma oggi come allora non di crisi del diritto si tratta ma di un modo storicamente datato di concepirlo le società contemporanee proprio perché sempre più disomogenee anche sul piano valoriale hanno ancora più bisogno di un terreno di incontro di mediazione di comprensione di regolazione capace di ricondurre le relazioni sociali nel linguaggio della convivenza questo terreno è il terreno del diritto ed è il terreno vastissimo del diritto costituzionale ed è l'esigenza di ordinare la metamorfosi in corso della società a ridefinire che cosa sia diritto nell'epoca postmoderna i caratteri della giuridicità stanno mutando sulla base dell'evolversi delle esigenze ordinamentali la linea di confine tra vari sottosistemi ordinamentali che come noto non sono solo giuridici evidenzia sempre più il suo carattere storico mobile che si caratterizza per le sempre maggiori continue compenetrazioni muta il rapporto delle norme con il tempo e lo spazio il modo di intendere il carattere stesso delle regole a cui si richiede sempre più per poter svolgere la propria funzione non soluzioni statiche ma elasticità capacità di mettersi in simbiosi con i fatti da regolare sempre più variegati ed imprevedibili muta l'epicentro del divenire giuridico con l'asse che si sposta sempre più sul versante dell'interpretazione rispetto a quello della statuizione si moltiplicano i soggetti non solo pubblici ma privati e di comunità che producono diritto non a caso è stato evidenziato che la domanda di cosa sia questo fenomeno si ripropone in modo persistente la scienza giuridica più di altre ha una strutturale difficoltà a definire una volta per tutte che cosa sia il proprio oggetto se c'è un termine che dovrebbe essere spunto dal vocabolario del giurista è quello di ontologico con tutti i corollari che sopporta con sé come i concetti di definitivo predefinito immanente che cozzano con la natura storica ed antropologica del fenomeno giuridico riflettere sul rapporto tra arte e diritto non rappresenta un vezzo intellettuale ma un modo di ampliare le modalità di comprensione di quella che giustamente nel nostro convegno con riferimento non solo ai rapporti tra scienza giuridica ed altre scienze ma tra arte e diritto viene definita dimensione costituzionale andando così oltre la limitata tradizionale definizione di diritto costituzionale le grandi teorie giuridiche hanno tendenzialmente la struttura delle ideologie predefiniscono che cosa si ha diritto ed espungono dal giuridico tutto ciò che non rientri nella definizione l'esito può essere quello di costruzioni dotate anche di una forte coerenza interna ma inadeguata comprendere le esigenze ordinamentali in immersione penso alla chelzeniana teoria pura del diritto intellettualmente raffinata parte di quel nobilissimo movimento che aspira a costruire l'autonomia della scienza da quelle che saranno definite le ideologie assassine del novecento altro che teoria valoriale ma mi domando come potrebbe dare soluzione ad esempio a problemi posti dalla dimensione trasnazionale dato che seguendo i propri presupposti teorici dovrebbe ricondurre tali fenomeni nell'ambito del non giuridico del sociale delle maiere relazioni economiche quando ormai anche la nostra corte di cassazione con la sentenza numero settecento ventidue del mili cento ottantadue ha applicato la cosiddetta lex mercatoria che si fonda su processi economici sociali e culturali in quanto ordinamento originario dalle riflessioni che hanno preceduto questa sessione abbiamo conferma che la scienza giuridica è una scienza saprofita che è in continua simbiosico le altre scienze ed il complessivo contesto culturale scienza che ha necessità di assumere tra le proprie categorie fondative nozioni metagiuridiche il cui significato giuridico dipende dall'evolversi del contesto e dagli esiti di altre scienze e delle sensibilità culturali e valoriali che le arti ci aiutano a comprendere prendere atto di questo incontra l'ostacolo di un mal posto confronto tra i vari orientamenti scientifici culturali come quello che ruota intorno alle teorie positivistiche normativistiche confronto giocato sulla fuorviante dicotomia giusto sbagliato funzionale ad arroccamenti ideologici più che scientifici anziché su quella adeguato o inadeguato alle esigenze ordinamentali della società il positivismo è stato funzionale alla fase storica del monopolio giuridico della statualità producendo uno strumentario raffinato ma da solo inadeguato per le esigenze delle società postmoderne non si tratta di fare tavola rasa di tale strumentario né di considerare tutti i relativi obiettivi apoletticamente non più da perseguire o perseguibili ma di andare oltre confrontandosi con i nuovi bisogni ordinamentali delle nostre società e da tal fine occorre ampliare i sensori della nostra comprensione con l'ausilio delle altre scienze ma anche con la capacità intuitiva espressiva e comunicativa delle arti Gianno Alberto Bobbio sul piano scientifico non un pericoloso eversore constatava come attanto ad ogni disciplina giuridica si siano nel tempo affiancate discipline non giuridiche chiamate a condividere ed integrare la mappatura dei problemi e delle possibili soluzioni mi limito a ricordare come abbiamo visto nel convegno per il diritto costituzionale della scienza politica o per il diritto internazionale le relazioni internazionali così come l'intellettuale torinese sottolineava la scienza giuridica non solo di categorie da lei lavorate ad esempio nullità o annullabilità ma di concetti prima che giuridici sociali morale e culturali quali dolo o colpa ed aggiungo da concetti come quello quelli di capacità di intendere e di volere continuamente ridisegnati dalle neuroscienze senza i quali quelle corrispondenti categorie giuridiche non sarebbero operanti un diritto senza contaminazioni dell'umano è un diritto irreale e qualsiasi livello dell'ordinamento giuridico ancor più quello qualsiasi livello dell'ordinamento giuridico ancor più in quello costituzionale sarebbe come pretendere di separare dal vissuto delle persone e dalle esigenze della società sarebbe anestetizzarne proprio la funzione ordinamentale ma se così è l'essere la scienza giuridica una scienza saprofitta non ne determina una diminuzio bensì proprio la caratteristica scientifica che evidenzia la sua estrema complessità come scienza necessitata dell'ordinare sociale necessitati in quanto in grado di pervenire ad esiti in cui le altre scienze e gli altri sottosistemi ordinamentali non sono in grado di pervenire ecco dunque che l'orizzonte della nostra riflessione si ampia con l'ampliare della complessità del divenire sociale e deve includere quelli che in passato ho denominato gli indicatori delle trasformazioni costituzionali cioè quei processi non necessariamente normativi che sono tali da codeterminare sottolineo codeterminare gli orientamenti di un ordinamento giuridico il nostro ordinamento costituzionale si trova a dover affrontare contraddizioni sistemiche delle società contemporanee come quella di essere quelle di essere società dell'informazione della mobilità ma produttive di incomunicabilità e solipsistico isolamento del diffondersi di orientamenti culturali arroccati in escludenti riferimenti valoriali non negoziabili ma pur essi attraversati come tutti i sottosistemi ordinamentali da crisi profonda il moltiplicarsi esponenziale di estemporanei contatti sociali che non riescono a elevarsi a relazioni sociali aumenta il ruolo del diritto e le responsabilità dei giuristi ma anche le difficoltà ad impiare tale ruolo e tale responsabilità e da tale scopo occorre affinare la capacità di comprensione delle dinamiche sociali il giurista è immerso in queste dinamiche e di misura più o meno penetrante più o meno consapevole la sua funzione interpretativa è attività ermeneutica che risente non solo del procedere logico ma delle sensibilità delle passioni e delle contaminazioni dei tempi tanto meno si portano ad immersione tali dinamiche tanto più se ne è condizionati e lo stesso fare diritto diventa parte della vabele delle incomunicabilità dalle manifestazioni di quella parte della cultura che definiamo arti e che vanno intese non solo nella loro versione colta il giurista in quanto tecnico e dei processi ordinamentali può trarre tre serie di insegnamenti la percezione e rappresentazione di orizzonti inesplorati della realtà è stato detto della comprensione del possibile una sensibilità introspettiva sulla condizione umana la consapevolezza di punti di contatto e di conseguenza di diversità tra le plurali dimensioni ordinamentali tanto più il diritto si colloca al crocivia di plurali sottosistemi ordinamentali sociali scientifici tecnologici religiosi culturali tanto più la scienza giuridica è anche arts combinatoria che non significa uso improvvisato evacuamente eclettico di sensibilità culturali dinamiche sociali ma faticosa ricomposizione di un sistema ordinamentale le arti sono lì a testimonianza di poter contribuire a svolgere una tale funzione in quanto modalità ulteriori di comprensione di una dimensione umana altrimenti non pienamente percepibile ovviamente ciascun'arte in modo diverso secondo le proprie peculiarità le strinsecarsi le proprie variegatissime manifestazioni al giurista ma noi costituzionalisti in modo particolare sono di ausilio tre serie di prospettive una attiene ai caratteri di quelle manifestazioni artistiche alla loro capacità di invenzione cioè di portare ad immersione una dimensione umana materiale spirituale altrimenti sommersa e risconosciuta una funzione inventiva dell'artista che in molti contesti può rivelarsi complementare parte di quella invenzione del diritto di cui ci parla Paolo Grossi una seconda prospettiva di riflessione attiene all'osservazione di come i fenomeni artistici si pongono o possono porsi nel dare soluzioni a modi di essere e a problemi che sono propri o simili a quelli che deve affrontare anche il giurista si pensi ad esempio ai temi della relazione di uno spartito musicale con la sua esecuzione capace di esprimere una pluralità di sensazioni di sentire così come l'interpretazione del giurista può attribuire diversi significati normativi ad una disposizione in entrambi i casi musicista e giurista interpreti si esprime un potenziale originario una possibilità espressiva regolativa un concorrere con il testo all'esito complessivo che è tanto più ampio nei contesti di transizione dove l'indebolirsi di riferimenti consolidate la fluidità dei contesti ampia le soluzioni del possibile ancora le arti possono esprimere direi rendere visibili concetti che la sola logica e la sola razionalità possono rendere solo parzialmente consentire di rendere percepibili in modo profondo in immediato condizioni sociali stati d'animo individuali e collettivi lo spirito e l'inquietudine del tempo si pensi ad esempio come ho avuto modo di sottolineare per la pittura all'urro di munca o a guernica di picasso per la letteratura all'angoscia di kafka per un potere sempre più impersonale e per la percezione di un'ombra oscura che di lì a poco avrebbe investito il mondo di lingua e cultura tedesca a quel grande indagatore dell'animo umano di Shakespeare si tratta di considerazioni tutt'altro che astratte in quanto attengono al contribuire alla percezione e consapevolezza del corpo sociale sul cuore di ciò che è più caro al costituzionalismo la tutela della dignità della persona il fondamento dei diritti individuos violabili i limiti che incontra il potere o meglio i poteri pubblici e privati il rapporto tra diritto e valori percezione o mancanza di percezione consapevolezza o mancanza di consapevolezza da parte del corpo sociale che si riflettono nella dimensione costituzionale le arti in particolare cinema teatro letteratura sono state capaci di rappresentare in modo empatico i diritti fondamentali attraverso la rappresentazione del vissuto di chi ne ha subito la violazione alla ricerca logica e razionale del fondamento di tali diritti si è così affiancato una comprensione del loro fondamento attraverso un'empatica compartecipazione delle sofferenze di chi ne ha subito la violazione si pensi alla drammatica cinematografia sull'olocausto o alla letteratura sul vissuto lacerato dell'esiliare questo vedere sentire dal di dentro attraverso il tragico acroce sofferto vissuto delle vittime è particolarmente prezioso al tempo stesso per il costituzionalista e per la persona comune tanto più le nostre società si stanno avviando ad essere società di minoranze ciascuno di noi in quanto potenziale minoranza nel corso della propria esistenza può essere vittima di uno dei sette parametri di discriminazione di cui parla l'articolo 3 primo comma della nostra costituzione come dire che il fondamento della loro tutela può trovare impulso nelle rappresentazioni artistiche ogni qual volta ci aiutano a comprendere che vi è un interesse personale e collettivo alla costruzione di relazioni sociali di dinamiche politiche e di assetti costituzionali adeguati se non si vuole ciascuno di noi essere potenziali vittime di tale violazione previsioni costituzionali e consapevolezza sociale sono un tutt'uno ma le arti possono svolgere un ruolo fondamentale con riferimento alle faie laceranti delle contrapposizioni valoriali si pensa come la cinematografia in alcuni casi è riuscita a rappresentare i temi della bioetica dell'intersecarsi del diritto con la morale o meglio le morali la scienza e la tecnologia e potremmo continuare a lungo su temi fondamentali del nostro presente e del nostro futuro costituzionale come la narrazione del divenire le nostre società sempre più multiettiche multireligiose e multiculturale è individuabile in varie epoche storiche una sorta di parallelismo tra sviluppo artistico e costruzione giuridica si pensa ad esempio alle narrazioni delle tragedie greche e come il diritto antico greco sia stato capace in una fase del suo dipanarsi di distinguere in sintonia con il sentire di quelle manifestazioni artistiche tra norme che definiremo oggi legislative e norme superiori che definiamo costituzionali in quanto capaci di esprimere un sentire profondo della società devo forzatamente concludere ma desidero farlo seguendo un metodo che accomuna tutte le scienze quello di sottoporre a prova di resistenza quanto sinora sostenuto ponendo io stesso alcune obiezioni che potrebbero essere sollevate e concludo l'affermare che scienze e processi culturali sono parte costitutiva dei processi di strutturazione dell'ordinamento giuridico potrebbe sollevare la critica di cadere in un eclettismo dominato da un soggettivismo non governabile ma la critica è superabile se le teorie scientifiche vengono assunte alla stregua di fatti ipotetici ad esempio si è vera sottolineo se la teoria economica della necessità del perseguimento della stabilità dei prezzi ne consegue la necessità giuridica istituzionale dell'indipendenza delle banche centrali la dimensione regolativa del settore risulta essere l'esito di un mix tra elaborazione economica ed elaborazione giuridica che finisce per fondarsi in un tutt'uno regolativo e così procedendo nella relazione tra scienza giuridica ed altre scienze per ciò che riguarda l'ambito che potrebbe apparire più sfuggente quello del rapporto tra scienza giuridica e dinamiche culturali di cui le arti sono espressione l'obiezione va ribaltata l'esistenza di tale relazione è verificabile storicamente con riferimento a più diversi ordinamenti giuridici non a caso neppure le teorie normativistiche possono fare a meno di includere norme a fatti specie aperta e concetti che la teoria generale del diritto definisce valvola che consentono il fruire nell'ordinamento giuridico di quella che Paolo Grossi definisce carnalità del diritto che nelle società contemporanee sempre più disomogenee cresce la necessità di terreno di incontro della comunanza di linguaggi richiede riportare a dimersione un sentire comune che il giurista deve contribuire a recuperare nella propria azione ordinamentale infine ma non da ultimo dal pensiero psicoanalitico traiamo l'insegnamento che senza questo recupero da quei processi che ignoriamo siamo condizionati più di quanto non avvenga nel prenderne atto vale anche per i processi di natura non dispositiva di un ordinamento giuridico una cosa è certa che noi costituzionalisti siamo fortunati abbiamo a che fare con un fenomeno affascinante che presenta i caratteri della scienza produce tecnologia ordinamentale necessita di confrontarsi con i processi che attraversano la società e che grazie anche alle arti al loro modo immaginifico di esprimersi ci impongono di riflettere sulla condizione umana una responsabilità enorme la nostra dalla quale dipende la possibilità di mantenere e promuovere convivenza vi ringrazio allora passo subito la parola alla professoressa e amica Agostina Cabido che non ha bisogno di presentazioni voglio soltanto ricordare due cose della combattiva nostra social la sua meritoria battaglia per la difesa dell'uso della lingua italiana in contesti che attengono il cuore della nostra formazione è un libriccino ma piccolo e agile di lettura ma profondo e densissimo di contenuti che ha pubblicato proprio in questo momento pensate si chiama è intitolato bellezza e farà una bellissima lezione è autobiografico bravo prego grazie 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 alla presentazione di Orlando grazie al direttivo dell'associazione al presidente Silvestri che mi ha invitato a tenere questa relazione tanto più che il convegno è dedicato quest'anno ai rapporti appunto fra diritto costituzionale e altre scienze una prospettiva che mi sta molto a cuore perché ho sempre pensato che dalla integrazione dall'ascolto dall'attenzione dal confronto nei confronti degli altri persone culture linguaggi possano emergere scaturire idee paradigmi in grado di far avanzare le conoscenze con il che non so anzi credo di essere poco capace di far avanzare queste conoscenze ma ci provo un pensiero particolare però mi preme rivolgere a Beniamino Caravita non l'ho frequentato molto e mi sembra mi è sempre sembrato che la sua visione del mondo e la mia non fossero del tutto congruenti tuttavia questo non gli ha impedito di coinvolgermi in molte delle sue innamorevoli iniziative oltre che di fare il mio nome per quello che mi è stato detto per questo intervento che mi sarebbe piaciuto discutere con lui eravamo rimasti d'accordo in questo senso perché mi aveva fatto una telefonata a inizio luglio nella quale appunto mi aveva confermato di essere stato lui a fare il mio nome ma la telefonata era iniziata con un rimprovero e cioè non mi hai ancora mandato il libro io avevo imprudentemente dato notizia della prossima uscita del libro e lui giustamente mi ha telefonato per dirmi non mi hai ancora mandato il libro e poi mi aveva un po' provocato sui livelli essenziali delle prestazioni per la bellezza delle prestazioni estetiche dopodiché mi aveva anche detto non vedo l'ora di litigare con te su questo tema quindi evidentemente lo intrigava l'idea e non avendo letto il libro ecco non capita spesso di avere il rimpianto di un litigio mancato ed ovviamente non rimpiango e non mi manca il litigio mi manca Beniamino e credo che manchi a tutti noi allora passiamo invece alla relazione la dimensione io avrei dato titolo a questo intervento mi avrei dato il titolo che ho dato il librino bellezza per un sistema nazionale perché è questa l'idea che vi voglio prospettare però mi attengo in qualche modo sarò parassita o saprofitta di quello che ha già detto Orlando che ha detto molto bene però parto dalla prima parte del titolo di questa sezione cioè la dimensione costituzionale dell'arte non so se intendo bene questo quesito però a me sembrerebbe che il tema della dimensione costituzionale almeno così io lo intendo ci interroghi e per arte intendo qualunque manifestazione culturale dalla letteratura alle arti figurative dalla musica al cinema fino alle opere digitali vendute e comprate attraverso quelli che si chiamano non fungible token cioè quelle produzioni digitali che appunto vengono comprate e vendute e di cui si garantisce l'autenticità e l'unicità attraverso il cosiddetto blockchain quindi le più varie manifestazioni culturali e la domanda secondo me è quella del posto che in costituzione è riconosciuto alle arti ma direi più in generale appunto alla bellezza nella disciplina dei diritti e delle libertà al fine di favorire il pieno sviluppo della persona e l'effettiva partecipazione di tutti alla vita politica economica e sociale del paese e ovviamente la relazione di Cesare Pinnelli mi sgrava dalla necessità anzi rappresenta in qualche modo lo sfondo problematico della che cosa vuol dire il diritto ad avere diritti che cosa vuol dire il diritto ad essere se stessi e soprattutto anche come queste questi due aspetti si relazionino rispetto alla cosa vuol dire pieno sviluppo della persona l'ha già fatto Cesare l'ha fatto molto bene e quindi quello è uno sfondo problematico su cui situare le poche cose che proverò a dirvi facendo un passo avanti rispetto a questo intanto sul posto che le arti occupano nella Costituzione mi sembra molto significativa ed è poco più che un'ovvietà che una banalità dire che il primo articolo che viene in rilievo è l'articolo 9 evidentemente della Costituzione a tenore del quale la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione ecco per me è molto importante che i costituenti abbiano legato la tutela del patrimonio culturale allo sviluppo della cultura e quello della tutela mi sembra in Costituzione mi sembra un modello cioè o meglio un principio che riprende un modello di tutela per noi antico noi siamo nella Università Federico II i nostri ospiti ci hanno fatto immergere nella bellezza e anche qui lo sfondo della cena di ieri con quegli affreschi meravigliosi e con quei decori potrebbero essere in qualche modo magari proiettati invece di proiettare la mia immagine proiettare quelle immagini di bellezza nella quale appunto ci siamo in qualche modo trovati ieri nella città di Napoli Federico II era il cosiddetto stupormundi quindi la sapeva lunga in tema di bellezza ma c'era anche nelle costituzioni medievali ci sono molti toscani qui il costituto senese probabilmente ce l'abbiamo in mente tutti quanti è il buon governo da freschi di Ambrogio Lorenzetti del buon governo ecco nel costituto senese si legge e bisognerebbe che questo noi lo recuperassimo soprattutto lo recuperasse il legislatore che i governanti sono tenuti a curare massimamente che si intenda la bellezza della città perché la città deve essere onorevolmente dotata e guernita tanto per cagione di diletto e allegrezza dei forestieri quanto per onore e prosperità e accrescimento della città e dei cittadini ecco io credo che questo sia in qualche modo quello che i costituenti ci hanno voluto dire nel legare nel come dire mettere nella carta d'identità dell'Italia nella sua costituzione segni particolari bellezza nei primi articoli nei principi fondamentali mettono questo e non è secondo me senza rilievo poi naturalmente proprio perché è nella carta d'identità dell'Italia di questo paese bellissimo che ha un patrimonio culturale continuiamo a dirlo sempre il più cospicuo del mondo forse la Cina la conosciamo poco ma la Cina molto probabilmente ha un patrimonio culturale molto vasto ma insomma si dice noi intanto abbiamo 55 beni che sono riconosciuti nell'elenco UNESCO e poi ci sono i beni immateriali cioè quelle tradizioni per esempio il canto a tenore sardo qualcosa lo possiamo dire scusa mi dispiace ma sono il campanile ho detto prima della Toscana ho detto della potrei dire di Roma naturalmente ma anche il campanile sardo mi sembra la transumanza anche perché un'altra ecco dicevo allora la carta d'identità dell'Italia dove la ed è bello anche che in quell'articolo si parli di nazione non sono sono pochissimi gli articoli che in Costituzione fanno riferimento alla nazione ecco nell'articolo 9 si fa riferimento alla nazione volendo dire io credo che la titolarità di quei beni spetta ai cittadini tutti alla collettività tutta intera in quanto ornamenta cioè cose belle ma anche monumenta cioè simboli e segni di valore storico civile e politico dove la densità di significati del patrimonio storico artistico e del paesaggio che ne fa un elemento portante della cittadinanza e dell'identità indica chiaramente come l'interesse giuridicamente rilevante non coincida con i beni materiali in sé considerati ma attenga piuttosto all'interesse culturale ad essi inerente o se si preferisce come direbbero gli economisti non al valore di scambio ma al valore d'uso al godimento la pubblica fruizione e questo poi tornerà anche nei caratteri dei beni culturali secondo quella ricostruzione che tutti conosciamo di Massimo Severo Giannini ma questo lo dice anche la Corte Costituzionale perché la Corte Costituzionale in una celebre sentenza la numero 118 del 90 afferma che l'obbligo dello Stato meglio della Repubblica di curare la formazione culturale dei consociati alla quale concorre ogni valore idoneo a sollecitare e arricchire la loro sensibilità come persone nonché il perfezionamento della loro personalità e il progresso anche spirituale oltre che materiale è direttamente collegato a quello di provvedere alla tutela dei beni che sono testimonianza materiale di essa ed assumono rilievo strumentale per il raggiungimento dei suddetti obiettivi sia per il loro valore culturale sia per il riferimento alla storia della civiltà e del costume anche locale quindi il nesso inscindibile stabilito dalla Costituzione riaffermato dalla Corte Costituzionale tra il momento sostanziale di quell'articolo 9 cioè la tutela dei beni storico artistici del patrimonio culturale e del paesaggio e il momento invece funzionale la promozione dello sviluppo culturale questo fa sì che la tutela del patrimonio culturale non si esaurisca allora nella esclusiva conservazione mediante misure di comando e controllo dei beni materiali e materiali che lo compongono ma debba tener conto della funzione culturale di questi beni di questo patrimonio e debba garantirne l'ordinato godimento universale cioè di tutti i cittadini in un'ottica di bilanciamento dei diversi interessi meritevoli di tutela il che è quanto dire a mio avviso che arte e cultura costituiscono oltre che elemento caratterizzante l'identità civile italiana anche una dimensione antropologica fondamentale della realizzazione dell'individuo che trova nei principi stabiliti dagli articoli 2 e 3 della costituzione prima ancora che nell'articolo 9 e cioè nella centralità della persona libera e uguale l'ancoraggio più saldo di quello che io chiamerei un nuovo diritto universale alla bellezza come diritto a una vita degna nutrita di senso e non solo di utilità da questo punto di vista mi piace ricordare quello che ha detto l'economista ieri Franzini quando da economista ci ha detto che non tutto si misura in termini di pil ma che c'è anche appunto una dimensione spirituale quella che in Bhutan in un paese orientale si misura il fil non il pil cioè la capacità di appunto benessere spirituale quella che gli americani chiamerebbero la felicità quindi credo che di tutto questo oggi ci sia sufficiente consapevolezza abbiamo passato anni abbiamo alle spalle anni di separazione di chiusura di pandemia credo che oggi siamo tutti più consapevoli di quanto sia importante il paesaggio di quanto sia importante l'arte di quanto siano importanti i musei il cinema che non abbiamo potuto frequentare le mostre la bellezza appunto e non sono meno significativi altri articoli della Costituzione faccio riferimento all'articolo 33 della Costituzione e non è un caso anche qui che sia stato lo stesso concetto Marchesi padre insieme ad Aldo Moro dell'articolo 9 ad affermare con forza in seno all'assemblea costituente che l'arte e la scienza sono per se stesse fantasmi e sono mere astrazioni e non sono per se stesse né libere né serve e però esistono nelle manifestazioni scientifiche e artistiche del genio individuale esistono nelle opere d'arte e di scienza e così possono essere colpite da coazione e così possono non essere libere cioè cosa ci dice il concetto Marchesi ci dice che non importa alla Costituzione non importa al costituente un'astrazione un concetto astratto importa che invece concretamente artisti e ricercatori possano esprimersi liberamente e libertà che era ovviamente stata negata nei precedenti regimi però appunto secondo me non c'è solo una prospettiva negativa un antagonismo rispetto al passato e alle limitazioni del passato c'era soprattutto in quella visione una dimensione come dire di proiezione nel futuro libertà significa nella visione dei costituenti anche potere dell'arte della scienza di raggiungere concretamente gli altri di essere comunicati appunto se infatti l'opera d'arte o la teoria scientifica non sono poste nella condizione di essere fruite lì c'è una mistificazione della libertà c'è una sua concreta limitazione che deve essere necessariamente rimossa affinché tutti possano in condizione di uguaglianza non solo formale ma anche sostanziale pienamente godere del progresso scientifico e della bellezza una lettura sistematica della costituzione si impone anche per quanto riguarda le implicazioni dal punto di vista organizzativo evidentemente si parla di repubblica e si intende dire che tutti non solamente gli enti pubblici ma tutti noi in quanto parte di questa repubblica abbiamo il dovere di lavorare per la tutela e per del nostro patrimonio culturale che abbiamo non ricevuto in eredità dai padri come ci dicono i saggi ma preso in prestito dai figli e lavorare per lo sviluppo culturale potrei rinvio alla relazione e anche al librino per quanto riguarda il passaggio dai principi costituzionali alle regole e in particolare per regole intendo il codice ovviamente dei beni culturali e del paesaggio e faccio riferimento solo a quelli che mi sembrano due passaggi molto significativi del codice e di quella che è l'elaborazione culturale potrei dire teorica su questi temi a partire dalla famosa commission dai lavori della commissione franceschini e poi dal precipitato di questi lavori e delle elaborazioni successive anche della giurisprudenza della corte costituzionale è diventata disposizione codicistica e il primo di questi di queste novità diciamo così nella elaborazione successiva alla costituzione è un'idea che supera la concezione estetizzante che era propria delle leggi bottai del 1939 la supera nel senso di andare oltre il bene di grande pregio di significativa bellezza di considerare bene culturale patrimonio culturale anche ciò che è testimonianza di civiltà è una disposizione residuale ma che ci dice qualcosa che allarga evidentemente il concetto quale lo si conosceva fino ad allora e un altro e questo è un tema evidentemente importante ma è un tema anche importante dal punto di vista della precisazione che nella nelle disposizioni codicistiche si fa è quello di dire sono beni culturali che interessano il codice tutelati dal codice solo le cose e si fa un elenco di cose che sono beni culturali perché ad un certo punto nella come dire nella attuazione costituzionale si era andati verso una sorta di quella che Michele Aines avrebbe definito un fan culturalismo cioè se sono beni culturali le testimonianze di civiltà quindi la sedia contadina l'aratro eccetera eccetera tutto potrebbe essere patrimonio culturale il codice da questo punto di vista dice no i beni culturali quelli tutelati dal codice sono cose attenzione cose non vuol dire però attenzione che interessa la materia in quanto tale anzi nella definizione del bene culturale e qui viene in aiuto Massimo Severo Giannini quello che interessa davvero è la destinazione d'uso per così dire la destinazione alla pubblica fruizione è bene cioè è meglio l'interesse culturale è l'interesse alla pubblica fruizione una cosa in sé il quadro del grande artista dice Massimo Severo Giannini in quanto cosa ha una serie potrebbe contenere una serie di interessi una serie di beni giuridici rilevanti può essere il titolo di proprietà può essere la concessione come abbiamo visto nella nella sala del direttore di dipartimento che ci ospita che ha quelle bellissime tele concesse e però non sono di proprietà né del direttore e neanche dell'università ci può essere il pegno ci possono essere infiniti interessi beni giuridici che gravitano sulla cosa ma quello che interessa il codice è l'interesse alla pubblica fruizione il godimento che comporta ovviamente un vincolo perché nel momento in cui viene dichiarato qualunque cosa voglia dire dichiarazione perché qualcuno dice è un puro accertamento dichiarazione vuol dire quello che la parola dice dichiarazione no dichiarazione vuol dire nel codice in realtà a ben guardare provvedimento cioè nel momento in cui viene riconosciuto l'interesse culturale allora c'è un vincolo che appunto dice anche al proprietario privato di quel bene che ci deve essere una pubblica fruizione poi sarà aperto 365 giorni all'anno quella collezione alla pub saranno due giorni all'anno nei giorni in cui il proprietario d'accordo con l'ente pubblico che dispone però la pubblica fruizione deve essere assicurata ed è quello l'interesse che è culturale a cui si fa riferimento nel codice detto questo ma cosa vuol dire appunto quindi è un bene immateriale dice Severo Massimo Severo Giannini il carattere del bene culturale della cosa su cui gravita un interesse culturale è appunto un carattere immateriale cioè sul bene sulla cosa ci possono essere diversi interessi e tra questi anche nel momento in cui c'è la dichiarazione l'interesse materiale che ne fa appunto un bene culturale immateriale che ne fa un bene culturale ecco immateriale cosa vuol dire può voler dire molte cose può voler dire appunto quello che dice Massimo Severo Giannini come carattere del bene può voler dire come si dice negli elenchi unesco che esistono beni culturali immateriali il canto a tenore la transumanza la dieta mediterranea la pizza visto che siamo a Napoli sono beni culturali immateriali nell'elenco unesco ma può voler dire anche quello che dicevamo prima cioè beni e cioè prodotti culturali digitali body art per esempio cioè prodotti che sono caratterizzati dalla impermanenza tu prima hai fatto riferimento ai concetti ecco all'impermanenza alla mutevolezza pensate per esempio alle opere di Cristo che finché sono impacchettate finché erano impacchettate erano evidentemente fruibili ma poi sono destinate di per se stesse a scomparire ma pensate alle performance non so se avete mai visto assistito ad una performance di dell'Abramovic che è evidentemente un'espressione artistica ma del tutto immateriale caratterizzata dall'impermanenza e potrei dire anche non certo caratterizzata dalla bellezza come molta arte contemporanea ha poco o niente a che fare con un'idea tradizionale di bellezza piuttosto di suscitare cioè è il suscitare emozioni che interessa e anche come dire sollevare ossessioni fare emergere ossessioni disagi questo molto probabilmente più che una nozione astratta di bellezza sta nell'arte contemporanea dopodiché siccome quanto tempo ho? 5 minuti 5 minuti e allora ne hai assolutamente facilitato nel dire qual è il contributo se quello che ho detto sulla dimensione costituzionale dell'arte non può certo bastare ma vi rinvio appunto sia al librino che alla successiva relazione invece quello che ha detto prima Orlando mi facilita nel rispondere a quello che è il secondo quesito posto dal titolo di questa sessione cioè appunto il contributo delle arti alla cultura costituzionale in particolare a me piacerebbe semplicemente fare riferimento a quello che l'arte può darci in termini di consapevolezza di consapevolezza di ciò che è veramente la dimensione spirituale e se posso dire per quello che può interessarvi da che cosa nasce questo librino questo librino non nasce dai miei studi giuridici o dalla mia dal mio insegnamento al Politecnico di Milano per molti anni di materie come legislazione di beni culturali nasce piuttosto da un'intervista di un alla su Tg3 non so se nazionale o regionale al responsabile della terapia intensiva di anestesia e terapia intensiva di Bergamo nel periodo in cui da Bergamo partivano di notte i camion che portavano via le salme che non potevano essere tumulate e questo questo medico responsabile appunto della terapia intensiva essendo chiusi i musei di Bergamo ed essendo chiusa l'Accademia Carrara come tutto era chiuso in quel periodo chiese aveva chiesto all'Accademia Carrara il prestito in prestito alcune opere ne ha tappezzato la terapia intensiva e alla giornalista che gli chiedeva ma lei che cosa sta facendo dovrebbe occuparsi di queste persone che muoiono e lui ha risposto molto semplicemente anche questa è una terapia queste persone non vedono altro se non medici e infermieri scafandrati dico io vedono solo gli occhi non vedono i loro cari non vedono niente che gli riporti diciamo ad una dimensione umana devono poter sollevare lo sguardo ecco da lì è nata l'idea perché per tanti anni avevo insegnato e studiato legislazione di beni culturali ma non aveva e ovviamente come tutti noi pensiamo abbiamo sempre pensato che evidentemente vivere circondati dalla bellezza è meglio che vivere nel degrado eccetera eccetera potrei dire molte cose per cui è meglio la bellezza piuttosto che e c'è un decalogo di un famoso psicologo del lavoro allievo di padre Agostino Gemelli quindi una persona che non giocava con i concetti inutili Enzo Sfaltro che appunto fa un decalogo ad un certo punto del bellessere lo chiama lui ecco ma al di là di questo tutti sappiamo quanto importi la bellezza quanto importi l'arte a tutti noi ma io personalmente non avevo mai fatto il collegamento immediato tra bellezza arte e salute questo appunto non mi era caduto è scattato lì e mi sono detta ma insomma forse se c'è un diritto alla salute ci dovrebbe anche essere e quindi come ha detto la corte costituzionale un diritto alla salute che non è solo la salute fisica che non è solo la salute mentale forse ci dovrebbe essere anche un saluto un diritto alla salute spirituale appunto alla bellezza io lo chiamerei diritto alla bellezza dopodiché so perfettamente che dire ci deve essere un diritto comporta che ci deve essere un'organizzazione in grado di garantire il godimento di questi diritti e qui evidentemente è tutto un altro paio di maniche io vi lascio la provocazione e spero che non sia ritenuto del tutto implausibile riflettere su questo dico semplicemente che quando nel mille ovviamente qualcuno potrebbe dire eh ma ci sono tante istituzioni enti pubblici ma anche privati privato sociale eccetera eccetera che si occupano di bellezza di arte di cultura sì facciamo lo stesso percorso che abbiamo fatto prima per il diritto alla salute anche dal punto di vista dell'organizzazione nel 1978 c'erano gli ospedali nel 1978 c'erano i medici condotti che cosa è stato il sistema nazionale è stato semplicemente un mettere assieme mettere a sistema appunto tutte quelle esigenze e le risposte che l'ordinamento tutto intero era in grado di dare rispetto alla pretesa alla salute ecco io credo che forse in questo momento che sia questo il tempo il kairos per così dire è il luogo visto che siamo in Italia per pensare davvero a un sistema nazionale per la bellezza come possa essere organizzato non so non ci rifletterò e spero che ci si possa riflettere tutti assieme però appunto mi piacerebbe visto sono molto contenta che chiuda questa mattinata Franco Modugno perché Franco Modugno è stato il relatore della sentenza sull'inglese esclusivo e quindi siccome ancora la Corte Costituzionale spero che possa essere magari anche il relatore di una sentenza che riconosca il diritto al bellessere a quello che appunto Enzo Spaltro chiamava diritto al bellessere grazie ecco scusate non c'è tempo per chiusare questa bella relazione solo un flash quanto dipende la disciplina dall'idea di bene culturale e poi questo da un'impostazione scientifica del tema che ha affrontato i beni culturali anche la proposta di una soluzione leggetelo questo libro ne vale la pena non ho una quota di diritti d'autore quindi lo dico soltanto per ecco ora io passo la parola alla professoressa Jacqueline Visconti che è ordinario dell'Università di Genova di Linguistica Italiana in un dipartimento multidisciplinare il DIRAS dipartimento di italianistica romanistica antichistica arti e spettacolo e potrebbe essere definita una giurista d'onore perché si è specializzata tra i tanti suoi ambiti di interesse si è specializzata nel linguaggio giuridico tra l'altro svolgendo anche una meritoria funzione come ci diceva il nostro ex ormai presidente ma si è professor Silvestri presidente merito dell'associazione e ha svolto anche un ruolo importante di formazione nei confronti dei magistrati presso la scuola per la magistratura tra l'altro consentitemi di notare una particolarità è l'ultima relazione che sembra proiettarsi al prossimo convegno che la nostra associazione come dicevo poco fa alla professoressa Visconti ha deliberato di affrontare i molteplici profili del rapporto tra lingua e sistema costituzionale diciamo così e quindi un auspicio straordinario continueremo una riflessione un continuo grazie per essere qui con noi e a lei la parola grazie presidente anzi sono io che ringrazio per la partecipazione a un convegno incastonato sul dialogo tra le discipline in realtà dopo le bellissime relazioni che mi hanno preceduto sento un po' come meritata la mia appartenenza a questa sessione perché la mia materia è la grammatica ora più modernamente si chiama linguistica testuale che se è un'arte lo era nel medioevo le arti liberali del privio la retorica la dialettica la grammatica ma forse è più una scienza che è un'arte quindi sono grata al presidente per aver anche menzionato la parola di scienza e tant'è anche Cicerone prima di studiare la filosofia e il diritto civile aveva dovuto studiare la grammatica e la dialettica ora vengo subito al punto la lingua della costituzione ha da sempre incantato giuristi e linguisti Paolo Caretti in uno dei bei volumi curati da Roberto Romboli parla del nostro testo costituzionale come di un vero e proprio miracolo data soprattutto anche la situazione diciamo corale a usare un eufemismo di cui ha così ben parlato prima il professor Di Giovine per Tullio De Mauro nostro grande maestro scomparso pochi anni fa la costituzione continua ad essere un testo straordinario anche all'analisi di dettaglio di nitidezza e di chiarezza e per vice mortare a Garavelli la mia maestra di cui festeggeremo lunedì i 90 anni a Torino la costituzione resta tra i documenti legislativi meglio congegnati e redatti ora a dire il vero non tutti sono d'accordo ricorderete le parole di Calamandrei quando in un intervento all'assemblea costituente il 4 marzo del 1947 diceva ora onorevoli colleghi se noi leggiamo questo progetto con quest'animo di critica costruttiva dobbiamo alla prima lettura riconoscere che esso non è un esempio di bello scrivere manca di stile omogeneo direi quasi che manca di qualsiasi stile e ricorderete come ricorda quando nel 1801 Ugo Foscolo era stato incaricato dal ministero della guerra della Repubblica Cisalpina di preparare un progetto di codice penale militare e Foscolo nella relazione introduttiva si aveva dichiarato di voler compilare l'opera cito in uno stile rapido calzante conciso che non lasci pretesto all'interpretazione delle parole si baderà ancora scriveva il Foscolo a una religiosa esattezza della lingua italiana ecco conclude Calamandrei questo progetto di costituzione si sente che non è stato scritto da Ugo Foscolo ma la mancanza di stile come sappiamo a cui fa riferimento Calamandrei in realtà è data proprio da quella eterogeneità di favelle che si ravvisa in molte disposizioni del progetto e che deriva proprio dal modo in cui è nato cioè non concepito in maniera armonica ma all'interno di diverse sezioni e comitati e sottocommissioni tante piccole officine tanti piccoli laboratori dal punto di vista della testualista è molto interessante ravvisare nel testo normativo monofonico come dovrebbe essere appunto la Costituzione in realtà delle tracce linguistiche di questa polifonia originaria ora è evidente la preoccupazione linguistica dei costituenti il processo di costruzione perdonate sono cose notissime si chiude dopo un anno e mezzo di lavoro il 22 dicembre del 47 e con le parole di Mueuccio Reini che sensibilità linguistica ne aveva aveva anche parlato del aveva scritto un saggio sul linguaggio burocratico la revisione stilistica si è ispirata a intenti di correttezza linguistica di semplificazione di chiarificazione dei concetti che hanno determinata l'adozione delle formule della Costituzione abbiamo sentito il parere di alcuni eminenti scrittori elettorali e letterati poi abbiamo cercato di avvicinarci a una certa omogeneità di espressione e stile e quindi la chiarezza e la trasparenza della lingua sono state il frutto di un processo partecipato e conclude Ruini una Costituzione non deve essere un capolavoro letterario ci basta che il testo che vi presentiamo sia chiaro fluido migliore di prima e infatti già all'adunanza plenaria della Commissione si era deciso che la Costituzione dovrà essere il più possibile chiara e tale che tutto il popolo la possa comprendere ricordiamo questo si è come dire concretizzato in veri e propri interventi linguistici quando il letterato Pancrazzi aveva suggerito di togliere compito e di sostituirlo con ufficio proprio perché compito gli suonava troppo popolare troppo quotidiano e invece questa proposta non venne accettata proprio perché contrastava con questa ricerca di chiarezza semplicità e concisione e compito rimase o ancora se guardiamo le revisioni dell'articolo 1 ad esempio che nel progetto come sapete era l'Italia una repubblica democratica la repubblica italiana per fondamento il lavoro e la partecipazione effettiva di tutti i lavoratori all'organizzazione politica economica e sociale del paese la sovranità emana dal popolo ed esercitata nelle forme nei limiti della costituzione e delle leggi nella revisione nel progetto poi definitivo è chiaro il processo di il percorso di semplificazione e di concisione anche da emana dal si appartiene e poi finalmente appartiene dal passivo si passa all'attivo Gustavo Ghidini non a caso aveva detto gli uomini di legge hanno tra le mani una bilancia per pesare le parole una bilancia la quale ha una sensibilità maggiore di quella dell'orafo questo è discusso bene in un saggio di Deon e nelle discussioni in aula la costituzione la sua lingua è definita come bronzea lapidaria breve disadorna solenne incisiva semplice cristallina seria l'elegante semplicità e chiarezza della lingua della costituzione italiana ha infatti ispirato numerose analisi linguistiche Tullio De Mauro ricorda come il 90% del lessico sia costituito da quello che lui chiama vocabolario di base vocabolario di base è in italiano come in ogni altra lingua il cuore dell'immensa massa lessicale il nucleo di maggior frequenza e familiarità e quindi di massima trasparenza per la comunità dei parlanti nel lessico della costituzione soltanto 355 lemmi su 1357 sono estranei al vocabolario di base le frasi sono brevi con una media di 20 parole e una paratassi prevalente rari casi di subordinazione complessa tenendo presente naturalmente che l'alfabetizzazione italiana era intorno al 38% nel 1931 è stato calcolato che negli anni in cui fu emanata la costituzione poteva raggiungere circa il 40% della popolazione con un minimo di istruzione di base e che oggi Tullio De Mauro ha calcolato la leggibilità in base a precise mesurazioni del testo costituzionale e il grado diciamo di secondo l'indice Gulpis è di grado di indice di leggibilità pari a 50 cioè capace di raggiungere sia pure con una lettura assistita tutta la popolazione con almeno la licenza elementare cioè ai nostri anni il 90% della popolazione non vi è testo legislativo italiano che possa vantare una caratteristica di così larga accessibilità in realtà la riflessione sul lessico della costituzione e l'ottimismo democratico di Tullio De Mauro cui io pure sono molto attaccata è in realtà stato problematizzato dagli studi più recenti sul lessico della costituzione è vero che i tecnicismi giuridici sono pochi e come dire addomesticabili perché anche messi in un tessuto di lingua comune giurisdizione promulgare indire indulto però osserva un mio collega Erasmo Leso a questi tecnicismi occorre aggiungere tutto l'ambito di quelle che in linguistica si chiamano collocazioni o polirematiche quindi combinazioni di parole che generano una serie di tecnicismi ulteriori diritti civili diritti politici diritti dell'uomo capacità giuridica personalità giuridica oppure incapacità civile vincolo di mandato quindi aumentano in questo caso i tecnicismi e con ciò ovviamente le entrate lessicali di più difficile codificazione decodificazione molto critico e quasi mi dispiace parlarne ma in fondo ha anche ragione è Giovanni Rovere in un articolo che uscirà nel 22 in un volume curato da Angela Ferrari e Filippo Pecorari che confronta la lingua della Costituzione italiana con la lingua della Costituzione svizzera l'articolo di Rovere intitolato dalla comprensibilità della Costituzione alla sua comprensione dice che un motivo per cui effettivamente vi è un alto numero di sintagmi del lessico di base nella Costituzione è dato dal fatto che questa enuncia principi generali e quindi questi termini hanno un grado di vaghezza di genericità non sono specificati e quindi come dire è falsato il grado di facilità di comprensione del testo costituzionale perché questi tecnicismi costituiscono un terreno minato per i non specialisti ecco le innovazioni semantiche ad esempio di queste aveva parlato Paolo Caretti cioè libertà non è come la capirebbe l'uomo della strada eguaglianza legge domicilio Ainis aveva ecco di cui aveva parlato Ainis e Rover elenca ad esempio godimento di cui ha parlato prima anche la collega che non ha lo stesso significato ovviamente della lingua comune ha il significato giuridico astratto nella Costituzione efficacia ma anche termini che sembrano a prima vista cessare per esempio nell'uso il presidente del consiglio dei ministri e ministri anche se cessati dalla carica vedete che non è un uso così comune come potrebbe apparire altri esempi che cita Rovere l'ordinamento delle forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica informarsi a prima vista potrebbe essere un lessema semplice e invece in questo uso in questa accezione è non comune definito come non comune nel dizionario ad esempio di Sabatini Coletti pensiamo al rapporto conformarsi a informarsi a non si fa luogo a referendum nel senso di non si promuove anche questa non è registrata nei grandi dizionari generali il voto contrario di uno o di entrambe le camere non importa l'obbligo di dimissioni quindi l'accezione di importare come comportare è considerata addirittura obsoleta il presidente della Repubblica può nominare senatore a vita cinque cittadini che hanno illustrato la patria ecco se illustrare nel senso di scrivere mettere delle illustrazioni è chiaramente di uso comune invece dare lustro nel senso di dare lustro è qualificato come di basso uso naturalmente o anche la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità ecco svolgersi in questa accezione cioè di svilupparsi con un soggetto astratto è di uso letterario quindi da un lato abbiamo entità di uso comune per la loro vaghezza quindi si confanno al testo costituzionale dall'altro ecco quello che dice Rovere quello che si rischia è che nel non giurista si crei una forma di comprensione vaga limitata diversa comunque rispetto alla comprensione da parte degli specialisti perché la comprensione in effetti è considerata di recente un processo probabilistico ecco non quella certezza cui però io personalmente sono molto attaccata quell'ottimismo democratico di Tullio De Mauro permettetemi di dire che coordino un progetto nazionale sulla chiarezza degli atti del processo e quindi credo molto in questa come dire passione civile di chi studia la lingua anche del diritto ma non è solo una questione di lunghezza di periodi di scelta di parole la comprensibilità della Costituzione dipende anche dalla costruzione retorica del testo dalla distribuzione degli argomenti dall'uso sapiente della punteggiatura il susseguirsi degli argomenti nei primi articoli della Costituzione è dimostrazione del modo logico e coeso in cui è stato costruito il testo l'articolo primo ha per tema l'Italia e stabilisce che è una repubblica l'articolo secondo ha come tema la repubblica e dice quali diritti riconosce all'uomo l'articolo 3 ha per tema l'uomo cittadino e pone il principio di uguaglianza questa è quella che noi linguisti chiamiamo la progressione tematica lineare appunto una forma di progetto compositivo che rende unitario e quindi più accessibile il discorso del costituente anche per questo per questa coesione diciamo del testo gli eventuali amendamenti vengono sentiti come corpi estranei che vi sia di più di lessico e di sintassi nella cifra stilistica unica del testo costituzionale mi colpì in occasione di un episodio un po' particolare mi capitò nel 2014 in occasione del duecentesimo anniversario della costituzione norvegese di essere contattata da un gruppo di studiosi dell'università di oslo per chiedere un confronto fra le caratteristiche norvegese e la nostra un po' perplessa all'inizio mi misi all'opera ebbene da un confronto di due testi così lontani per storia e per lingua la costituzione norvegese scritta in una lingua antica molto vicina al danese nel 1814 non sono una costituzionalista non mi avventuro certo in questioni di sostanza emersero tuttavia alcune regolarità molto interessanti da un punto di vista testuale che vi propongo possono riflettere caratteristiche di sostanza dato che definiscono le fondamenta giuridiche di uno stato i testi costituzionali sono destinati a durare nel tempo e questa qualità si riferisce in una serie di tratti di caratteristiche testuali che riguardano appunto ad esempio l'apertura di articoli con la frase reggente non troverete mai nella costituzione una subordinata a inizio anzi spesso vi è un quantificatore universale l'apertura dell'articolo è tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente frase reggente nessuno può essere distolto dal giudice naturale prepostituito per legge il presidente della repubblica è eletto per sette anni se vi è una subordinata questa è nel corpo dell'articolo ad esempio 30 giorni prima che scada il termine il presidente eccetera eccetera se le camere sono sciolte quindi anche nella costituzione danese non appena il re ha raggiunto l'età prescritta dalla legge quindi le subordinate sono all'interno dell'articolo l'articolo si apre sempre con una reggente e questa configurazione testuale quindi reggente che contiene una disposizione generale facoltativamente seguita da inquadramenti avverbiali nel corpo del testo rappresenta un tratto tipologico testuale specifico delle costituzioni non si ritrova ad esempio nei codici i codici aprono spesso con un avverbiale nei casi previsti dagli articoli eccetera eccetera quindi con i riferimenti intratestuali si tratta di una scelta di organizzazione testuale che ha studiato bene il mio collega Luca Cignetti che permette di conservare l'universalità dei valori costituzionali sfruttando la struttura commatica ottenendo così una girarchia particolarizzante dove il principio è posto in rilievo e la norma sullo sfondo questo è indubbiamente un tratto forte che distingue le costituzioni da altri testi normativi ma vi è un ulteriore aspetto mi avvio alla conclusione due cartelle siamo nei tempi grazie vi è un ulteriore aspetto a mio vedere di grande fascino nel rapporto tra lingua e costituzioni il linguaggio del diritto tra i grandi linguaggi specialistici è l'unico che ha il potere di cambiare la realtà gli enunciati del linguaggio giuridico possono infatti avere valore performativo producono cioè degli effetti con la mera enunciazione di alcune parole effetti extralinguistici effetti sulla realtà nel momento in cui la costituzione del 47 dice l'Italia è una repubblica democratica questo enunciato non ha valore descrittivo ma costituisce di fatto la repubblica ascrive all'Italia la forma di stato repubblicano questa iscrizione naturalmente ha forza performativa se compiuta nelle circostanze adatte da chi aveva l'autorità istituzionalmente riconosciuta per compierla Gaetano Carcaterra chiama questi enunciati costitutivi Amedeo Conte li chiama tetici dal greco titemi pongo enunciazioni che producono lo stato di cose su cui vertono nell'esempio visto l'Italia è una repubblica l'enunciazione del legislatore non descrive la realtà né prescrive un comportamento futuro ma crea o meglio costituisce uno stato di cose precedentemente inesistente il carattere performativo della lingua del diritto ha da sempre affascinato giuristi e filosofi del diritto in Gesetz un sitem Gesetz nel 1935 Spiegel Heidelberg nota infatti questo tipo di norme che non hanno come oggetto un comportamento commissivo o omissivo né riguardano un obbligo giuridico o l'attribuzione di diritti relativi al futuro attraverso attraverso queste norme si realizza uno stato di cose che non consente né necessita di ulteriore realizzazione con le sue parole è particolarmente evidente nel testo costituzionale per la sua natura fondativa concludo non è certo un'architettura da Michelangelo da Bramante diceva ancora Meuccio Ruini è una cosa modesta ma io voglio rivolgere un invito cordiale ai valorosi colleghi della nostra assemblea mi dicano una costituzione straniera che abbia una struttura più logica più quadrata più semplice di questa che è nel testo che vi abbiamo presentato proprio questa cifra stilistica speciale della costituzione tale che la distingue da altri testi appartenenti al genere normativo in questa sua ricerca di chiarezza e sinteticità ma anche di eleganza e dopo l'intervento della collega Cabiddu di bellezza mi basta citare l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento con il chiasmo ma anche ripudia ripudia la guerra come scelta veramente anche di bellezza in un recente saggio che ha avuto la gentilezza di mandarmi il professor Roselli avanza l'ipotesi che le costituzioni contemporanee rappresentino non solo una particolare tipologia di costituzioni ma anche una sorta di nuovo genere letterario spero di essere riuscito a mostrarvi che le costituzioni costituiscono in effetti un genere testuale a sé capace di valicare i confini e i secoli mi perdonerete se vi ho trattenuto su questioni di grammatica e di testualità e di lingua non sarà stato inutile spero se come scrive Adolf Merkel nel duplice volto del diritto la lingua non è affatto una vietata porticina di servizio attraverso la quale il diritto si introduce di soppiatto e se piuttosto il grande portale attraverso il quale tutto il diritto entra nella coscienza degli uomini vi ringrazio non potevamo chiudere in modo più elegante no? è vero con questa bellissima relazione eleganza e bellezza quindi più di così il convegno non si poteva concludere proiettati sul prossimo convegno grazie veramente tantissimo sarebbero tante le cose da dire sulla leggibilità dei testi costituzionali principe democratico ma non ne abbiamo il tempo se non di dire grazie alle nostre due bravissime colleghe grazie il nostro convegno si avvia alla conclusione è stato credo di alto livello scientifico e di sicuro interesse culturale e pertanto mi dichiaro moderatamente soddisfatto dell'andamento dico sempre moderatamente perché non amo le espressioni enfatiche penso che tante belle relazioni approfondite in vari campi delle scienze giuridiche extra giuridiche non potrebbero essere concluse meglio che dalla relazione di un maestro del diritto costituzionale attuale giudice della corte il professor franco modugno a cui vi do molto volentieri la parola prego ti ringrazio naturalmente ti ringrazio particolarmente per avere pensato a me per concludere il convegno annuale però ci tengo anche a complimentarmi con gli organizzatori di questa manifestazione è cominciato dal nuovo presidente dell'associazione cioè dal professore Stajano al quale faccio gli auguri come a tutti gli altri membri del direttivo entrante e per restare dato per ora faccio solo complimenti ma restare il tema di complimenti mi vorrei felicitare col dottor Leonardo Pace che è uno dei miei diciamo che ho seguito degli suoi studi per il conseguimento del premio Panunzio per la migliore opera prima del 2020 la monografia intitolata l'adeguatezza della legge e gli automatismi il giudice delle leggi tra norma astratta e caso concreto è veramente un libro che ha meritato il conseguimento del premio Panunzio secondo me è il libro più bello e più importante che c'è stato sul tema degli automatismi normativi e vengo a me mi preme precisare come fece a professor Silvestri al momento dell'accettazione del graditissimo invito che la mia non sarà non potrebbe mai essere una relazione di sintesi tenuto conto della complessità e della varietà dei temi delle questioni trattate delle relazioni di cui alcune alcune le ho sentite altre no quindi il mio sarà allora propriamente letteralmente un intervento conclusivo senza nessuna pretesa di sintetizzare o anche solo di riproporne i contenuti qualche contenuto per la verità vedrete che invece forse lo ripropongo ho pensato insomma allora che ho fatto di svolgere taluna considerazioni di carattere generale sul tema del rapporto tra interpretazione e linguaggio l'altro ho apprezzato moltissimo la relazione della professoressa Visconditi il tema del linguaggio della comunicazione intersoggettiva dell'uso degli argomenti interpretativi rappresentano sappiamo tutti questioni trasversali fondamentali e decisive tanto nelle singole scienze umane e sociali quanto nelle relazioni tra le stesse basti pensare alle difficoltà di comunicazione e ai possibili fraintendimenti posti dal ricorso al linguaggio tecnico e specialistico proprio delle singole scienze sociali per avere una rappresentazione delle difficoltà ciò conferma certo il ruolo problematico del linguaggio ma anche la insostituibilità di un'attività interpretativa volta secondo le teorie delle varie delle teorie dell'interpretazione ora alla scoperta dichiarativa ora all'assegnazione costitutiva di senso agli enunciati linguistici per restare su un tema a me congeniale sul tema dell'interpretazione costituzionale poi che vorrei fare qualche considerazione interpretazione costituzionale è chiaro è interpretazione giuridica è un tipo di interpretazione vedremo per che tipo secondo me di interpretazione giuridica ma cominciamo dall'interpretazione giuridica lo specifico dell'interpretazione giuridica risiede nel tipo di linguaggio che essa è chiamata interpretare Emilio Betti avvertiva che l'interpretazione giuridica si distingue da tutte le altre interpretazioni perché il diritto è una scienza pratica io direi che il diritto è una scienza deontica accedendo al senso più ampio del termine deontico per come lo usa Vedeo Conte ossia come strutturazione di un dovere essere sistematico e non come mera imperatività soggettiva esistono notoriamente tre livelli di linguaggio sintattico semantico pragmatico per ciascuno di essi il dover essere la sua interpretazione si pongono in maniera diversa il piano sintattico è quello delle apparenze linguistiche dei lemmi spia che possono indicare o non la natura deontica di un enunciato la presenza verbale di uno dei quattro modi deontici è indizio ma non prova della tipologia deontica dell'enunciato nessuno di noi qualificherebbe come deontica l'affermazione deve piovere il piano sintattico questo è il primo momento dell'interpretazione va dunque trasceso per accedere al piano semantico quello in cui individuare effettivamente il luogo dove l'essere eppure la interpretazione giuridica non si ferma qui come scienza pratica essa si interessa anche e soprattutto del piano pragmatico quello che effettivamente distingue gli enunciati deontici genericamente intesi e quindi comprensivi di quelli costitutivi di cui ha parlato prima la professoressa da quelli meramente quindi effettivamente distingue gli enunciati deontici da quelli meramente descrittivi se un amico mi intima degli assolutamente venire a pranzo con me l'enunciazione a funzione ben diversa dal dire un amico mi ha detto che devo andare a pranzo con lui le due frasi sono accumulate sì sul piano sintattico la presenza di un lemma spieva deontico e su quello semantico l'autenticazione l'autentica indicazione di un dover essere ma sul piano pragmatico solo la prima ha natura autenticamente deontica perché solo la prima pone realmente un dover essere solo la prima come direbbe Amedeo Conte svolge era ricordato prima la professoressa svolge una funzione etica nel mondo del diritto è la differenza che il segnale tra norme e discorsi su norme il vallo che sul piano soggettivo separa la dottrina da un lato e il legislatore e i giudici dall'altro io non casualmente accomuno i giudici e il legislatore in questo discorso perché penso che siano note le mie posizioni giusrealiste di cui il professor Massimo ha contestato molto dal collega Vico Massimo Luciani allora oggetto e strumento delle scienze umane cominciamo da qui dunque la parola e la vita della parola è l'interpretazione diceva Heidegger di Sprach e Sprach Nist der Mensch la lingua parla non l'uomo e dice specificava poi l'uomo parla nella misura in cui corrisponde alla lingua la scienza giuridica ha oggetto enunciazioni deontiche il suo scopo è proporre interpretazioni per suscitare la funzione etica cioè abbiamo visto nel senso di Conte creativa di altre parole che saranno pronunciate da giudici e legislatori la destinazione o funzione normativa allora dell'interpretazione giuridica e di quella teologica postula anche nell'interprete un atteggiamento metateoretico più intensamente valutativo verso l'oggetto da interpretare l'interesse del giurista come quello del teologo non può prescindere da un'esperienza personale e da una presa di posizione valutativa dato che qui in una con la conoscenza è in gioco anche la direttiva dell'azione queste ultime sono parole di Emilio Vetti di qui l'importanza dei problemi pragmatici nell'interpretazione del diritto la quale rende evidente non solo la rilevanza del contesto normativo e sistemico ma anche della situazione ossia dell'insieme di tutti i fatti e le circostanze in grado di fornire indicazione sulle intenzioni degli autori degli atti produttivi dei testi e degli enunciati ma anche delle circostanze dei rapporti dei soggetti sui quali le prescrizioni e le norme sono destinate ad operare sono allora proprio le considerazioni pragmatiche sono proprio le considerazioni pragmatiche a muovere prima della produzione dell'enunciato l'autore dell'atto il legislatore prima e successivamente l'interprete nel momento della individuazione della prescrizione della norma da applicare al caso concreto ecco perché richiamando il pensiero di Alf Ross l'interpretazione non ha un punto di partenza linguistico indipendente ma che fin dall'inizio essa è determinata da considerazioni pragmatiche si situa proprio in questo crocevia quindi l'intima correlazione tra diritto linguaggio e società è ben vero che larghissima parte dell'elaborazione del pensiero di oggi socio giuridico contemporaneo soprattutto l'Uman hanno messo in evidenza il carattere autoreferenziale e autopoietico del sistema giuridico quindi ridimensionando il ruolo svolto dal contesto sociale opererebbero insomma i sistemi giuridici secondo criteri autonomi elaborando il materiale proveniente dal mondo esterno in base a proprie logiche tuttavia pur restare l'aperta la disputa sulle relazioni tra diritto e società e su quanta autonomia sul quantum di autonomia che spetta al diritto nei confronti della società resta evidente che come testimoniano proprio i problemi pratici dell'interpretazione il diritto e soprattutto il male è una scienza pratica è per antonomasia come scrivevo ad altri tempi una scienza pratica che si alimenta dal confronto e dallo scontro dialettico con i contesti sociali nei quali il fatto attenzione il fatto contemplato dagli annunciati prescrittivi finisce per trasformarsi in caso che è una cosa diversa penso a Marata a Zagrebelschi anche una volta connesso con l'elemento valutativo nell'esperienza giuridica propriamente detta a ben vedere l'ampio spazio riconosciuto alla jurisprudenza comune e costituzionale anche nella elaborazione delle dottrine giuridiche conferma che essa rappresenta un sapere pratico e sociale che consente al diritto proprio tramite l'attività interpretativa di calarsi nel corpo sociale di cogliere anche il buttamento delle sensibilità sociali non a caso l'interpretazione giuridica è stato il proprio di cui gli si è fatta peculiare attività interpretativa non può prescindere dall'applicazione ovvero dal confronto con i casi pratici l'interpretazione della disposizione questo è ovvio è dunque necessaria per ottenere la norma dopo l'applicare al caso questo è ovvio ma è meno ovvio ma secondo me altrettanto vero è che l'interpretazione è condizionata poi dall'applicazione l'applicazione è condicio sì le qualunze l'interpretazione e sta tutta qui per tornare ancora alla dimensione pragmatica del diritto la rilevanza ed incidenza delle situazioni concrete che interrattano il diritto spesso adattandolo alla realtà sociale la creazione del diritto da parte della giurisprudenza non può essere assolutamente legata appeso che la teoria secondo me rigidamente cognitiva dell'interpretazione non tiene non legge del resto come ammoniva di qui in relazione all'insediamento universitario del diritto se il ruolo del giurista fosse limitato dal commento delle leggi non farebbe un minuto di sforzo il compito delle facoltà di diritto va più lontano e se sono debbono essere facoltà di scienze sociali ma vediamo alla fine come ripromesso al tema principale che metterà l'interpretazione costituzionale quale species del genus interpretazione normativa sono parecchi tutte oltante spessore teorico le questioni che si agitano intorno all'interpretazione costituzionale li inviano al rapporto tra teorie della costituzione e teorie dell'interpretazione alla teoria dell'argomentazione giuridica e alle differenze tipologie di interpretazione in via generale si potrebbe ritenere che essendo l'interpretazione giuridica operazione di attribuzioni di significati a enunciati a disposizione è stata il diritto in quanto fatto di enunciati non rilevando insomma la peculiarità dell'oggetto dell'interpretazione difatti non sono mancati in dottere tentativi di escludere l'esistenza di profili di specialità nell'interpretazione del testo costituzionale cioè l'interpretazione costituzionale non sarebbe poi sostanzialmente diversa dall'interpretazione giuridica intendo invece qui ribadire quanto ho potuto argomentare più diffusamente in parecchi dei miei scritti cioè che l'interpretazione costituzionale polemica anche con Guastini presenta diversi elementi di specificità rispetto all'interpretazione dei comuni test e normativi sia da un punto di vista intrinseco sia da un punto di vista estrinseco intendo il punto di vista intrinseco l'interrogativo circa la specificità dell'interpretazione costituzionale è subordinato a quello relativo alla peculiarità del suo oggetto dove si ritenga che le disposizioni costituzionali singolarmente o nel loro insieme presentino caratteristiche peculiari rispetto alle altre disposizioni normative poi in questo punto cercherò di spiegarlo occorre verificare però se poi se tali peculiarità si traducano nelle esigenze di uno statuto autonomo della loro interpretazione nel secondo senso estrinseco occorre valutare se i soggetti dell'interpretazione del testo costituzionale siano i medesimi deputati a interpretare gli altri testi normativi ma soprattutto se postiedano i medesimi poteri nell'uno o nell'altro caso primo senso l'affermazione che il testo costituzionale non è un documento normativo come qualsiasi altro è affermazione largamente condivisa e quasi autoevidente quanto a meno sul piano assiologico e della capacità condizionante le fonti dell'ordinamento nessuno ne metterebbe in dubbio che sia sul piano dei valori sia sul piano della condizione del sistema del cosiddetto sistema ma del cosiddetto sistema delle fonti ha una capacità condizionante quello che in questa sede occorre indagare è invece un profilo diverso per quanto con il suo primo la specificità del documento costituzionale che riguarda il suo essere un testo proprio diversi diverso dagli altri testi normativi proprio sul piano linguistico dal punto di vista strutturale le costituzioni si compongono infatti per la gran parte di enunciati contenenti formulazioni di principio piuttosto che di regole deontiche non mancano queste ultime per esempio l'articolo 13 terzo comma della costituzione invece esprime una vera e propria regola deontica si tratta per lo più invece di clausole aperte disposizioni caratterizzate da una vaghezza tale che come sappiamo dalla Cassazione fu messa in dubbio la loro immediata prescrittività ciò almeno sino al noto insegnamento del mio maestro Lorenzo Giuciapulli prontamente ricevuto dalla costituzionale nella prima sentenza sulla scorta della quale è stata affermata la piena prescrittività di tutte le disposizioni costituzionali anche quelle programmate quelle di principio più esattamente il primo problema è quello che riguarda l'individuazione dei criteri e delle regole interpretative e benediche utili a estrarre da questo tipo di enunciabile norme sul terreno di interpretazione costituzionale quindi non pare utilizzabile l'articolo 12 delle preleggi e non tanto o non solo come giustamente rilevava Tarello per non lasciare gli interpreti della costituzione non lasciare gli interpreti della costituzione alla melce degli organi della legislazione ordinaria ma anche per un altro motivo soprattutto per ragione della trama delle disposizioni costituzionali e della materia che disciplinano quanto alla trama le costituzioni svolgono un compito o meglio un insieme strettamente interconnesso di compiti specifici all'interno dell'ordinamento statale quello di fissare i principi basilari volti a modellare i rapporti politico-sociali quello di porre le norme fondamentali che valgono a caratterizzare l'identità e la fisionomia di ciascuno Stato i confini e le attribuzioni dei suoi poteri quello di individuare un nucleo dei diritti dei doveri e delle libertà garantiti dall'ordinamento questo complesso di compiti richiede alla costituzione di individuare elementi non immanenti e contingenti ma capaci di durare del tempo anche questo convegno è stata fatta questa osservazione alla prova dell'evoluzione storica e sociale politica e economica si tratta cioè è stato detto molto bene di un'educazione a durare che assume una sicura specificità nella carta costituzionale perché mentre ogni altra fonte normativa si rivolge a fatti specie future generali astratte solo la costituzione lega la persistenza della propria vigenza all'esistenza dell'ordinamento giuridico cui appartiene questo è un dato di sistematicità che va rilevato la varietà dei compiti assegnati al testo costituzionale determina l'impossibilità per la gran parte delle sue disposizioni è questo che determina l'impossibilità di essere dettagliate perché eccola perché la peculiare trama aperta porosa delle stesse che le rende inclini da un lato all'evoluzione in relazione al corso del tempo con una certa flessibilità dall'altro ad aprirsi la necessità all'integrazione da parte dell'attuazione legislativa applicativa e delle prassi sono questi due caratteri tendenza all'evoluzione e all'integrazione i due connotati principi delle disposizioni costituzionali vediamo tendenza all'evoluzione la tensione fra interpretazione testuale originaria e interpretazione evolutiva è una tensione caratterizzata da profili di peculiarità quando l'oggetto dell'attività interpretativa è il testo costituzionale l'interprete sarà sempre chiamata a guardare alla costituzione contestualmente come luogo di fissazione dei valori fondamentali e rinunciabili ma contemporaneamente anche ad assicurarne la persistenza e la modulazione secondo le mutevoli esigenze ordinamentali e sociali sul versante dell'integrazione la costituzione da sola non basta in quanto manifestazione istantanea puntuale irripetibile o straordinariamente ripetibile per realizzarsi deve proseguire deve svolgersi attuarsi in una funzione ordinaria e primaria che ne assicuri al tempo stesso il mantenimento e lo sviluppo non a caso si parla la legislazione ordinaria la si chiama primaria in questo preciso senso oltre che nel senso storico per cui quando la costituzione non era rigida no la legge era parificata la costituzione la necessità delle disposizioni costituzionali di principio di essere integrate da altre fonti dell'ordinamento anzitutto dalla legge comporta che l'interpretazione costituzionale allora consista sempre come io ho cercato di spiegare in diversi e anche più di uno scritto in una duplex interpretazione poiché la ricerca del significato della disposizione costituzionale non potrà prescindere dalla lettura congiunta sistematica all'interno della costituzione e con le ulteriori disposizioni e prassi che sono che ad essa danno attuazione e forma quell'attuazione necessaria la interpretazione costituzionale dunque è qualitativamente eccoci vediamo ai punti distinguibile dall'interpretazione giuridico generale per il semplice ma indiscutibile motivo che essa non può non tener conto oltre che degli enunciati della costituzione formale scritta la sostituzione formale anche dei fatti normativi costituzionalmente rilevanti che pure a loro volta sono poi paradossalmente ma non tanto che sono a loro volta qualificati dagli enunciati costituzionali ma in aggiunta alla peculiare struttura degli enunciati costituzionali anche la materia sulla quale principalmente verte una costituzione la materia politica induce a ritenere che i canioni interpretativi comuni siano solo parzialmente utilizzabili e che debbano essere integrati da altri tipi di argomentazione in particolare le norme costituzionali che delineano la forma di governo e la forma di stato debbano necessariamente essere integrati da altri tipi di fonti tra le quali oltre alla legge si vede il riferimento alla materia costituzionale di cui parla l'articolo 72 ultimo comma della Costituzione figurano tra gli altri tipi di fonti figurano le consuetudini l'importanza quindi delle consuetudini e delle convenzioni costituzionali questo significa che il diritto costituzionale si distingue da ogni altro ramo del diritto nel preciso senso che il fatto qualificato dalla volontà il fatto qualificato no della volontà delle decisioni politiche proprio dei soggetti e degli organi costituzionali la volontà degli organi politici ossia dei poteri supremi reca in sé un momento giuridico ineliminabile ossia proprio un momento normativo che dirà dagli enunciati della Costituzione che l'interprete è una volontà in cui significa il normativo e l'interpretazione costituzionale è proprio volta li volta a scoprire ciò conferma tra l'altro che l'interpretazione costituzionale è un'interpretazione sistematica necessaria da ciò deriva l'insufficienza dei criteri interpretativi riguarda l'articolo 12 della prelegge e la necessità di utilizzare altri tipi di argomenti oggi si dice tanto che a parte quello che ho sempre sostenuto cioè tanto la trama delle disposizioni costituzionali questo appunto che ho messo in evidenza quanto la materia politica sulla quale è vero della Costituzione impongono la peculiare tecnica interpretativa della duplex di interpretazione sì ma detto questo dice ma in che cosa consiste questa tecnica non si tratta come oggi invece si dice molto di un controllo diretto sulla ragionevolezza delle scelte legislative ma di una tecnica interpretativa tipica delle disposizioni costituzionali dalle quali possono desumersi o possono proporsi principi sistematicamente coesistenti e convidetti con altri principi congiunta al controllo di costituzionalità delle disposizioni legislative dalle quali debbono desumersi i principi speratori per poterli raffrontare con i principi costituzionali quindi io direi che non risponde al vero ritenere che la specificità dell'interpretazione costituzionale si esaurisca nel ricorso ad alcune tecniche oggi si parla molto il bilanciamento dei principi il giudizio di ragionevolezza tipicamente però è vero utilizzate dalla corte costituzionale e che queste tecniche di bilanciamento di principi per esempio il giudizio di ragionevolezza siano precuse agli altri giudici e agli altri interpreti della costituzione non è vero e la corte di costituzione stessa deve resta richiedere un sempre maggior utilizzo di queste specifiche tecniche e raccomentative da parte degli altri soggetti dell'ordinamento quando si sollecita seppure con frequenza con meno frequenza nel recente passato l'esperimento da parte degli stessi giudici comuni del tentativo di interpretazione conforme della legge a costituzione possono fare pure i giudici comuni prima di operare il sollevamento della questione di costituzione prima vedete se potete usare se può andare bene un'interpretazione conforme alla costituzione analoghe considerazioni valgono anche per le altre tecniche il bilanciamento tra diritti e principi il giudizio di ragionevolezza tecniche ormai penetrate in tutti gli ambiti della giurisdizione non è solo la corte costituzionale lo stesso onere di motivazione circa la impossibilità di dare una interpretazione conforme a costituzione che incombe al giudice a cuo più di recente ricostruito da parte nostra della corte in termini di obbligo di dirigenza e non già di risultato sottolineato anche in relazione alla funzione di nomofilachia dimostra che è della Cassazione dimostra che la specificità dell'interpretazione costituzionale come interpretazione conforme non è riservata alla corte costituzionale ma è distribuita o diffusa tra i diversi livelli della giudizionale non è dunque sul piano soggettivo che possa riferirsi a una specificità estrinseca dell'interpretazione costituzionale ma solo sul piano dei diversi poteri attribuiti dall'ordinamento all'interpretazione costituzionale che la fanno tutti ma è l'ordinamento positivo distribuisce i poteri tra i diversi soggetti in modo diverso mentre l'interpretazione giudiziale infatti anche qualora riguardi la costituzione non avrebbe nulla di specifico ecco rispetto all'interpretazione degli altri agenti operatori del diritto lì sì a quel livello si identifica con l'interpretazione giudica l'interpretazione costituzionale è specifica se e proprio perché non riesco dalla corte ma attenzione perché non sempre è determinante è condizionante l'interpretazione ed è specifica poi non solo per la ragione che in quanto ultima la corte impone a tutti gli operatori e interpreti di tenerla in considerazione perché gli altri possono pure divergere dall'interpretazione data dalla corte ma ma perché l'ordinamento qualifica in talune occasioni questa interpretazione come decisoria e vincolante quando lo fa è quando la corte dichiara incostituzionale una legge in quanto sorretta dall'interpretazione del parametro sia del parametro costituzionale sia della lente interpretata e questa nella dichiarazione del costituzionale dall'interpretazione vincola tutti i soggetti dell'ordinamento non solo quanto all'effetto della combinazione delle due interpretazioni l'annullamento della legge o l'altro fatto da volta di legge ma anche quanto all'interpretazione costituzionale presupposta così non è però invece nelle interpretative di rigetto o ancor meno poi nelle ordinanze interpretative di inammissibilità che non vincolano gli altri giudici ma sono dotate di una peculiare autorevolezza dal punto di vista dell'interpretazione costituzionale molto si dovrebbe poi dire perché lì tra l'altro io sono in polemica anche con una parte notevole dell'autorità sull'interpretazione massimamente Massimo Luciani sull'interpretazione conforme a costituzione in particolare sui limiti rappresentati dal testo normativo e dal diritto vivente ma qui non ho il tempo se no veramente finirò mai su questo punto rinvio all'altra occasione in conclusione si può dire che l'interpretazione costituzionale è chiamata a risolvere problemi specifici per usare le parole di Giuseppe Ugo Resciglio che non emergono o non hanno neppure senso diceva Resciglio giustamente in altri testi normativi problemi specifici che dipendono dai diversi modi poeti concepire la costituzione guardando la costituzione in senso formale cioè la costituzione come testo scritto le specificità di quel testo determinate dallo specifico compito assegnato alla costituzione in un ordinamento giuridico pongono in essere problemi altrettanto specifici che non potrebbero porsi in relazione a nessun altro testo normativo in un stesso modo guardando la costituzione come documento nel suo rapporto con gli altri documenti normativi la speciale condizionalità delle norme e principi costituzionali rispetto alle leggi genera la necessità diffusa ma incomprimibile per forza di applicare l'argomento sistematico della conformità in termini assolutamente specifici perciò la risposta che cos'è una costituzione o meglio che significato si dà al termine costituzione quindi all'attributo costituzionale centrale nell'interpretazione costituzionale perché questa domanda e la risposta che si dà si ripercuote su tutti gli interpreti della costituzione così che il risultato dell'attività interpretativa costituzionale dipende dalla risposta che ciascun giudice ciascun giudista ha fatto proprio in sintesi si potrebbe dire come ho sostenuto e diffusamente argomentato in diversi miei scritti che la specificità dell'interpretazione costituzionale è diretta conseguenza della specificità dei problemi suscitati che il testo costituzionale suscita mi scuso per le ripetizioni e le lungaggini e ascoltato le parole del professor Franco Modugno sulle quali abbiamo materia di riflessione a lungo e che si inseriscono nel grande dibattito dell'interpretazione costituzionale i nostri lavori trovano una conclusione grazie a professor Modugno grazie a tutti voi come si dice la seduta è tolta grazie a tutti 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 grazie a tutti